Buongiorno a tutti, credo che prima di dare intanto buona giornata, prima dell'inizio del Consiglio, come di consueto, intanto devo scusare la presenza del Presidente del Consiglio che ha mandato una comunicazione che per improrogabili ragioni di lavoro è fuori bra e non può prescidere. Direi che c'è l'inno nazionale. Grazie. 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 All'appello, il Presidente Bagli mi sono assente come mi ha detto prima, Vicepresidente Monsibille. Presente Sindaco, Consiglieri, Terrero Cristoforo, Gazzurro Giuliano, Giglio Luca, Gramaglia Walter, Isu Marina, Messa Anna, Morsino Giuliano, Manuiero Sergio, Patria Carlo, Sanuno Ettore, Somalia Francesco, Massimo, Testa Francesco, Presente, Testa Raimondo, Tripodi Davide, Presente. Allora, gli assessori Amato Francesca, Presente, Ciravegna Lucilla, Conterno Viaggio, Presente, Matera Francesco, Presente, Messa Luciano. Non nemmeno quali escrutatori se accettano Lino Ferrero, Morsino e Giulian, Gazzulli Giulian, in modo tale che potete, perché credo che ci sarà un'elezione a scrutinio segreto. Di dare inizio al Consiglio Comunale intendo fare una comunicazione. Gentili consiglieri, Stasera qui, in sostituzione del Presidente del Consiglio Fabio Bailo, che come vi ho detto è stato trattenuto da un imprescindibile impegno legato al proprio lavoro, prima di esaminare i punti all'ordine del giorno faccio una breve comunicazione. Come maggioranza abbiamo fatto una riflessione sull'elezione alla Vicepresidenza della sottoscritta, avvenuta nella prima riunione del nuovo Consiglio Comunale. In passato, non sono sicurissima, ma quasi, le due cariche di Presidente e Vicepresidente sono sempre state attribuite, una alla maggioranza e l'altra alla minoranza, a meno del brevissimo periodo in cui vi fu l'alternanza, ma ne abbiamo già parlato. Le due cariche di Presidente e Vicepresidente, dicevo, sono sempre state attribuite alla maggioranza e alla minoranza. Per inciso, ad esempio, di pochi giorni fa, ad Alba è stato di un'elezione di questa natura per Presidenza e Vicepresidenza, avvenuta la prima votazione all'unanimità. La maggioranza propone di conseguenza di modificare l'attuale assetto nell'interesse della massima garanzia democratica per tutti. Mi permetto dunque di invitare la minoranza a proporre liberamente un proprio nome per la Vicepresidenza del Consiglio. Se questo nome perverrà al Presidente Bailo in tempo utile, la sottoscritta è pronta a consegnare immediatamente le proprie dimissioni, in modo che nella prossima seduta del Consiglio Comunale prevista per il 30 luglio si possa procedere alla nuova elezione, che potrà avvenire in accordo fra maggioranza e minoranza. Consegno questa proposta alla riflessione dei Consiglieri di minoranza. Non ritengo opportuno che vi siano in questo momento interventi in proposito. Grazie. Passerei all'ordine del giorno. Comunicazioni del Sindaco. Buon pomeriggio a tutti. Nei giorni scorsi abbiamo espresso la nostra partecipazione al lutto per Calogero Adamo, già amministratore comunale della nostra città. Abbiamo partecipato anche al lutto di Gianni Mariano, funzionario dei Vigili del Fuoco di Cugno, per la scomparsa del papà Giuseppe Mariano, cavaliere ufficiale e a lungo vigile del fuoco volontario. Così pure abbiamo partecipato anche al lutto per la scomparsa dell'imprenditore Carlo Michele Giammanetti, fondatore della ditta Bragasa e di Dorina della Torre, già titolare della discoteca Le Macabre. Abbiamo partecipato anche al lutto del dipendente Massimo Milano per la scomparsa del papà Mario ed espresso proprio ieri il nostro cordoglio per l'improvvisa scomparsa del sindaco di Morozzo, Mauro Fissore. Ho già avuto modo di ricordarlo durante il mio intervento l'altra volta, subito dopo il giuramento da sindaco. dall'ultimo consiglio comunale, ultimo ancora della vecchia legislatura, si è partecipato tutto il comune di Bra al cordoglio per la scomparsa di Pasquale Bonino, grande ufficiale al merito della Repubblica, presidente della fondazione Agav, della cooperativa Agav e della società Bra Futura. Nel mio intervento durante il consiglio comunale, ricordando proprio brevemente la figura di Pasquale Monino, l'avevo ricordato come persona che sapeva sovente, come si dice, buttare il cuore oltre l'ostacolo e soprattutto di affrontare tematiche delicate ma che riguardano in modo particolare il grande argomento dell'inclusività. Vorrei ancora oggi però ricordare due aspetti. Il primo è questo. Pochi mesi fa, all'Agav, abbiamo avuto l'onore di ricevere la ministra Locatelli. Mi ha colpito tantissimo che in quell'occasione Pasquale Bonino non era lui il primo a parlare, il primo a spiegare, eccetera, ma ha saputo veramente valorizzare tutti i suoi collaboratori nell'illustrare la storia dell'Agav, l'attualità dell'Agav, i locali, gli ospiti, le prospettive dell'Agav. Ecco, questa è una caratteristica particolare. Io, ammetto, non so se sarei stato capace. Mi ha colpito, mi ha dato un grande insegnamento in quell'occasione. Secondo è questo, il partecipare al ricordo di una persona che ha fatto tanto per la nostra città è certamente importante. Io credo però che sia il nostro dovere come persona e anche come amministrazione essere vicino. Essere vicino, certamente, alla famiglia di Pasquale Bonino, ma anche e in modo particolare all'altra sua famiglia, dove lui, per la quale ha dato tantissime energie, nella quale era presente tantissimo, che è l'Agav e i suoi progetti. Pertanto, l'impegno che abbiamo già comunicato a coloro che in questo momento stanno seguendo le varie realtà, la massima disponibilità e collaborazione e partecipazione perché i progetti ancora in sospeso, già delineati, ma di cui stavamo parlando. Pensate che solo pochi giorni prima ero lì all'Agav insieme alla collega Lucila Ciravegna e al dirigente della ripartizione servizio alla persona, proprio per parlare sul tema del dopo di noi e pertanto su temi che poi dopo abbiamo affrontato anche con il Ministro. Bene, questo deve vederci al massimo dell'impegno per portare a termine questi progetti. Grazie. Consigliere Tipodi. Forse ha chiesto prima o sopra. Consigliere Tipodi. Grazie. Buongiorno a tutti, buon lavoro a tutti. Mi unisco alle parole appunto dell'intervento del Sindaco e semplicemente una comunicazione che si collega alla comunicazione fatta dalla consigliera Sibille, in quanto ha espresso che sarà, diciamo, sua volontà, volontà della maggioranza, diciamo, lasciare la vicepresidenza alla minoranza. Le motivazioni non le ho comprese, non perché io non conosca l'italiano, ma per il motivo per cui in questi anni in Consiglio Comunale, nel momento in cui andavamo a fare dei confronti con altri enti locali, a altri enti, anche vicino a noi, ci veniva detto, noi dobbiamo guardare la nostra realtà. E mi domando, da quando Alba è diventata, diciamo, un nostro punto di riferimento? Quando abbiamo sempre cercato di ribadire quella che è la tutela del nostro ente, la nostra peculiarità braidese? E da quando un altro ente influenza il nostro su aspetti ed equilibri politici e consigliari? Io esprimo semplicemente che mi riserverò di confrontarmi con il mio capogruppo e tutti i rappresentanti della minoranza per esprimere certamente una risposta unitaria a tale fatto. Questa è una comunicazione che faccio a tutti i consiglieri e mi rivolgo prevalentemente alla maggioranza, che saranno i consiglieri che assumeranno delle decisioni. Ricordatevi che non tutte le decisioni sono come la votazione del Presidente o del Vicepresidente, dove con una comunicazione si può scegliere di fare a meno di quella, diciamo, di quel ruolo. Assumerete delle scelte che per una vostra votazione magari modificherete nel tempo e per tutto il tempo a venire, magari, la nostra città. Quindi quando si vota una Vicepresidenza, una Presidenza, qualsiasi votazione viene presa da questo Consiglio Comunale, occhio perché alcune cose non saranno certamente modificabili come questa. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Io brevemente, per unirmi alle parole del Sindaco, mi ricordo le persone che ci hanno lasciate in queste settimane, alle cui molto mi lega, soprattutto ai figli di alcuni di loro, come Carlo Gioradamo, che tra l'altro è stato anche un amministratore comunale, se non ricordo male, Gianni Mariano, un amico col quale abbiamo collaborato molto, l'amministrazione comunale ha molto collaborato negli anni, e Michele Germanetti e il papà di Massimo Milano mi legano all'amicizia dei figli e tra di loro c'è un legame che è la Cibra, che è quello Milano, il ragionario Milano era un appassionato tifosissimo della Cibra, sempre presente al campo, ha sempre seguito la squadra e l'ha sempre amata. Di Pasquale Bonino ha parlato molto bene il Sindaco, mi unisco le sue parole, e Dorino della Torre, che per molti della mia età è stata, come dire, non dico un punto di riferimento, ma ci ha fatto divertire nei pomeriggi, allora in discoteca si andava ai pomeriggi, solente, quindi ci ha fatto divertire nei pomeriggi delle domeniche, togliendo anche qualche ora lo studio. E chiudo, unendomi le parole del consigliere Tripodi, la maggioranza farà una riflessione sulla comunicazione che ha fatto la consigliere Sibille e prima del consiglio del Trenta daremo quello che riteniamo opportuno possa essere fatto da parte della minoranza. Grazie. Se è possibile svestirmi delle vesti del Presidente del Consiglio, io vorrei soltanto unirmi alle parole di ricordo delle diverse persone e non ripetermi, ma di una in particolare voglio esprimere un ricordo particolare che è quella del compianto Pasquale Bonino, col quale dal 1975, sono andata a rivedermi, la prima riunione che è stata fatta è nel 1975 quando ponendosi il problema di, per qualcuno è un'altra era, è un'altra, in quel periodo i disabili erano o ritirati al cotolengo o tenuti chiusi in casa e non portati all'aperto mai perché era una vergogna avere una situazione di questo genere. Non parliamo di questione di scuola, di inserimento, eccetera, non se ne parlava. C'erano due scelte, quelli con famiglie più malandate, che avevano magari più difficoltà, transitavano presso il cotolengo o altre istituzioni simili, ma il cotolengo in particolare è un ricordo molto vivo perché quando facevo parte dell'oratorio Don Ferrero ci portava, ci insegnò una volta al mese ad essere presenti alla domenica a fare servizio al cotolengo a Torino e questo tipo di esperienza in qualche modo per un adolescente o poco più che adolescente era un'esperienza che mi ha segnata e mi ha anche dato delle indicazioni molto chiare. Ma di Bonino ricordo le battaglie, gli scontri, perché era una persona dal carattere certamente non semplice, però la totale lungimiranza, il fatto che dove voleva arrivare si poneva un obiettivo e coinvolgeva le diverse persone, in quel caso io ero un esponente che si occupava per la minoranza all'interno del Consiglio Comunale, ma poi in realtà in quel caso la questione non era vissuta né come maggioranza né come minoranza, era vissuta come un problema da affrontare e da cominciare ad affrontare. e direi che forse da Bran è stato uno dei punti di partenza di una battaglia politica molto molto importante che ha portato al fatto che i disabili prima siano stati inseriti all'interno della struttura scolastica per certe ore, poi insomma tutta una serie di lavori fatti in questi anni e credo che abbia ben ragione il Sindaco quando dice che occorre continuare ad avere molto chiaro che questo è uno degli impegni che una comunità che si dica tale deve porsi come primo obiettivo quello di avere tutte le persone considerate alla stessa stregua e quindi messe nelle condizioni di poter essere inserite nelle diverse attività, ovviamente con l'aiuto, con gli interventi, con tutta una serie di iniziative che ovviamente ci potrebbe lontano discutere a me in questa sede. Grazie signor Bonino Buonasera a tutti intervengo solo brevemente per unirmi al ricordo di come hanno fatto già i miei colleghi del signor Bonino io non ho i ricordi che ha la consigliera Sibille perché quando mi ha detto 1975 io ero appena nata quindi non era possibile ma negli ultimi anni ho avuto occasione di visitare questa struttura poi culminata con la visita del Ministro Locatelli e proseguita perché ci siamo visti anche successivamente quello che mi ha colpito è l'aria che si respira dentro questa struttura questa struttura non è un ricovero per persone che hanno delle difficoltà è proprio una struttura di accoglienza e chi ha fatto questo è sicuramente l'ideatore a cui dobbiamo tutto ma anche i suoi collaboratori che sono convinta che continueranno e riusciranno a portare avanti il tutto nello stesso modo, con lo stesso entusiasmo e con lo stesso mood nel senso entri dentro questa struttura e ti accorgi che è veramente un'atmosfera piacevole di gioia, di accoglienza e di amore questo è molto importante verso persone che comunque hanno difficoltà e tra l'altro io quando sono andata mi sono ritrovata dei coetanei che venivano a scuola con me e che avevano delle difficoltà serie e veramente questa cosa mi ha colpito perché loro non hanno avuto lo stesso futuro che ho potuto avere io ma dentro questa struttura lo potranno avere anche con questa importante iniziativa che è il Dopo di Noi che speriamo continui e si porti a termine grazie Anna Mes Volevo nel ricordo di Pasquale Bonino, un carissimo amico perché io come la consigliera Sibille ho cominciato nell'Agava a farla volontaria nel lontano 1978 da allora sono una volontaria attiva, ancora adesso andando a prendere i ragazzi a casa con i pulmini proprio l'altra settimana c'è stata una serata in ricordo di Pasquale Bonino e abbiamo piantato una pianta nel suo ricordo il voto che ha lasciato nell'Agava è veramente incolmabile secondo me però ha lasciato tante persone che continueranno nel suo lavoro attorniati da noi tantissimi volontari che tutti i giorni ci spendiamo per questo quindi è stato veramente un grandissimo grandissimo uomo spero che Bra si ricordi Pasquale Bonino magari indirizzandogli qualcosa grazie se non ci sono niente interventi passiamo alle interrogazioni la prima interrogazione è a progetto e a firma Messa, Mossino, Panero, Patria, Somalia, Tripodi a partitolo modifiche di abilità Tour de France chi interviene? consigliere Somalia grazie allora come tutti sappiamo nei giorni scorsi la nostra zona è stata interessata dal passaggio del Tour de France che è una magnifica manifestazione sportiva ma anche un evento internazionale di grande rilievo turistico la nostra città è stata toccata marginalmente sono stati concessi degli spazi per la sosta dei camion che seguono la carovana la carovana del tour scusate per chi non ha avuto modo di vederla ma io ho avuto la fortuna di vederla qualche anno fa è uno spettacolo in uno spettacolo ed è veramente molto entusiasmante e appassionante dicevo è una manifestazione di grandissimo rilievo è organizzata da una società privata la Madre Sport Organization che si occupa tramite delle consociate, delle controllate, delle organizzazioni di tanti eventi tra cui il Tour de France e quindi con la nostra interrogazione chiediamo al sindaco le motivazioni che hanno convinto la giunta ad accogliere la richiesta degli organizzatori che come dicevo sono una società sicuramente non una onlus ma una società a scopo di lucro e quale sia stato l'importo pagato dagli organizzatori per l'occupazione del suo pubblico grazie risponde il vice sindaco Conterno buon pomeriggio a tutti anche da parte mia e buon lavoro l'ordinanza che ha stabilito il divieto di sosta nelle tre aree indicate nell'interrogazione per il posteggio dei veicoli della carovana del Tour de France dal pomeriggio di domenica 30 giugno al mattino di martedì 2 luglio anche se poi di fatto l'occupazione è durata meno di 48 ore è stata decisa per poter consentire anche alla città di Brà di vivere una sia pur piccola parte della più grande manifestazione sportiva che ha riguardato il nostro territorio in occasione della tappa Piacenza-Torino le motivazioni riguardano l'aspetto turistico con le innegabili ricadute a beneficio della valorizzazione e della promozione della nostra città l'aspetto economico per la presenza in città di atleti e personale al seguito che è stata occasione di lavoro per le nostre strutture ricettive e per le strutture di ristorazione l'aspetto sportivo perché è stata occasione per gli appassionati di poter avvicinare la corsa ciclistica più importante al mondo e a questo proposito si è riscontrata specialmente nella serata di domenica 30 giugno la presenza di numerose famiglie che si aggiravano tra le a volte anche curiose installazioni pubblicitarie della carovana negli spazi aperti al pubblico e si è trattato anche più in generale di una collaborazione delle due città principali del nostro territorio Bra e Alba che in questi grandi eventi devono sviluppare forme sempre più concrete di sinergia a vantaggio dell'intero territorio del Roero e delle Langhe e per tutte queste motivazioni che ho brevemente riassunto e in analogia con quanto avvenuto lo scorso anno in occasione della tappa Brarivoli del Giro d'Italia si è ritenuto opportuno esentare i richiedenti dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico come una sorta di forma di partecipazione della città ad un evento unico nel suo genere appunto la più importante corsa ciclistica del mondo Paniero Grazie e buonasera a tutti allora ho ascoltato con attenzione la risposta data a questa interrogazione su alcuni aspetti come sempre parliamo con cittadini diversi e con persone diverse perché io e come altri consiglieri di opposizione siamo stati sollecitati e chiamati perché ci chiedevano appunto ma cosa succede nella piazza che è completamente chiusa e quindi la maggior parte di loro la totalità di loro non sapeva assolutamente nulla allora in piazza sono arrivati dei grossi tir che dentro avevano degli scatoloni che andavano a rifornire in parte alcuni mezzi piccoli che sono quelli della Corovana tra l'altro quei mezzi della Corovana l'ho vista non sono neanche quelli che erano inseriti nel giro perché non sono passati a sommarire aperto ma a parte questo poco c'entra che gli atleti dormivano qua perché gli atleti avrebbero dormito qua uguale perché gli atleti non seguono cosa fa la Corovana il Tour de France ha tutto un suo regolamento particolare su dove dormono gli atleti su cosa fanno gli atleti quindi questi due aspetti non li riconosciamo come assimilabili anche noi siamo d'accordo che le grosse manifestazioni servono ma quando le grosse manifestazioni passano sul territorio qui l'ambivano la corsa non è passata sul territorio braidese c'è stato solo questo scalo tecnico sul nostro territorio tra l'altro l'associazione come ben spiegato Massimo nella presentazione è la ASO un'associazione che proprio ha nel suo regolamento tutto lo sfruttamento dei simboli e di quello che è tutto il merchandising del Tour de France della Grande Par di tutto quello che sono gli sponsor al seguito diciamo che non è proprio è una società per azioni quindi non è proprio diciamo una onlus ha richiamato e ce l'avevo anche in appunto il Giro d'Italia perfetto il Giro d'Italia ha occupato Piazza Carlo Alberto nella sera ma il comitato di tappa del Tour de France aveva assolutamente ottenuto in contropartita inequivocabile e richiesto che loro facessero quello che hanno fatto solo bra uno spettacolo dedicato della carovana del Giro d'Italia bra questo perché per dare quella ovvia e giusto contropartita pubblica a quello che è stato l'impegno di una piazza e quindi anche il disagio dei cittadini mi ricordo che eravamo lì in piazza a cercare di far togliere le macchine che erano ancora parcheggiate due minuti prima o cinque minuti prima che arrivassero i mezzi del Giro d'Italia bene mi ricordo bene quello spettacolo doveva essere fatto all'aperto in realtà era stato poi fatto al teatro perché c'era brutto tempo un teatro pieno e quindi assolutamente per quello che è stato fatto per il Giro d'Italia che partiva da Bra e quindi assolutamente la ricaduta sul territorio di quell'evento non stiamo di nuovo a richiamarlo è stato inequivocabile ma non solo benché partisse da Brab anche la ricaduta economica e turistica sul territorio è inequivocabile ed evidentissima comunque si è richiesto una contropartita evidente da questo punto di vista io la preoccupazione anche che sottolineiamo è che sicuramente saranno fatte le esamine del caso ma che non si possa evidenziare quello che può essere deputato come un danno erariale perché abbiamo preso del terreno pubblico l'abbiamo dato destinazione di una società privata per azioni quindi una società che ha nel suo statuto non credo fare beneficenza e fare una lusse gratuitamente ne prendiamo atto finiamo ribadendo che anche noi siamo perfettamente favorevoli a qualsiasi iniziativa sportiva che dia luce e lustro al nostro territorio e quindi anche possiamo esprimerci anche in maniera favorevole su iniziative di questo tipo che abbiano assolutamente in maniera inequivocabile un ritorno sul nostro territorio come è stato ben spiegato ed è questi sono i ritorni che devono esserci per le grandi manifestazioni sul nostro territorio ma devono essere inequivocabili e certi grazie siamo alla seconda interrogazione centro di accoglienza in fassone bandito noi consiglieri di minoranza abbiamo presentato queste interrogazioni sollecitati da informazioni in merito alla concessione in affitto dei locali dell'ex soggiorno dell'immacolata in via Visconti Venoso 72 in frazione bandito bra ad una società cooperativa per la gestione di un centro di accoglienza profughi o immigrati prendiamo atto che tal insediamento necessita di autorizzazioni da parte del comune stesso della prefettura e dell'aslo cn2 e quindi chiediamo all'amministrazione seppur trattandosi di un'iniziativa privata essere tempestivamente informati dello stato dell'iter autorizzativo della pratica di concessione dei locali a centro di accoglienza proprio ad oggetto di competenza del comune della prefettura e dell'aslo in più la convocazione di una commissione di servizi alla persona di una seduta per valutare l'eventuale provvedimento per servizi di integrazione e ordine pubblico a carico del comune in quanto tale insediamento andrà ad impattare notevolmente sulla frazione in quanto trattasi di zona residenziale ad alta intensità abitativa grazie risponde il assessore Chiaverina grazie presidente buongiorno a tutti e tutte buon lavoro a tutti noi i procedimenti amministrativi connessi all'attivazione di CAS ovvero centri di accoglienza straordinari per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale a differenza dei progetti che si chiamano sono inseriti nel progetto SAI ovvero sistema di accoglienza e integrazione i centri CAS sono di competenza esclusiva delle prefetture su disposizione del ministero dell'interno e sulla base di specifici capitolati di gara da quest'ultimo definiti e anche uniformi su tutto il territorio dello stato italiano tali procedimenti non prevedono il coinvolgimento dei comuni i capitolati di gara stabiliscono che il soggetto privato che gestisce questi centri debba erogare alcuni servizi essenziali quali ad esempio il servizio di mediazione linguistico culturale un servizio di assistenza sociale che valuta le singole situazioni personali in modo particolare l'assistenza ai minori l'inserimento scolastico degli stessi la distribuzione la conservazione e il controllo dei pasti un servizio di lavanderia che mette a disposizione anche dei singoli il lavaggio di piccoli la possibilità l'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti un servizio di trasporto per raggiungere gli uffici della polizia dell'autorità giudiziaria un servizio di assistenza sanitaria per le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale quindi servizi essenziali in specifico per quanto concerne la provincia di Cuneo con provvedimento di indizione della gara numero 34613 del 16 giugno 2023 la prefettura ha deliberato di affidare mediante accordo quadro con più operatori economici i servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da strutture collettive situati nei comuni della provincia di Cuneo di cui l'articolo 1,2 lettera B del nuovo capitolato di appalto dei servizi di accoglienza adottato dal ministero dell'interno del 29 gennaio 2021 per un fabbisogno presunto sulla provincia di Cuneo pari a 1.250 posti per il periodo dal 1 novembre 2023 per un biegno la prefettura di Cuneo ha si esperito specifica procedura di gara nel corso dell'anno 2023 e concluso la medesima nel mese di ottobre nell'ambito della procedura di gara i soggetti partecipanti sono stati invitati dalla prefettura a indicare ulteriori strutture da attivare in caso di aumento dei flussi di arrivo di persone richiedenti la protezione internazionale e dei trasferimenti disposti dallo stesso ministero dell'interno verso la provincia di Cuneo si sottolinea come già detto che questa procedura non prevede il coinvolgimento del comune dove ricadono le strutture individuate per l'ospitalità CAS però sentita informalmente la prefettura in data 5 luglio 2024 in merito alla concessione in affitto dei locali per un centro CAS dell'ex soggiorno dell'immacolata di bandito è stato confermato che tale struttura si è candidata come centro per l'accoglienza da attivarsi qualora da parte del ministero dell'interno venga effettuata una richiesta di assegnazioni straordinarie di richiedenti protezione internazionale gli uffici della prefettura però sempre nella stessa data hanno comunicato verbalmente che non sono attive assegnazioni straordinarie a quella data lì al fine di poter partecipare alla sua indicata procedura ai sensi di quanto previsto dal documento di gara i soggetti privati interessati hanno dovuto o dichiarare di essere nella disponibilità di immobili reagibili con idonea destinazione d'uso in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie conformi alle vigenti normative eccetera eccetera oppure nel caso fossero offerte strutture non in regola secondo quanto prima indicato allegare una o più asseverazioni di un tecnico o tecnici abilitati che specifichi le irregolarità e gli adeguamenti da effettuare e di tempi entro i quali la struttura messa a disposizione per il servizio di accoglienza potrà essere in regola con i requisiti di legge da parte della ripartizione urbanistica del comune sul possibile utilizzo dei locali dell'ex soggiorno dell'immacolata frazione bandito da parte di società o barra cooperativa per l'istituzione di un centro di accoglienza per profughi o emigrati per quanto concerne gli aspetti edilizi si rivela scusate si rileva quanto segue non è ancora stata definita la scia numero 4 del 2021 ad oggetto accertamento di conformità ex articolo 37 dpr 380 barra 2001 per opere realizzate in difformità alla dia numero 55 2016 che presenta tuttora alcune carenze documentali si precisa che una volta completata la documentazione edilizia sarà possibile procedere alla chiusura della pratica stessa successivamente i richiedenti dovranno presentare la segnalazione certificata di agibilità per poter utilizzare i locali in genere nello specifico in centro di accoglienza sugli aspetti urbanistici dal punto di vista urbanistico la zona in cui si trova l'ex soggiorno dell'immacolata risulta idonea all'istituzione di un centro di accoglienza infatti l'area è classificata come AIC barra C ovvero aree per attrezzature per la collettività e ospitalità tale destinazione d'uso permette la realizzazione e l'utilizzo di strutture dedicate all'accoglienza di persone come appunto un centro di accoglienza per profughi o emigrati non sono tra l'altro dovuti ulteriori standard in quanto non è prevista alcuna modifica della destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 23 ter del DPR 380 2001 in considerazione di quanto sopresposto si ritiene che l'utilizzo dei locali dell'ex giorno dell'immacolata in centro di accoglienza sia fattibile a patto che vengano completati i necessari adempimenti edilizi e le procedure legate all'accertamento di conformità di cui alla scia 4 2000 barra 2021 sarà cura della ripartizione urbanistica avere il monitoraggio costante dell'iter amministrativo in collegamento con la prefettura arriviamo verso la fine per quanto riguarda la richiesta di convocazione della commissione servizio alla persona si precisa che insediata la nuova commissione sarà facoltà del neopresidente convocare la commissione di inserire il tema in oggetto nell'ordine del giorno in conclusione in diversi incontri provinciali e tavoli di riflessione in tema di migrazione la nostra amministrazione ha espresso preoccupazione riguardo alla cronica mancanza di programmazione a livello nazionale tale mancanza obbliga le prefetture a farsi carico dei migranti attraverso i CAS centri di accoglienza straordinaria che ricadono sui territori comunali non prevedono il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e rischiano di trasformarsi in strutture alberghiere con una impostazione assistenziale e non di integrazione senza prendersi cura delle persone accolte la legge 50 2023 ovvero l'ex decreto cutro impedisce l'ingresso dei richiedenti asilo nel progetto SAI come avveniva in passato e l'accoglienza di questi ultimi diventa esclusiva gestione del ministero dell'interno il progetto SAI sistema di accoglienza e integrazione che è stato attivo dal 2002 ed è gestito da cooperative sociali del terzo settore in collaborazione con i comuni a nostro avviso è di gran lunga preferibile al percorso descritto dei CAS cioè dei centri di accoglienza straordinari il SAI è infatti organizzato in strutture di piccole dimensioni secondo un modello di accoglienza integrata e diffusa nel rispetto della dignità delle persone i percorsi SAI attivati in provincia di Cuneo hanno inserito efficacemente gli immigrati nel contesto territoriale e nel mercato del lavoro Chi interviene per la replica Paniero Grazie Assessore per la risposta perché è stata così lunga e dettagliata quindi la ringrazio perché nella prima parte con dei contenuti che conoscevamo ma è giusto fare un quadro completo richiamare quello che può essere un po' la storia allora questa interrogazione è nata perché come me altri consiglieri della frazione sono stati in questo periodo continuamente sollecitati sull'argomento e visto che come succede sempre in queste occasioni quando non si hanno delle fonti ufficiali non si hanno dei documenti ufficiali se ne sentiva veramente di tutti i colori quindi penso che sia stato giusto e opportuno in primo acchito per fare veramente un po' di chiarezza ecco la sua risposta in un certo senso è stata fatta su quello che stava si stava sentendo ma che in realtà le voci non erano poi collimanti in maniera perfetta con quello che stava accadendo prendiamo atto che e questo lo dico concedetemi un assoluto una battuta che se ne parlava già da un po' in frazione però l'amministrazione non ne sapeva ancora nulla quindi purtroppo a volte vediamo e più volte abbiamo rimarcato come ci sia un po' di non so di distanza tra quello che succede in alcune parti della città in alcune parti delle frazioni comunque in alcune parti dei nostri cittadini con quello che è questa amministrazione perché mentre noi venivamo continuamente sollecitati la risposta è stata non ne so niente poi c'è stata un'informazione un momento di informarsi ci sta è giusto e poi sono arrivate sono incominciate ad arrivare alcune risposte quindi prendiamo atto e penso di poter riassumere nel dire che non vi è in questo momento come invece si parlava un arrivo imminente perché da quello che è stato detto non ci sono proprio le condizioni perché questo avvenga c'è una scia del 2021 quindi si sta protrando perché la numero 4 del 2021 vuol dire che è stata protocollata nel 2021 quindi stiamo parlando di tre anni e questo iter si deve ancora si deve ancora concludere e vedremo come si concluderà alcune perplessità erano state espresse nel passato ma penso siano state in parte risolte sull'idoneità del fabbricato perché era stata chiusa una struttura all'interno perché il fabbricato non era stato dichiarato idoneo noi continueremo come giusto anche se è stato più volte specificato che non c'è il coinvolgimento comunale noi siamo amministratori comunali quello che succede sul nostro territorio ci deve interessare a 360 gradi qualsiasi sia la competenza giuridica e quindi ma tanto non potremo fare diverso e forse potrà comprendermi più di tutti il consigliere Mossino che continueremo comunque a essere sollecitati a monitorare su quello che accade e continuare a richiedere informazioni in merito proprio nello spirito di avere delle informazioni chiare e giuste e non dover essere in un certo senso da una parte all'altra continuare a essere sollecitati anche con informazioni del tutto errate grazie bene passiamo alla terza interrogazione elezioni 8-9 giugno 2024 richiesta chiarimenti buonasera come anticipato si tratta di una richiesta chiarimenti in relazione alle elezioni dell'8-9 giugno anche qui a nome dei consigli di minoranza anche qui sollecitati da numerosi concittadini in merito a quelli che sarebbero presunti fatti secondo i quali in data 9 giugno 2024 in prossimità dell'ingrezzo dei seggi elettorali numeri 6 e 7 all'interno del cortile della scuola elementare Rita Levi Montalcini le vecchie maschili pur essendo evitato dalla legge taluno avrebbe consegnato a potenziali elettori materiale di propaganda elettorale poco prima che questi si recassero alle urne per esercitare il diritto di voto in periodo di silenzio elettorale su queste premesse a nome dei consigli di miglioranza chiediamo che il sindaco proceda con la verifica sulla veridicità di questi fatti e fatti se nel caso i dovuti accertamenti verbali informazioni ispezioni riferisca in ordine il risultato di queste indagini grazie forse adesso si è acceso bene grazie nel predisporre una risposta appropriata a quanto richiesto il sottoscritto ha coinvolto il segretario generale del comune e sugli uffici la quale anche si è confrontata con gli uffici competenti della prefettura vado a leggere la risposta il silenzio elettorale è una regola che da sempre contendistingue ogni elezione nazionale o locale e referendaria la cui previsione normativa risale alla legge 4 aprile 1953 numero 212 recante norme per la disciplina della propaganda elettorale in particolare l'articolo 9 secondo comma impone nei giorni destinati alla votazione il divieto di diffondere materiale elettorale fare comizi manifestazioni e qualsiasi altra attività di campagna elettorale a meno di 200 metri dai seggi nel caso delle elezioni dello scorso mese di giugno la circolare numero 48 del ministero dell'interno ha stabilito che il silenzio elettorale scattava alla mezzanotte di venerdì 7 giugno e quindi da sabato 8 a domenica 9 giugno arco temporale in cui erano vietati i comizi e ogni altra forma di propaganda elettorale il quarto comma dell'articolo 9 provvede in caso di violazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1032 euro il potere di vigilanza di accertamento e sanzionatorio in tale materia è in capo alla direzione centrale dei servizi elettorali gestita dal ministero dell'interno attraverso le prefetture che a loro volta operano attraverso la forza pubblica incaricata di sorveglianza ai seggi inoltre trattandosi di sanzione amministrativa pecuniaria trova applicazione l'articolo 14 della legge numero 689 del 1981 che sancisce il principio di immediatezza e tempestività nella contestazione conseguentemente è solo rivolgendosi immediatamente alla forza pubblica operante presso i seggi che avviene l'accertamento della violazione delle regole del silenzio elettorale e se del caso l'irrogazione della relativa sanzione per tali ragioni la richiesta affinché il sindaco proceda a verificare la veridicità di presunte violazioni effettuando accertamenti non è né accoglibile e né realizzabile non essendo tali prorogative e competenza in tale figura incardinate ringrazio per la risposta perché nella quasi totalità era più una lezione sul silenzio elettorale sulla normativa diciamo normativa che conosciamo e che sappiamo che prevedeva una sanzione di questo tipo allora questa interrogazione è di un'altra per tutta un'altra con tutta un'altra fondatezza che è quella oltre a continuare anche qui a essere sollecitati contattati da cittadini con tutte le loro versioni credo che in casi come questi sia veramente giusto fare chiarezza e dico queste cose veramente con grandissima tristezza lo dico con grandissima tristezza perché queste voci che circolano in città e che so che in questo caso che dico sempre noi sentiamo una parte voi sentite l'altra no so che in questo caso anche confermato da alcuni assessori le stesse voci le avete sentite voi veramente con grande tristezza perché perché rovina la reputazione rovina l'impegno rovina la dedizione di più di 200 candidati che in modo corretto onesto sincero mosse esclusivamente dalla passione ma addirittura mi oserei anche dire dall'amore per la nostra città si impegnavano si sono impegnati sto parlando di più di 200 quindi sto parlando di tutti o di quasi tutti si sono impegnati nel rispetto delle regole per una competizione elettorale corretta e hanno poi alla fine accettato quello che è stato il risultato poi siamo i primi sempre a lamentarci e a dire perché gran parte dei cittadini non vanno a votare perché c'è questa disaffezione da quella che è la politica ad alti livelli ma soprattutto anche per quella amministrativa quella che veramente invece incide su quelle che sono le vite dei nostri cittadini perché l'amministrazione decide molti aspetti delle loro vite ci stupiamo perché su 24.000 adesso il rotondo con il diritto al voto vanno solo in 14.000 10.000 stanno a casa probabilmente cose di questo tipo fanno sì che si arrivi a queste percentuali cose di questo tipo fanno sì che in un certo senso vanno sempre di più ad appoggiare chi in maniera non corretta ripeto in maniera non corretta pensa che chi dal livello più piccolo come quello amministrativo a quello più alto politico non si muova con sani principi non si muova nel rispetto delle regole non si muova con correttezza e questo ripeto offende veramente chi invece la quasi totalità lo fa mosso da questi sentimenti noi riteniamo che ovviamente la sua risposta non ci può soddisfare e quindi ci riserviamo di approfondire l'argomento anche nelle sedi opportune perché non è solo facoltà del sindaco e non si può sempre rispondere non competa noi non tocca a noi soprattutto quando gli aspetti si si ferma solo a quello che è l'aspetto scritto scritto nella norma ma ci sono ben altri aspetti di carattere etico sociale che vanno presi in considerazione per chi ricopre ruoli come i nostri grazie proseguiamo il consiglio e passiamo dal punto 2 al punto 3 nomina delle commissioni consigliari permanenti allora sono pervenute nei termini stabiliti i nominativi relativi alle diverse commissioni alle 8 commissioni consigliari e ovviamente fermo restando i gruppi consigliari non con una sola persona che sono presenti in tutte le commissioni per quanto riguarda gli altri gruppi i tre gruppi che hanno più di un consigliere sono pervenuti i nominativi che vi leggo e poi come procediamo per la votazione allora per quanto riguarda la commissione statuto e regolamento il partito democratico ha indicato Sibille Bruna impegno per bra Fabio Bailo bra bene comune testa Francesco bra e viva Sanino Ettore ambiente solidarietà Giglio Luca Somalia per bra Massimo Somalia Polo Civico Bradomani Panero Sergio Fratelli Italia Carlo Patria Lega Salvini Piemonte Giuliana Moscino Forza Italia noi moderati BPA Marusconi Messanna procediamo alla votazione le leggo tutte allora per quanto riguarda la commissione finanze e tributi il partito democratico ha indicato Gramaglia Walter impegno per bra Ferrero Cristoforo Lino bra bene comune testa Francesco bra e viva Sanino Ettore ambiente solidarietà Giglio Luca Somalia per bra Somalia Massimo Polo Civico Tripoli Davide Fratelli Italia Patria Carlo Lega Salvini Piemonte Moscino Giuliana Forza Italia noi moderati PPA Marusconi Messanna terza commissione commissione urbanistica partito democratico Sibile Bruna impegno per bra Gazzuri Giulian bra bene comune testa Francesco bra e viva Sanino Ettore ambiente solidarietà democratico Gramaglia Walter impegno per bra Gazzuri Giulian bra bene comune testa Francesco bra e viva Sanino Ettore ambiente solidarietà Giglio Luca Somalia per bra Somalia Massimo Polo Civico Panero Sergio fratelli Italia Patria Carlo Lega Salvini Moscino Giuliana Forza Italia Messa Anna Messa Anna Commissione servizio alla persona partito democratico Isul Marina impegno per bra Ferrero Cristoforo bra bene comune testa Francesco bra e viva Sanino Ettore ambiente solidarietà Giglio Luca Somalia per bra Somalia Massimo Polo Civico bra domani Tripodi Davide fratelli Italia Patria Carlo Lega Salvini Moscino Giuliana Forza Italia Messa Anna Commissione ambiente ciclo rifiuti igiene urbana partito democratico testa Raimondo impegno per bra Gazzuri Giulian bra bene comune testa Francesco bra e viva Sanino Ettore ambiente solidarietà Ambiente solidarietà Giglio Luca Somalia per bra Somalia Massimo Polo Civico Tripodi Davide fratelli d'Italia Patria Carlo Lega Salvini Moscino Giuliana Forza Italia Messa Anna e successivamente Commissione Polizia Mortuaria Partito Democratico testa Raimondo impegno per bra Bailo Fabio bra bene comune testa Francesco bra e viva Sanino Ettore ambiente solidarietà Giglio Luca Somalia per bra Somalia Massimo Polo Civico Panelo Sergio fratelli d'Italia Patria Carlo Lega Salvini Moscino Giuliana Forza Italia Messa Anna ed infine Commissione Sicurezza Partito Democratico Isu Marina impegno per bra Bailo Fabio bra bene comune testa Francesco bra e viva Sanino Ettore ambiente solidarietà Giglio Luca Somalia per bra Somalia Massimo Polo Civico Tripodi Davide fratelli d'Italia Patria Carlo Lega Salvini Moscino Giuliana Forza Italia Messa Anna ringrazio i gruppi che in modo sollecito hanno fatto prevenire i nominativi in modo tale che è stato possibile per risporre un'unica votazione Le votazioni sono otto Benissimo Cominciamo con le votazioni Se volete Se qualcuno chiede la parola Prepari Si dice che votiamo una per la volta Se dice che votiamo una per la volta Funziona? Soltanto una domanda Le commissioni consigliari Solitamente Per regolamento Non sono pubbliche Nella scorsa consigliatura Si era dato appunto Mandato comunque La possibilità poi ai presidenti di Renderle pubbliche All'interno Appunto Durante In maniera Diciamo Quando si prevedeva appunto Una determinata commissione Si convocava la commissione Si sceglieva appunto Se queste commissioni Poi fossero pubbliche o meno A discrezione del presidente Questa amministrazione Vorrà continuare In tal senso O ci sarà In futuro La possibilità Che tali commissioni Siano pubbliche A prescindere Grazie Anche se Sarà indestito Di questo Della norma In attesa Che finiscano Che facciano inizi E poi finiscono il lavoro Come si è già proceduto Nel finale Della precedente Legislatura I singoli presidenti Possono tranquillamente Rendere pubblica La commissione Pertanto Sul finale Dese Tutte le commissioni Erano pubbliche Pertanto Si procedeva In tal senso Tricone Grazie Era soltanto appunto Per comprendere Se appunto In questa Consigliatura Fosse stato appunto Chiamato il consiglio Per la modifica Del funzionamento Delle commissioni Consigliari E quindi Prevedere già Per regolamento Tale previsione Di legge Che magari potrebbe Dare pubblicità Ampia Senza discrezionalità Da parte Del presidente Se così Non sarà Vuol dire appunto Che manterremo Quello che Diciamo Avvenuto In tutti questi anni Quindi Non Non da Non Prevedendo A livello Regolamentare Che le Commissioni Siano Pubbliche Ma Che lo siano Pubbliche Solide Esclusivamente In discrezione Del presidente Grazie Siamo Allora Cominciamo Con la Commissione Statuto E Regolamento Segnaliamo Segnaliamo La presenza Allora Allora Ci sono 16 persone Sì 16 16 16 E Vochiamo Allora Mi sembra Che Allora Con Allora La Commissione Statuto E Regolamento È Stata Votata Segnaliamo Segnaliamo E Tributi Segnaliamo La presenza Allora 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 Anche questa è un'unità. Terza commissione, banistica. Signaliamo la presenza. 16 presenti, possiamo votare. Unanimità di 16 commissioni, lavori pubblici, non fare la presenza. Non fare la presenza. Unanimità di 16 commissioni, servizi alla persona. Signalare la presenza. Manca uno. Si può votare? All'unanimità. 16 votati. Commissione Ambiente, ciclorifiuti, igiene urbana. Segnalare la presenza. Allora, sono 16 presenti. Si può votare? Unanimità. Procediamo alla Commissione Polizia Mortuaria. Signalare la presenza. 16 presenti. Si può votare? 16 votanti. Possiamo procedere. E, dall'ultimo, Commissione Sicurezza. 16 presenti. Si può votare? 16 voti favorevoli. Unanimità. A termine della votazione, si vota la D.E. per tutte le commissioni. Segnalare la presenza. Segnalata. Tutti presenti. Si può votare? La D.E. è stata approvata. La delibera relativa alla nomina 1 o 3, nomina delle commissioni consigliari, è stata comunica che nella prossima settimana alcune commissioni saranno già convocate con la solita prassi della nomina del Presidente e Vicepresidente. Presidente. Articolo 4. Punto 4. Articolo 8. Legge regionale 63 e successive modificazioni. Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste. Elezione rappresentanti del Consiglio comunale. Chiedo, siccome la legge prevede che vi sia un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza, chiedo che vengano espressi i due nominativi che devono essere votati, devono essere votati entrambi, scritti entrambi sul... Gramaglia. Gramaglia. A nome della maggioranza propongo il nome di Testa Raimondo. Grazie. Posso, sia il nome della minoranza e il consigliere Paniero. Grazie. 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 14, 15, 16, tutte e doppie, quindi direi 16 testorelli di Panera Sargio. Benissimo, quindi vuol dire che vi è l'unanimità rispetto a questa nomina, occorre votare la DIE. Mi sembra si siano assentate però due persone. Allora, Tripodi, Patria e Somalia. Votiamo comunque la DIE. Presidente, perdone, ma prima la delibera e poi la DIA? Chiedo scusa, chiedo scusa. Prima la delibera e... Stiamo votando la delibera e chiedo scusa. Siamo 13 e... Rispetto agli assenti, va bene? Poi... Credici favorevoli... Allora, possiamo votare? Allora, se non erano presenti durante la votazione, non ci sono, quindi... Allora, se sono presenti, bene, posso votare. Devevo segnalare la presenza. Devevo segnalare la presenza e... No, è per la delibera. Per la delibera. Adesso possiamo votare. 16. Mi sembra sia un'anime. Un'animità. Adesso votiamo la DIA. Segnaliamo la presenza. 16, presenti. Ci può votare? Ne manca una. Non sono posto. Un'animità. E quindi la delibera è approvata. Punto 5. Articolo 29. Linee programmatiche di governo. Approvazione. La parola al sindaco. Grazie presidente. Grazie a tutti. Do lettura di un estratto delle linee programmatiche. che prendono spunto, logicamente, dal programma presentato ai cittadini nella recente campagna elettorale. E' stato diviso per capitoli. Sviluppo economico e il lavoro. Imposte locali. Continueremo a contenere l'onira in positivo. Mantenere le agevolazioni. Semplificare la normativa. Rafforzare lotta alle evasioni. Potenziare formule di rateizzazione. Garantire equità e giusta distribuzione del carico fiscale. Introdurre agevolazioni sulle imposte comunali per le imprese che assumono personale. Proseguire con i fondi compensativi. Agricoltura. Promozione e consumo prodotti locali. Valorizzazione dei mercati agricoli. Supporto ai gestori canali rigui. Costante confronto con allevatori razza bovina piemontese. Imprese. Favorire creazioni o imprese giovanili rafforzando il servizio mettersi in proprio della regione. Sostegno a varianti urbanistiche per scopi produttivi. Rafforzare tavole attività produttive. Dialogo costante con associazioni di categoria e organizzazioni sindacali. Commercio artigianato. Sviluppare un marchio di qualità con associazioni di categoria per le attività che hanno un forte impegno nella sostenibilità ambientale. Supporto al commercio rivicinato con manifestazioni ed eventi. Continuare a riqualificare i luoghi di commercio. Collaborare con associazioni di categoria per coniugare forme tradizionali di commercio artigianato con le nuove espressioni dell'economia globale, con i comuni del distretto diffuso del commercio al Babrà e del distretto del Cibo del Roero, i consorzi di promozione dell'eccellenza commerciale, artigianale e agricole. Lavoro. Aiuto ai giovani per progetto di lavoro, percorso formativo tramite potenziamento in forma giovani, servizio politico attivo del lavoro, iniziative incontro, domande e offerta, promozione corsi TS e giornate di orientamento. Innovazione Smart City, espansione della banda larga su fibra ottica, ottimizzazione delle 134 videocamere di sicurezza, monitoraggio dei parcheggi e punti di ricarica elettrica per disponibilità in tempo reale, digitalizzazione dei documenti amministrativi, miglioramento e comunicazione dei servizi comunali con l'equilibrio tra innovazione e attenzione alla persona. Sanità. La pandemia ha dimostrato quanto è fondamentale la sanità di prossimità, lavorare con ASI perché il vecchio ospedale accorga più presto le diverse espressioni della medicina territoriale, casa della comunità con medicina di famiglia, specialistica, servizi sanitari di base, forma associate medici di base, guardia medica, centro prelievi, radiologia, screening mammografico, servizi per la cronicità, ambulatori, consultorio, ospice, servizi socioassistenziali, vaccinazioni, servizi domiciliari infarmeristici, ospedale di comunità per pazienti che in eccesi di interventi sanitari a bassa intensità clinica con sorveglianza infarmeristica non inerogabile a domicilio, insistere con la regione per aumento di posti letti pubblici e convenzionati nell'RSA, rendere bra città sempre più cardioprotetta, posizionando defibrillatori nei luoghi sensibili, con regione e ASE creare centro antenna trasfusionale presso ospedale di Verduno per favorire la raccolta di sangue e plasma sul territorio, servizi scolastici, sostenere la struttura amministrativa, il provveditorato, la delirizia scolastica, la mensa, il trasporto scolastico, progetti di inclusione sociale, intercultura, orientamento, promozione della cittadinanza attiva e dello sport, educazione a stili di vita, sani e prevenzione dalle dipendenze, con sinergia rafforzata tra comune, scuola, ASE e volontariato. Le tariffe e servizi scolastici, parlando 24-25, resteranno invariate. Manteremo agevolazioni su indicatori G, incremento di 30 posti al nido con la costruzione di un edificio, garantito servizio al nido estivo. Manteremo alto standard della mensa scolastica, valuteremo nuovi servizi di pre e post orario. Terza età, promuoveremo il benessere fisico e psicologico, con nuove opportunità di socializzazione e valorizzazione dei centri d'incontro, incentivare proposte unitrera, segna cinematografica, amici dei musei, servizi di prevenzione su sicurezza, salute e informazioni su facilitazione digitale, supporto a cura con informazioni su servizi, agevolazioni e progetto Alzheimer Caffè. Disabilità, la consulta a disabilità promuove iniziative di sensibilizzazione e contribuisce all'elaborazione delle politiche a favore delle persone con disabilità, rafforzare collaborazione con centri d'impiego e servizi al lavoro privati, sviluppare progetti di tirocini, state formativi, servizi per la mobilità e l'accompagnamento, supportare il mantenimento del lavoro e consulenza alle imprese, sull'agevolazione e alle assunzioni, rendere sempre più accessibili le attività scolastiche, estate e ragazzi, le esperienze formative e culturali, permette alle persone con disabilità di partecipare a percorsi di educazione permanente, attività sportive, corsi di lingua e recitazioni, supportare le famiglie tramite l'ufficio di prossimità, sugli istituti di tutela e applicazione delle normative del dopo di noi, affidare percorsi di autonomia per abitazione e lavoro, accordo con l'ATC per concedere alloggi di edilizia sociale senza barriere architettoniche, potenziare progetti per chitermi del percorso scolastico, miglioramento di viabilità e spazi di cittadini per garantire maggiori friabilità, percorsi di musei con usile adatte a diverse tipologie di disabilità, welfare comunale, potenziare iniziative su emergenza abitativa, povertà educativa, indebitamento e lavoro con sinergie tra comuni, scuola, volontariato, agenzie educative, per famiglie con maggior fragilità, supporto su educazione finanziaria, orientamento scolastico e genitorialità. Manteremo il fondo Sorriso che consenta a famiglie e microimprese di avere presti a basso tasso di interesse. Agevoleremo accesso a visite specialistiche e cure odontoiatriche per persone con reddito basso tramite accordo con fondazioni di mutuo soccorso. Continueremo lotta alla idropatia, rafforzeremo collaborazione col centro antiviolenza che fornisce supporto alle donne vittime di violenza con numero telefonico dedicato, aiuto personalizzato, patrocinio legale, supporto psicologico e consulenza nella gestione dei figli minori. Emergenza abitativa, aumentare collaborazioni tra pubblico e privato, patto per abitare con associazioni proprietari, locatari, agenzie immobiliari per la tutela dei proprietari, con ATC e bando per concedere alloggi da ristrutturare dagli assegnatari. Integrazione. Il tavolo delle comunità straniere faciliterà confronto, analisi dei bisogni in linea di intervento per la coesione sociale. Sportello di supporto su pratiche amministrative, informazioni su corsi professionali italiani, consulenza da torri di lavoro per opportunità lavorative. Volontariato. Continueremo a dedicare un fondo per progetti delle associazioni, supporto per la ricerca di finanziamenti, conoscenza di associazioni tra i giovani e percorsi formativi per i volontari. Pari opportunità. Aggioremo la consulta per iniziative su diseguaglianze di genere, sui diritti al lavoro, alla salute, allo studio, alla realizzazione professionale e artistica. Gestione del territorio. Sui brai territorio, grazie a forte attività di concertazione con altri enti, vi sarà investimento di circa 50 milioni di euro. Vigileremo sulla gestione dei fondi e sul rispetto dei tempi. Collaborazioni con la provincia. Costruzione della scuola uguale in Piazza Arpino, capace di accogliere circa 1.000 studenti. Dotata di palestra e sala conferenze. Nuova palestra a muci per attività sportive e antinorari extrascolastici. Riqualificazione della scuola di via Mendicità. Miglioramento di abilità con l'ospedale di Verduno, messo in sicurezza e raddoppio ponte di Pollenzo. Realizzazione variante di Pollenzo. Collaborazione con AS e Regione. Riqualificazione ex ospedale Santo Spirito in casa della comunità. E sapone ambulatorio di Aggoito, in sede servizio veterinario, AVI, CERD e altri servizi. Collaborazione con RFI. Acquisto e scalomerci per realizzazione di parcheggio. Nuova fermata ferroviaria a Madonna Fiori. Richiesta spazi stazione come aree protette per biciclette. Gestione urbanistica. Per la regolarizzazione di piccole opere edilizie eseguite in informità parziale, parziale risposta è stata l'approvazione nel 2020 di uno specifico regolamento. La materia di competenza di Regione e Stato. La seguiremo alla luce degli sviluppi normativi per i rettivi provvedimenti. Il sistema formativo e culturale. L'istruzione e l'educazione sono basi dello sviluppo della nostra comunità. Lavoro con le scuole per progetti per il benessere degli studenti. Potenziare il consiglio comunale dei ragazzi. Servizio di trasporto gratuito a studenti verso biblioteche e centro cittadino. Aumento attività complementari di iniziative che aiutano gli alunni fuori dall'orario scolastico. Progetti di educazione alimentare con Slow Food, ASEA e Università. Formazione educativa sul modello di settembre pedagogico e di progetto a Cobaleno. Migliorare le infrastrutture che fanno BRA un centro importante per l'istruzione secondaria. Interazione con scuole e ASEA permette di affrontare le problematiche psicopedagogiche. L'Università di Scienze Gastronomiche ha reso BRA nota a livello nazionale e internazionale. Permette sinergia nei settori agricoltura, ristorazione, turismo, commercio, mensa scolastica e mercati dei produttori. Forte attenzione alle necessità degli studenti per alloggi e trasporti. BRA con Alba, Langhi e Roero è stata finalista a Capitale di Cultura 2026. Risultato che dimostra la crescita dell'offerta culturale della nostra città. Politeama, riferimento del territorio con una programmazione qualificata. Mostra Palazzo Matis, concerti di musica classica al Politeama e Santa Chiara. Concerto estivo alla Zizio, a Cimme Stivo, l'Opera in Piazza, Festival Livro per Ragazzi. Istituto musicale Gandino e banda comunale Giuseppe Verdi. Oltre a quelle promosse da terzi, continueremo a offrire appoggio in particolare. Coinvolgere i comunicati di quartiere e frazioni in organizzazioni di iniziative culturali. Nuove forme di sponsorizzazione di eventi coinvolgendo realtà private. Attuare iniziative e dossier candidatura a Capitale Cultura 2026, creando opportunità di lavoro per giovani e sinergie col territorio. Pianificare iniziative per il centenario della nascita di Giovanni Arpino nel 2027. Rilanciare Dedalus e Corti in Brà. Creazione circuito turistico vittoniano. Ricerca locali per il museo della bicicletta. Paralizzare un museo hockey e confraternite. Favorire la fruizione delle iniziative culturali da parte della famiglia. Definire spazio per produzioni creative come il variety artistico con relativo regolamento. Sicurezza. Massima attenzione a tutti gli elementi che concorrono a rafforzarla. Nei diversi contesti. Scuole per i rischi connessi all'alcol e alle droghe. Case per furti e violenza domestica. Pubblici edifici per vandalismo e ruberie. Alcune zone della città per spaccio di droga. Continueremo ad affrontare queste problematiche in modo deciso. Rafforzeremo la polizia locale aumentando il numero di agenti e la dotazione di strumenti. Acquisteremo una seconda autopattuglia con mini ufficio a bordo per garantire servizio continuativo nei quartieri periferici. Massima collaborazione con le forze dell'ordine. Piani di presidio territori, in particolare nelle zone più sensibili come la stazione ferroviaria. Intensificheremo la videosoveglianza. L'aggiornamento tecnologico e la continuità operativa. Finiremo il nuovo regolamento di polizia urbana. Già presente il DASPO cittadino. Chiederemo l'apertura di un commissario di polizia a BRA. Potenzieremo il presidio delle aree verdi e gioco. Interlocuzione con RFI per dare in uso alloggio a capostazione ad associazioni carabinieri in congedo, favorendo la loro presenza per segnare atti contro decore e vandalismo. Lotta alle dipendenze dalle droghe insieme alle forze dell'ordine. Potenziare il programma educativo con scuole e famiglie sui temi della legalità, dei rapporti fra i sessi, violenza nei rapporti interpersonali, bullismo e bandi giovanili. Ambiente. Valorizzare quelle presenti e aumentare le aree verdi migliora la qualità della vita e ha impatto positivo sull'economia locale con nuovi posti di lavoro e turismo. La tutela dell'ambiente inserita nello statuto comunale garantisce che l'impegno prosegue in sostenibilità. È stato redatto il piano d'azione per le energie sostenibili e il clima. Comunità energetiche rinnovabili, produrre e condivide energia rinnovabile mettendo in relazione proprietari di impianti fotovoltaici e consumatori, con vantaggi economici per tutti. BRA ha costituito, ottenendo due finanziamenti con i comuni di Arroero, una delle principali comunità energetiche e con i fondi PNRR, ha destinato circa 300 mila alla realizzazione di impianti fotovoltaici per ridurre i costi energetici del comune e per la parte cedente i consumi, un beneficio per le famiglie collegate alla CER. Rifiuti. La raccolta differenziata in continuo miglioramento nel 2009 era del 46% per arrivare a superare il 90%. BRA è primo in Piemonte tra i comuni sopra i 10 mila abitanti, tra i comuni più virtuosi a livello nazionale. La produzione pro capite di differenziata è scesa a 70 kg pro capite, inferiore ai 159 kg pro capite come da normativa. Diminuzione tari del 10% nei primi due anni ed evitato poi aumenti elevati, nonostante il forte aumento dei costi. La riduzione dei rifiuti permette di contenere i costi della gestione, adottato piano per ridurre la produzione. Due contributi della Fondazione Cassi Spami di Cugno sono stati destinati a progetti per la riduzione organica indifferenziata. Provisione di premialità sulle tariffe tari per chi riduce rifiuti. Contrasto all'abbandono anche con lo strumento per delle fototrappole. Aumento di dotazioni con rilevamento illeciti e notturni. Contrasto ai comportamenti dei proprietari di animali che ledono l'igiene delle vie. Qualità dell'aria. I valori medi di particolato si attestano sotto limite previsto dalla normativa. Lo stesso per il numero giornate con concentrazioni medie superiori al limite massimo. Grazie alla riqualificazione energetica edifici, sostituzione impiantistica obsoleta, rinnovo parco mezzi, uso di mezzi pubblici, avanzate tecnologie delle aziende locali. Verde pubblico. Con la riqualificazione, i giardini del Belvedere sono restituiti alla cittadinanza come polmone verde. Negli ultimi anni, numerose nuove piantumazioni. Sostegno e iniziativa dono un albero. Tutto secondo quanto contenuto nelle indicazioni del piano del verde cittadino. Grande impegno per aumento a piantumazioni di nuove alberi. Attenzione al consumo suolo, con varianti a piano regolatore di incentivi per favorire l'utilizzo di aree dismesse. L'impegno congiunto di cittadini e comune a favore dell'ambiente ha contribuito all'ottenimento di riconoscimento a livello nazionale. Spiga verde per i comuni che valorizzano il sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Depuratore Collettamento dell'impianto fognario di BRA a quello di Govone è realizzato per il 40% in territori che non includono BRA e non sono ancora definiti i finanziamenti per terminare l'opera. Avviati scambi con il gestore per interventi strutturali sull'impianto di BRA, costruzione di una copertura leggera provvisoria o di una fissa che permetta di contenere odori e rumori. Mobilità e trasporti pubblici Un sistema sostenibile del trasporto anche con incentivi per chi fa scelta attenta all'ambiente. Interventi nell'area circostante alla stazione ferroviaria. Creazione di sottopasso pedonale per agevolare l'attraversamento dalla stazione, dal quartiere oltreferrovia ai giardini di Piazza Roma. Utilizzo delle scalomerci per nuovo parcheggio a 350 posti e nuova viabilità tra Piazza Giolitti, Via Tano Trieste e Stazione. Miglioramenti per area parcheggio pullman, presenza con aumento organico di polizia municipale su attraversamento pedonale e installazione semafo per rendere fluido il transito. Il completamento dell'autostrada a Sticuno permetterà l'emissione e ordinanza di rivieto di passaggio di mezzi pesanti sulla salita Orti, Via Vittorio Veneto e Via Cunio. Confermate le norme della ZTL, equilibrio fra esigenze residenti, commercianti e automobilisti. Per parcheggio a pagamento proseguiremo con incentivazioni per auto ibride poco inquinanti e per le elettriche. In corso una gara per installare 11 nuove colonnine. Ciclabilità e mobilità sostenibile. Centro storico sia permeabile alle auto ma dia priorità alla mobilità dolce e mezzi ecologici. Creare spazi di tutela in prossimità degli ingressi delle scuole e creare stalli per biciclette. Percorsi ciclabili da utilizzare sicurezza. Creare nelle sede polza parcheggio per ciclisti. Migliorare la signaletica fisica e luminosa degli attraversamenti pedonali. Abbiamo promosso insieme a comuni limitrofi la progettazione di ciclovia di collegamento con Albe e Lange. Con passaggio ciclo pedonale sull'esponte Albertino. Rendendo bra uno snodo fra Roero, Lange, territorio unesco e Roretto. Il cui progetto è finanziato dalla dittatesi. Trasporto pubblico locale. Promozione del mezzo pubblico e ampliamento collegamenti tramite collaborazione con Santa Vittoria, Verdun e Lamora. Per nuova uguala vi sarà un numero adeguato di corse. Ferrovie. Impegno a richiedere il ripristino della tratta Braccaveler Maggiore. Maggior numero di treni verso Torino con miglior materiale rotabile. Nuova fermata Madonna Fiora, servizio Polo Scolastro, centri sportivi, santuario. Alleviare pressione sul parcheggio o stazione di bandito. Riqualificazione urbana, riconversione scalomerci con creazione di nuovo parcheggio vicino al centro storico. Miglioramento di viabilità tra Via Tano Trieste e Piazza Giolitti. La città avrà uno spazio ora inutilizzato con importanti ricadute sulla vivibilità del centro cittadino. Riqualificazione di altre zone della città, dalla periferia a quelle commerciali. Valorizzazione del patrimonio storico anche sotterraneo. Edifici pubblici. Completamento vita strategia urbana d'area con Museo Craveri, Palazzo Garone e Movicento. Riqualificazione Palazzo Garone in sede istituzionale, ufficio manifestazioni, museo Arpino e possibile sede di istituto musicale Gandino. Riqualificazione Smattatoi in polo servizi, ufficio e spazi pubblici. Centro per l'impiego, centro servizi volontariato, centro famiglie e servizi sociali territoriali. Banda musicale, comitato quartiere Bescurone e sala polivalente. Realizzazione nuovo asilo nido per ulteriori 30 bambini con forte diminuzione e lista d'attesa. Recupero mannica dell'edificio di via Vittorio Docente sulla destinazione a sede scolastica. Adeguamento della quale si è adeguale per ospitare in media più matti. Intervento su scuola via Barbacana a seguito al trasferimento della media con destinazione a servizio della città. Sale, laboratori museali, coausi, attività ricettive tipo stello o albergo diffuso per studenti e personale scolastico e sanitario. Sede circuito Vittoniano. Riqualificazione energetica edifici scolastici e pubblici. Infanzia Collorio Munari, Don Livio Greppi, Primaria Gioetti, Principessa Mafalda, Media Piumatti, Centro Sportivo Rosselle e Politeama. Recupero dell'area esterna biblioteca per spazi letturo, studio ed eventi. Riqualificazione energetica ed adeguamento strutturale del palazzetto dello sport. Manutenzione cimiteri, verifica necessità di ampliamento, in particolare Pollenzo. Recupero a Eschiesa Madonnina, Accento Culturale ed attività Università di Scienze e Gastronomiche. Interventi stradali e aree pubbliche. Riqualificazione a regioco e realizzazione di nuovi in zone meno fornite. Perfezionalmente illuminazione pubblica di strade e piazze con nuovi impianti a LED. Manutenzione strade, caditori, marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche. Migliorare il sistema regimazione acqua e meteoriche, in particolare via Cacciatori delle Alpi. Trasformare l'anello pedonale San Matteo-San Michele in un percorso salute attrezzato. Quartiere e frazioni, riconoscerli come principali interlocutori degli ambiti territoriali. Recepire indicazioni per le scelte da attuare, garantendo efficace diffusione delle decisioni. Protezione civile, intensificare collaborazioni, esercitazioni e giornata della protezione civile. Turismo e manifestazioni. Il turismo è leva di sviluppo dell'economia braidese. Confermata la crescita, contribuisce presenza di show food e delle università di scienze gastronomiche. Eventi gastronomici, sportivi, artistici e culturali. Ci proponiamo di sostenere e incrementare la crescita attraverso formazione sulla sostenibilità, accoglienza, conoscenza delle esigenze dei turisti. Potenziare la manifestazione Brass, includendo tutte le eccellenze del territorio. Estendere nel tempo i benefici di CIS e Brass. Rinascita della manifestazione Dedalus. Inserire i geobrani in un più ampio festival della scienza. Identificare un'area camper. Promuovere le eccellenze museali della città. E ampliarne gli orari di apertura. Politiche giovanili. Bisogno crescente per i giorni di incontro, scambio, essere attivi e sviluppare competenze utili alla città e alla costruzione del proprio futuro. Riteniamo necessario identificare uno spazio, movicentro, destinato al luogo di incontro, in cui possono convergere servizi ed iniziative. Un polo di politiche giovanili, incubatore di idee, centro culturale, luogo di formazione, di esperienze e di eventi gestiti dai giovani. Renderli protagonisti creando palestre di democrazia, in cui sperimentare azioni di impegno civico, patto di collaborazione per curare i luoghi della città. Forte sostegno alla consulta giovanile e valorizzare le attività degli oratori cittadini. Sport. Fondamentale nella crescita dei giovani e del benessere dei cittadini. Concorrono le circa 60 associazioni sportive che intendiamo sostenere. Mettere a disposizione società sportive e palestre del mio uguale e quella ristrutturata del Mucci. Nuova struttura coperta polivalente per servire più funzionalità. Rifare il campo di bandite ed effettuare manutenzione di quelli di Arrosselli. Aumentare la sicurezza degli impianti con l'installazione di telecanna di soveglianza. Creare nuovi parcheggi nell'area del palazzetto dello sport. Fondo per trasferte società sportive per l'inclusione di chi ha difficoltà economica o disabilità. Creare la consulta delle associazioni sportive con le scuole accompagnare i giovani verso un'attività sportiva e promuovere i valori dello sport. Bandi di finanziamento. Ufficio che oltre alla ricerca bandi per il comune e alla preparazione delle proposte selezioni anche bandi per volontariato, associazioni, scuole e giovani. Ospedale Pietro Michele Ferrero. Impegno affinché l'accesso alla struttura sia il più agevole possibile. Andando ad implementare e ottimizzare le navette che già ora collegano bravo ogni 30 minuti. Vigilare sulla riqualificazione della Provinciale 7 e della bretella di collegamento fra il ponte di Pollenzo e Viano Garis. Supporta affinché la qualità delle prestazioni valorizzi l'ospedale come centro di eccellenza e di riferimento. Individuare forme di residenza per gli operatori. Sociassistenza territoriale. Aumentare la collaborazione con il Consorzio Albese per progettualità comuni. Lavorare per la costituzione di un unico consorzio per potenziare risposte ai bisogni e ridurre i costi. Servizio idrico integrato e ora condiviso alla necessità di una gestione organica degli investimenti per affrontare la crisi idrica. La disponibilità per famiglie e imprese assicurata dal pozzo di bandito. Nella frazione Riva secondo pozzo attivabili in caso di emergenza. L'acquadotto della zizola a capacità oltre le necessità urbane. Eventuale supporto per l'ospedale di Verduno. Monitorare il livello dei pozzi garantendo nuovi investimenti in caso di prolungata siccità. Mantenere l'attuale livello di controlli sulla qualità dell'acqua erogata. Realizzazione di op per la raccolta di acqua piovana e ridistribuzione per aree verdi. Autostrada Asticunio. Con regione e provincia. Vigilare sul completamento dell'autostrada. Consolidamento e raddoppio del ponte di Pollenzo. ATL. Sostegno all'ente nello sviluppo di un turismo sostenibile. Proporremo investimenti sul trasporto pubblico elettrico. Lavoreremo sulla domanda turistica per una fruizione attenta. Aumenteremo collaborazione con l'area del Roero. Consorzio Coapser e STR. Il ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti è gestito da Coapser e da STR per l'erogazione dei servizi. Insieme a loro abbiamo i seguenti obiettivi. Crescita dell'efficienza aziendale e processi di economia tra i comuni e del Consorzio. Contrasto degli abbandoni e la diminuzione dei tempi di gestione delle domande dei cittadini. Ricerca di tecnologie e modalità di smaltimento all'avanguardia nel rispetto dell'ambiente. Implementazione del piano per la riduzione del rifiuto. Servizi statali. Difenderemo gli uffici pubblici e territoriali evitando tentativi di accorpamento. In sintesi e in conclusione, insieme, insieme tutti quanti, compreso i cittadini, desideriamo portare a termine in tempo e bene i tanti cantieri avviati, utilizzare in modo virtuoso i fondi ricevuti e vigilare su quelli erogati o promessi a enti terzi, continuare a plasmare una città a misura di famiglie, potenziando i servizi già presenti. Massimo impegno per che Brassi è una città sicura e che si cura. Rendere i giovani sempre più protagonisti e non semplici interlocutori. Contribuire allo sviluppo economico, sportivo, culturale, turistico e al benessere della città. Incentivare e tutelare la sanità di prossimità. Buon lavoro a tutti. Dopo l'intervento del sindaco che chiede la parola, oppure respiriamo profondamente perché ha fatto un intervento veramente veloce, presentando un progetto ampio. Grazie Presidente. Allora saluto tutti quanti e ringrazio il sindaco per l'approfondito intervento che ha appena svolto. pensavo di fare un intervento con un taglio, diciamo così, trasversale al programma e da un punto di vista specifico che è quello delle famiglie braidesi. Noi abbiamo, e lo comunico per i nuovi consiglieri, vinto un bando, per cui Bra è comune amico della famiglia. e la complessità dei servizi messi in atto a favore delle famiglie sono rivolte a migliorare la qualità della vita dei componenti, dai più piccoli ai più anziani. E a lungo termine favorire anche un incremento della natalità ed eventualmente attrarre a Bra il sediamento di nuove famiglie. Allora, tra i punti fondamentali per il benessere della famiglia c'è il discorso del lavoro. Il sindaco lo ha già ampiamente sviluppato, ma pensavo di mettere l'attenzione su quello che è stato soprattutto l'attivazione del progetto Labor con i tirocini di pubblica utilità. E poi il lavoro che è stato svolto sul Novi Centro, che è un progetto chiaramente di essere continuato, in base alla organizzazione dell'iniziativa Io Lavoro, come momento di incontro tra la domanda e l'offerta, cioè tra il mondo delle aziende e le persone in cerca di occupazione. È stato un evento molto importante che ha coinvolto moltissime persone, anche giovani, per eventualmente un lavoro di orientamento per la loro professionalità futura. Un altro punto interessante, per quanto riguarda le famiglie, è stato il supporto dato dall'amministrazione per il proseguimento del progetto Alzheimer Caffè. Nell'ultima attività svolta dalla consulta comunale è emersa l'esigenza di dare attenzione anche ai parkinsoniani. E quindi ci siamo presi l'impegno per questa futura legislazione di trovare un modo per essere accanto anche alle famiglie con questa problematica. Quindi mi riallaccio al tema affrontato sul benessere sociale, che è quello di dare una risposta, un sostegno anche alle famiglie per garantire la convalescenza domiciliare. E quindi abbiamo visto quanto sia importante avere una sanità di prossimità. E quindi questi due elementi, sia l'Alzheimer Caffè che i parkinsoniani, sono due momenti a cui daremo particolare attenzione anche con la consulta delle famiglie. Ci fa piacere sentire che resteranno intatte le tariffe per i servizi scolastici che verranno date appunto alle famiglie in questo senso e continueremo a mantenere questo standard di eccellenza per quanto riguarda la mensa scolastica. Con particolare attenzione anche alle madri lavoratrici, con l'estensione del proprio storario nel momento in cui fosse richiesto dall'utente appunto. L'avore spina dorsale del volontariato braidese, che è molto diffuso, sono le persone pensionate. Per loro ci sono diverse iniziative, sia dal punto di vista delle associazioni che si occupano di attività ludiche, che sportive, eccetera. E' importante, secondo noi, incentivare le proposte culturali, quindi benvenga l'attività dell'Università della Terza Età, ma anche rafforzare le loro competenze con la facilitazione digitale e diventa un altro punto, un altro fuori all'occhiello da proseguire. Per quanto riguarda la disabilità, che forse verrà trattata da un altro mio collega, l'ufficio di prossimità è fondamentale, quindi chiediamo anche di implementare la comunicazione e questo mi rivolgo all'assessore che avrà questo compito, perché molte cose vengono fatte, ma come è emerso anche dalle ultime cose, dagli ultimi lavori di gruppo fatti nella consulta della famiglia, molti servizi sono a disposizione degli utenti, ma non tutti conoscono tutto quello che è a loro disposizione. Ora salto un po' di cose e arrivo a parlare della formazione, formazione che abbiamo sia dal punto di vista delle famiglie con il supporto alla genitorialità, che parte già dalla scuola dell'infanzia, ma abbiamo anche un affiancamento, che sottolineerei proprio per l'importanza che ha, di collaborazione con il Centro Antiviolenza, che fornisce il supporto alle donne vittime di violenza domestica. Le vittime possono trovare un supporto psicologico e una consulenza anche per la gestione dei figli minori con l'ascolto, con il lavoro di prevenzione, con il lavoro di cura. Abbiamo avuto degli appuntanamenti purtroppo di mamme con i loro bimbi in strutture messe a disposizione appunto dei servizi sociali. C'è anche un patrocinio legale gratuito, fornito dall'associazione a questo riguardo, ci prenderemo cura di continuare questo lavoro con loro. Io sarei dell'idea che bisognerebbe allontanare gli uomini dalle loro case e non le donne con i loro figli, ma la legislazione per adesso non ce lo consente, quindi continuiamo quantomeno a proteggere le donne da questo problema. È importante per quanto riguarda l'emergenza educativa per le famiglie cercare di mantenere un grande lavoro, mantenere attivo lo sportello integrato che coinvolge l'ufficio a casa, perché sappiamo quanto sia problematico trovare alloggio anche per le famiglie giovani che vogliono risiedere nella nostra città. E quindi continueremo anche a mantenere attenzione rispetto a questo. Dal punto di vista della promozione dei valori e dei diritti, ringrazio in modo particolare per il lavoro svolto in questo contegno precedente la Presidente Agatha Comandè e soprattutto la Consigliera Delegata Maria Milazzo che mi ha preceduto in questa delega e vorrei rassicurare insomma il Sindaco che mi ha dato questo incarico di seguire la consulta per opportunità che continueremo insomma a vigilare proprio per promuovere la sensibilizzazione e il superamento di queste disuguaglianze di genere attraverso le proposte culturali che non solo riguardano il marchio donna ma che sarà nostra cura proseguire un po' per tutto l'anno a lavorare in gruppo e in armonia insomma con tutte le componenti. Un altro tema importante per quanto riguarda le famiglie ma che è anche presupposto della cultura è quello di lavorare bene per il supporto alle scuole nei tempi fuori orario quindi compitando con i laboratori che vengono fatti dai nostri educatori e anche per una prevenzione importantissima. Sulla cultura noi abbiamo una crescita costante dovuta al grande lavoro che viene fatto anche dalla nostra biblioteca ad esempio partendo già dai progetti nati per leggere che continuerà ovviamente ma con il grande lavoro anche dei nostri musei pubblici e privati. Ecco mi è fatto piacere sindaco sentire che gli spazi museali saranno ampliati quindi non soltanto il museo della bicicletta ma anche uno spazio per le nostre confraternite che hanno una storia lunghissima e poi abbiamo un'eccellenza sportiva che sono le squadre dell'hockey e quindi anche lì ci sono coppe che non stanno più da nessuna parte quindi bisognava trovare anche lì un luogo per poter raccogliere un po' la storia di queste squadre di eccellenza. E poi appunto anche la definizione di spazi per la produzione creativa in writing artistico e questa è una novità di questo programma che avremo occasione di seguire con molta attenzione. Ecco per quanto riguarda la cultura, come Scuola di Pace siamo indirizzati a continuare a proseguire sulle tematiche anche di temi contemporanei quando mi sia nata l'occasione abbiamo sempre lavorato per creare una cultura e l'ambiente è stato uno dei temi che già dal 21 ci ha visti molto attenti ed è dalla Scuola di Pace, da una conferenza nella Scuola di Pace che l'ha partita proprio l'idea di una comunità energetica e da questa esigenza nata poi dall'adesione di molti cittadini abbiamo proseguito con la vincita dei Blandi, con la costruzione di una CER e quindi la progettazione e la realizzazione poi della CER Corre, l'eroero che abbiamo poi approvato nell'ultima legislatura. Questo è importante anche per le famiglie e quindi cultura si lega anche con le necessità importanti perché le famiglie potrebbero avere, come lei diceva, da questa nascita della CER anche una diminuzione per i loro costi energetici quindi ben venga la possibilità poi di aderire man mano che ci saranno i regolamenti comunali e questo sarà anche un'attenzione in questo ambito. La cultura alza la qualità della vita ma necessita ovviamente di investimenti quindi chiederai poi all'assessore di farci partecipi anche di quello che potranno essere i bilanci per capire sia come scuola in pace che come attività ma anche per valorizzare in modo sempre più importante Palazzo Matis che avrà bisogno di un rilancio e magari anche di un'attenzione particolare per quanto riguarda mostre a livello internazionale non soltanto nazionale o locale. Ecco, quindi la nostra attenzione sarà anche per, il nostro affiancamento sarà anche per affiancare la giunta per quanto riguarda il rilancio di Bedalus e magari anche il corto in bra che è stato un'eccellenza adesso abbiamo anche dei registi braidesi che oramai hanno fama nazionale per cui siamo interessati a proseguire questo lavoro. c'è la prospettiva della Capitale della Cultura 2026 quindi culturalmente siamo lanciati e vorremmo continuare a pianificare anche le celebrazioni per il centenario della nascita di Arpino che sarà di nuovo un altro momento importante. Ecco, senza prascurare ovviamente le iniziative che verranno poste sia dal punto di vista del cinema per le nostre famiglie ed è stato un successo la rassegna cinematografica che abbiamo fatto con i fondi della Regione Piemonte e anche il lavoro che si potrà portare avanti con i giovani che magari si occuperanno della gestione del nuovi centro nel momento in cui sarà riqualificato da parte dell'impianto. Speriamo di continuare anche ad avere una eccellente programmazione per quanto riguarda il Politeama e dare spazio sempre di più alla musica, ai nostri studenti e alla nostra banda musicale che ha portato il nome di Bra anche fuori dalla nostra città quando abbiamo avuto occasione di gemellaggi e di incontri con altre città. Ecco, noi stiamo aspettando la riqualificazione dell'ex mattatoio per avere questa sede nuova del centro famiglie che ci sembrava molto importante perché lì potrebbe essere convogliata veramente anche tutta l'attività di informazione oltre che formazione per le nostre famiglie. Mi soffronerò solo per quanto riguarda il tema sicurezza la preoccupazione delle nostre famiglie è relativa uno all'uscita delle scuole l'entrata e uscita delle scuole e quindi il lavoro ottimo che stanno facendo appunto i pensionati che sono attivi nella nostra città ed è anche importante il controllo nelle aree limitrofe alle scuole superiori perché sappiamo come gli studenti potrebbero essere indotti consapevolmente o meno a cadere nelle mani delle dipendenze. Grazie. Ecco, l'ultimo minuto lo spenderei per ricordare uno la carta famiglia che era legato al tema dello sport e quindi verificare se è possibile dare pubblicità alla carta famiglia perché è un momento importante per l'economia delle nostre famiglie e la seconda cosa è legata all'inaugurazione della pista ciclopedonale San Matteo-San Michele che vorremmo magari coincidesse con la prossima festa famiglia e quindi tutti insieme con questa attività. Grazie. Grazie consigliere Sibilla ammetto che prima di inizio del mio intervento ero un po' preoccupato perché riuscire a stare in 15 minuti con argomenti così ampi ma adesso sono più sereno visto che ha concesso un intervento di più di 27 minuti nel primo intervento e il rispetto del regolamento tocca a tutti penso che lei non è stato il primo intervento credo che sia giusto credo che sia giusto dare la stessa spazio e la stessa parola a chiunque se vuole continuare sì per quanto riguarda se le interpretazioni del regolamento credo che il sindaco abbia ancora un ruolo diverso rispetto a consigliere Sibilla il regolamento del consiglio comunale vale per tutti i partecipanti al consiglio comunale il sindaco non è escluso grazie abbiamo letto con attenzione le linee programmatiche della sua amministrazione ed ancora una volta dobbiamo evidenziare un forte discrepanza tra quanto contenuto nel documento linee programmatiche di governo e quanto promesso e sventolato in campagna elettorale e poi come sempre dimenticato il giorno successivo nessuna attenzione nel suo programma al problema relativo al superamento del passaggio a livello la città è diviso in due e continuerà ad esserlo fino a data da destinarsi analogamente nessuna soluzione concreta proposta al problema del traffico di via Trento Trieste e dalle difficoltà di scorrimento dei pullman in entrate e uscite dal movicentro e pensare che la soluzione era portata di mano prendiamo finalmente chiarezza e pretendiamo finalmente chiarezza e tempi certi sull'acquisto terreno ex calomerci punto strategico chiarezza sulle condizioni dell'area perché chi siede in consiglio comunale come me da un po' di tempo si sente ormai ripetere che siamo arrivati veramente al momento in cui riusciamo ad entrare in disposizione di questo terreno ma l'abbiamo sentito ripetere per tanti anni poi ci siamo sentiti ripetere in incontri ufficiali che la situazione sul presunto inquinamento di quell'area era irrilevante queste sono state le parole precise e spese e ha anche in questo senso e lo ribadiamo ancora adesso convinto i consiglieri di opposizione che avevano sostenuto e continuano a sostenere che quella è un'area strategica e va assolutamente acquisita dal Comune di Brahma le informazioni che erano state date erano queste adesso invece scopriamo che non sono solo irrilevanti ma sono veramente rilevanti i costi di bonifica per quell'area anzi adesso sembrano addirittura proibitivi per eseguire alcuni interventi da troppo tempo sentiamo veramente ripetere che siamo arrivati al punto bene, chi chiede in consiglio comunale da un po' di tempo non ci crede più e pensiamo sia giusto che vengano dati dei tempi certi e che questi vengano rispettati assurdo a nostro avviso pensare all'ennesimo centro di aggregazione giovanile quando oltre alle tante strutture pubbliche e private quali i diversi sedi di associazioni sportive oltre che agli oratori ci sarà di fatto anche l'area dell'ex matatolo da gestire e soprattutto sostenere economicamente più volte l'abbiamo detto che per quanto ci riguarda la linea guida una linea che sarebbe meglio tenere è che prima di realizzare dei nuovi fabbricati e di conseguenza avere dei nuovi costi di gestione dei nuovi costi di nuove strutture forse sarebbe meglio voltarci e verificare lo stato di conservazione di quelle che abbiamo come strutture e di verificarne se su queste non sia necessario economicamente più vantaggioso effettuare delle opere di ristrutturazione piuttosto che realizzare nuovi fabbricati che poi per quanto nuovi energeticamente di classi elevate ma comunque portano di per sé dei costi di gestione alla pubblica amministrazione Barà ha certamente bisogno di destinare attenzione ai suoi giovani ma a nostro avviso ha molto più bisogno di un rilancio economico culturale e commerciale considerato il potenziamento della linea ferroviaria Alba-Torino-Caselle riterremmo più adeguato considerare il nuovo centro come hub di interscambio dove i turisti stranieri che arrivano in aeroporto a Torino possono facilmente raggiungere la nostra città con il distaccamento dell'ufficio turistico per le informazioni necessarie necessarie per conoscere visitare e soggiornare nella nostra città un distaccamento della Polizia Municipale al fine di garantire la sicurezza dei viaggitori oltre i cittadini della zona ed una vetrina dell'eccellenza neogastronomica del territorio con possibilità di acquisto diretto delle nostre eccellenze per quanto riguarda Palazzo Garrone riteniamo sia questo il luogo deputato a diventare un vero proprio polo museale e allora perché non insediarvi oltre all'archivio Arpino anche il museo della bicicletta che ho sentito si vuole ampliare ma prima di ampliare bisogna trovargli una sede perché non dimentichiamo che il museo della bicicletta è ormai chiuso da parecchi mesi deve trovare una collocazione mi riferisco in particolare anche all'assessore allo sport è stato chiuso non ha in questo momento una sede non ha un posto dove esporre quindi prima di ampliarlo forse sarebbe necessario trovare un luogo e noi riteniamo che questo possa essere un luogo idoneo e anche il museo del giocattolo che oramai è allo stretto nei locali del centro polifunzionale e trasferire nei locali che questo libererà proprio l'istituto musicale perdonate ciò che resta dell'istituto musicale Gandino la cui illustre storia mi pare sia stata proprio affossata dalla precedente amministrazione della lei guidata avremmo ritenuto più corretto rilanciare la città e il suo centro commerciale naturale piuttosto che pensare alla riqualificazione dell'ex mattatoio Bra sta morendo Bra ha bisogno di parcheggi ha bisogno urgente della riqualificazione delle sue piazze che devono e ribadisco devono essere liberate dai parcheggi e devono essere restituite ai cittadini questo però non prima di dotare la città delle infrastrutture necessarie perché questo possa avvenire in maniera che in finale ci sia assolutamente un saldo positivo perché Bra ha assolutamente bisogno di parcheggi e mi fa pacere sentire poco tempo fa quando eravamo quasi tutti tantissime persone in piazza Carlo Roberto durante la festa del twirling di Bra dove un assessore del palco sosteneva questa tesi dove praticamente le piazze assolutamente devono tornare a essere usate dai cittadini e non essere parcheggi cosa che sento per la prima volta e mi chiedo negli ultimi 15 anni come mai questa idea non sia uscita come mai in questi 15 anni le piazze sono continuate ad essere dei parcheggi e solo in questo momento mi viene in mente che probabilmente possono essere liberate e possono essere utilizzate diversamente le piazze devono tornare a svolgere il loro ruolo sociale devono tornare ad essere la Gorà ovvero il luogo in cui si svolgeva la vita politica e commerciale della città devono tornare ad essere un luogo di incontro di mercato di manifestazioni per accogliere sempre più turisti eventi e per far sì che Brà torni ad essere nei fatti e non solo nelle parole una città da vivere e ribadisco prima però dotiamo la città delle infrastrutture necessarie perché questo avvenga in modo da non far morire il nostro centro naturale e commerciale prendiamo atto del fatto che tutti insieme i cittadini braidesi debbano impegnarsi anche nel recupero di strutture private perché così dice il suo programma e conoscendo molto molto bene il suo rapporto con il mondo parrocchiale ebraidese lei si sarebbe impegnato per il recupero della cappella della venaria di proprietà ecclesiastico ma mi perdoni nel fare che cosa venaria per fare che cosa la riqualificazione di via Vittorio Emanuele così come è stata gestita non è servita a molto non è fruibile dai turisti non è fruibile dai nostri anziani non ci sono panchine non ci sono cestini getta carta ma se questa è la via principale della nostra città il cosiddetto salotto buono non avrebbe senso dedicare più attenzione e questa attenzione la chiamiamo su tutte le riqualificazioni ma in particolare su tutti gli interventi dei lavori pubblici ancora una volta andiamo a ricordare l'intervento simbolo che è quello del rifacimento di via Principe come più volte ancora ad oggi ci troviamo continui interventi di ripristino dove sono da poco state posate delle pietre ci troviamo scusatemi il pimentesismo tacum fatti con l'asfalto e forse si parla di dover tornare di nuovo tutto all'asfalto perché quell'intervento continua a creare serie criticità questo non è il modo questo non è tecnicamente il modo corretto per fare degli interventi pubblici quindi con ben in testa le priorità chiare della nostra città gli interventi pubblici devono essere fatti di qualità durativi non solo degli interventi per poter dire abbiamo fatto questi interventi ma degli interventi che durino nel tempo forse degli interventi anche minori di dimensione di entità ma sicuramente di più elevata qualità ho sentito parlare e cambio assolutamente devo accelerare del piano regolatore comunale strumento urbanistico essenziale per lo sviluppo di una città io credo che il nostro piano regolatore generale necessiti veramente di una revisione totale questo perché in questo momento le norme e quello che è l'ambiente urbanistico in completa assoluta evoluzione prendiamo in considerazione l'appena arrivata sentenza che riguarda la legge regionale 7 che deve essere ancora ben chiarita sui suoi sviluppi purtroppo una sentenza non mi trovo d'accordo ma semplicemente perché io come sempre continuo a questi banchi a fare un plauso a questa regione perché in realtà è l'unica che continua a cercare di mettere mano a quella che è una problematica importante che penso di non parlare male se penso di poter dire che molti moltissimi di noi ha dovuto toccare con mano sull'irregolarità dei fabbricati purtroppo presenti sul nostro territorio bra non fa isola felice non potrebbe essere diversamente in rispetto a quello che è tutto il nostro territorio approvato purtroppo questa legge in parte è stata abrogata quindi è stata bloccata mi permetto veramente nei confronti delle regioni di dire non mollate continuate a provare a venire incontro in quella che è questa situazione veramente difficile e a caratteri più volte l'ho ripetuto anche in questa sala con caratteri sociali perché ho partecipato più di una volta a qualche riunione di condominio all'ordine del giorno c'era la verifica della regolarità del fabbricato e cosa non è successo non ve lo sto a ripetere così come il decreto appena scritto che stiamo aspettando che si trasformi in legge se questo avverrà perché alcune notizie dicono che addirittura si sta pensando di riscriverlo il decreto salva casa e tutto questo movimento dal punto di vista urbanistico richiede assolutamente che il piano regolatore lo strumento urbanistico del Comune di Bra in maniera particolare dal punto di vista delle norme tecniche d'attuazione ma anche dal punto di vista cartografico si debba assolutamente aggiornare a quello che sta succedendo capitolo sport capitolo che non nego mi dispiace che è uscito l'assessore ma non importa credo sì sia veramente importante dare alle società sportive le strutture necessarie leggo e colgo con sollievo che aspettiamo con ansia veramente la fine della palestra del Belsomucci perché ogni volta che solleviamo una problematica di strutture sportive in particolare di palestra nella nostra città ci viene risposto ci sarà la palestra del Belsomucci come se questa fosse la soluzione a tutti i mali delle strutture sportive ebraidesi di nuovo cogliamo anche con grande entusiasmo che finalmente ci vediamo ancora scritti speriamo che sia la volta buona consigliere Mossino il rifacimento del campo sportivo di bandito per le motivazioni che abbiamo sempre espresso una società che si è fusa bandito sporgente a numeri fa giocare e fa fare multisport a più di 200 tra bambini e ragazzi hanno assolutamente necessità e bisogno di una struttura riteniamo quindi concordiamo che sia necessario sostenere e incentivare le grandi manifestazioni che portano a turismo e fanno conoscere il nostro territorio non aspettiamo altri 20 anni per far ritornare il giro di tagliabra ma soprattutto ci tengo a dire sosteniamo le nostre manifestazioni sportive sulle più importanti piace sempre ricordare la Gran Fondo Bra Bra oltre alla Nove Miglia come con altre ma mi breve velocemente sulle associazioni sportive e sono contento che l'assessore sia ritornato le associazioni sportive di Bra come quasi tutte si basano sul volontariato le dirigenze sono fatte da persone che lo fanno assolutamente in forma di volontariato hanno bisogno di sostegno sì economico ma anche di un sostegno tecnico per aiutare queste società composte appunto con queste dirigenze a volte non totalmente a loro agio con i bandi e con l'uso della tecnologia sostenerle con un ufficio sport che dia la possibilità a queste di partecipare di aiutarli di sostenerli a partecipare ai bandi dove possono in questo modo reperire i fondi necessari per portare avanti le loro attività va bene la ringrazio consigliere Somalia grazie grazie signor sindaco per l'ampia esposizione e guardi la campagna elettorale è finita ormai da più di un mese per fortuna le elezioni sappiamo tutte come sono andate e hanno portato un vincitore e una parte che per poco non ha vinto e questo a mio avviso deve essere tenuto in debito considerazione sia da una parte che dall'altra da parte nostra sicuramente con la responsabilità di fare la nostra parte nei luoghi e nelle sedi deputate a questo che sono il consiglio comunale ma che sono in giro per la città come abbiamo fatto negli anni come abbiamo fatto durante la compagnia elettorale dove abbiamo colto dai nostri concittadini esperienze sollecitazioni idee e molte 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 sollecitazioni a fare e a cambiare ma nella nostra città è sotto gli occhi di tutti sta progressivamente cambiando sotto vari aspetti dalla composizione sociale demografica negli stili di vita nelle condizioni di lavoro e nelle aspettative allora bisogna cambiare bisogna cambiare anche metodo di fare amministrazione bisogna essere molto vicini ai cittadini ma bisogna avere ben chiaro quali sono le problematiche importanti e poi ci sono tutte quelle minori che bisogna affrontare quotidianamente ma che bisogna risolvere io ho letto con attenzione il suo programma prima durante la campagna elettorale nei giorni scorsi in preparazione della alla rinno del consiglio di oggi e non la dettora mi è sembrato di aver già sentito vari punti del suo programma e ho trovato tanti punti di similitudine col mio e con quelli della mia coalizione che mi ha supportato e sopportato durante la campagna elettorale e i punti di similitudine come dicevo sono tanti ma era probabilmente diverso il metodo di proporli e probabilmente diverso il metodo per affrontarli ma sa dove ho riscontrato una differenza molto 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 importante e rilevante nel fatto che lei e la sua coalizione è 15 anni che ha amministrato questa città e tante problematiche alcune delle quali ha ricordato il consigliere Panero sono rimaste irrisolte sono le stesse di 5 di 10 di 15 anni fa qualcuna la ricorderò magari dopo durante il mio intervento se il tempo me lo consentirà ma cercherò di essere estremamente rapido e allora partendo velocemente sulla sull'esame delle linee programmatiche che ci ha esposto partendo dalle iniziative legate allo sviluppo economico ecco di sviluppo economico dobbiamo parlare dobbiamo parlare di nuovi insediamenti produttivi commerciali artigianali industriali la nostra città deve crescere in questo e deve mettere a disposizione di chi abbravo all'insediarsi degli strumenti opportuni una rapidità di soluzione delle problematiche amministrative e burocratiche uno sgravio fiscale sulla parte su cui si può agire noi l'abbiamo detto più volte in campagna elettorale qualcuno mi ha anche detto che su certe agevolazioni non si può agire ma bisogna trovarne altri bisogna trovare degli stimoli opportuni affinché la nostra città dal punto di vista economico torni a crescere e torni a crescere in maniera rilevante perché solo con la crescita economica e ho sentito la parte sua e da alcuni consiglieri che mi hanno preceduto può essersi un sostegno socio-assistenziale a chi è meno fortunato di noi e ahimè sono tanti e sempre di più per cui in quel settore bisogna impegnarsi ed impegnarsi come ho sempre detto e scusatemi se ogni tanto torno alla campagna elettorale ma è veramente vicina che mi auguro che l'amministrazione sia un'amministrazione che badi all'assistenza dei più deboli degli ultimi e non all'assistenzialismo che noi abbiamo sempre denigrato scusatemi io non sono abituato a scrivermi tutto perché mi piace sentire e poi lavorare sulle cose che sento e quindi lavorare in questo senso per la crescita economica per quanto riguarda l'agricoltura mi permetto di ricordarle che ad esempio a me durante gli incontri dell'associazione di categoria mi hanno chiesto di intervenire per regolamentare il pascolo vagante che è un problema importante per l'economia agricola perché sovente occupa dei terreni che non possono essere impiegati diversamente e difficilmente è possibile far spostare questi greggi anche perché sovente mi dicono gli esperti sono greggi che vengono abbandonati in custodia sovente a cittadini estracomunitari che non conoscono neanche la nostra lingua quindi sostegno al lavoro è essenziale è essenziale per quello che vi dicevo prima cioè per la cresta economica per il bene sociale per quanto riguarda il capitolo che lei ha destinato al benessere sociale io mi trovo d'accordo e mi sono impegnato da subito le ho detto che sarò al suo fianco nel sollecitare gli enti opportuni affinché sia la casa di comunità e l'ospedale di comunità vengono al più presto però mi corre l'obbligo di ringraziare in questa sede l'amico presidente della regione Piononte Alberto Cirio e l'ex assessore alla sanità che sono stati veramente vicini alla nostra città con questo investimento molto importante di circa 20 milioni di euro che finalmente ci consente di sperare per il 2025 di avere questo piccolo mosocomio a nostra disposizione questa realizzazione ci porta anche a pensare che una zona della nostra città che con la chiusura dell'ospedale Santo Spirito ha patito un po' dal punto di vista economico possa essere in qualche maniera rigenerata e su questo ci imponeremo noi come vi ho detto prima perché con il nostro ruolo andremo a sollecitare ma chiedo l'impegno dell'amministrazione comunale lei ha parlato di una città sempre più cardioprotetta e anche in questo caso mi corre l'obbligo ringraziare le associazioni di volontariato alcune delle quali a cui io sono molto vicino perché c'è stato un impegno veramente molto importante attraverso finanziamenti della fondazione Cassa del Risparmio di Curio per poter realizzare in tante parti della nostra città degli strumenti di cardioprotezione velocemente vorrei l'ha già detto il consigliere paniero ci sono state alcune iniziative molto importanti finanziate con il PNRR lei sa benissimo che uno in particolare non ci è trovato molto d'accordo ma ci trova anche con un minimo di preoccupazione quelli che saranno i costi di gestione sia per quanto riguarda una volta ristrutturato e ahimè abbiamo sentito che i lavori si sposteranno un po' più avanti dell'ex mattatoio ma anche la nuova ala dell'Asionido che ci trova assolutamente favorevoli la nostra città ha necessità di accoglienza per i bimbi più piccoli ma va rilevato che mi dicono che l'apertura di una nuova ala possa portare un costo di gestione anno di circa 200.000 euro se non mi sbaglio qualcosa del genere migliaia di euro migliaia di euro più migliaia di meno ahimè il bilancio comunale lo conosciamo quindi diventerà sempre più importante andare a reperire risorse attraverso altre forme di finanziamento e qui come noi abbiamo proposto nel nostro programma l'istituzione di un ufficio bandi vigileremo sulla sua intenzione di istituirlo perché come vi dicevo prima a nostro avviso sarà sempre sempre più importante avere delle figure professionali specializzate che ci consentono di reperire fondi in maniera diversa rispetto a quelli classici del pubblico per quanto riguarda gli aspetti legati alla terza età io la solicito anche a tenere presente le istanze che ci sono venute da concittadini che frequentano il centro di conti di via Montegrappa che ci dicono che sia ormai insufficiente per l'attività che svolgono chiederebbero locali alternativi o locali in aggiunta rispetto a di cui quelli oggi usufruiscono velocemente ne ha già parlato il consigliere Panero per quanto riguarda lo sviluppo urbanistico della città io non parlerei di gestione urbanistica ma a mio avviso sarebbe meglio di parlare di sviluppo urbanistico abbiamo uno strumento urbanistico che forse ormai oggi è obsoleto sappiamo benissimo che i costi di realizzazione di intervento su questo sono notevoli ma riteniamo opportuno che in questo settore come in altri senza una programmazione professionale precisa oggi non andiamo da nessuna parte la nostra città ha bisogno di uno sviluppo diverso e necessita quindi di tutte le figure professionale di tutti gli strumenti urbanistici adeguati affinché questo avvenga la crescita culturale della nostra città io più volte ho detto che noi abbiamo la fortuna di avere delle strutture molto importanti lo ha ricordato come dicevo prima il consigliere Panero qual è la nostra idea ad esempio su Palazzo Neatis ma quello che io ho sempre se l'ho ottenuto è che noi come in altri settori ad esempio quello delle manifestazioni turistiche andiamo a manifestazioni di un certo livello molto molto importante di livello internazionale dobbiamo fare un salto di qualità che abbiamo lasciato anni fa per quanto riguarda le manifestazioni turistiche qui invito il mio ossessore alla cultura che di questo si occuperà perché la cultura è sicuramente uno strumento di crescita umano psicologico professionale ma è altrettanto uno strumento di crescita economica ma lo è se le attività che proponiamo sono di livello molto molto ambizioso e questo fino ad oggi non l'abbiamo fatto soprattutto negli ultimi anni senza dimenticare gli artisti a livello locale che in qualche maniera devono essere comunque messi in condizioni di poter svolgere la loro attività e devono essere messi in condizione di poter esprimere e far vedere le opere che producono quindi su questo andiamo avanti ma alziamo l'asticella delle nostre ambizioni questo è necessario per la crescita culturale della nostra città ma di conseguenza alla crescita economica la sicurezza la sicurezza guardate io sono stato accusato da qualcuno in campagna elettorale di essere fissato su questo tema e di voler militarizzare la nostra città assolutamente falso io probabilmente mi sono reso conto prima perché sollecitato da tante persone da tanti amici che purtroppo la nostra città e cita il suo programma e la nostra attenzione a continuare ad affrontare questa problematica in modo deciso come abbiamo fatto in tutti questi anni mi consenta signor sindaco non è stato così bisogna quando si è un amministratore attento cercare di prevenire i problemi ci sono zone della nostra città che oggi hanno necessità di interventi è vero lei si è attivato prima della campagna elettorale chiedendo l'intervento del comitato di ordine pubblico e lì qualcosetto è cambiato ma oggi finita questa situazione siamo di nuovo a questo punto e questo non lo dico per fare delle polemiche o per sollevare dei poveroni lo dico perché insieme a tanti altri amiamo la nostra città e vogliamo che la nostra città sia vivibile per tutti l'ultimo episodio di sabato sera scorso quando nuovamente sono accaduti dei fatti incresciosi ripeto soprattutto in alcune zone della nostra città che non devono più accadere e ripeto non è questione di militarizzazione ma è questione di ristruttire determinati territori all'uso delle nostre famiglie dei nostri figli dei bambini che vogliono andare a giocare che vogliono andare a giocare in sicurezza e non è neanche questione di essere contro l'immigrazione guardate io ho tanti amici immigrati con i quali condivido tante esperienze e che sono i primi a dirmi perché si sono integrati correttamente che questa non è una situazione sostenibile sulla quale dobbiamo assolutamente intervenire consentitemi velocemente di dire ancora due cose molto rapide sul turismo e sullo sport mi dia un minuto allora io già nella seduta scorsa del consiglio comunale ho rilevato che in mia opinione che le deleghe di turismo e manifestazioni debbano essere assegnate nella nostra città lo stesso assessore questo perché il nostro non è ancora un turismo di flussi consentitemi il bestigio di parole di turismo stanziale ma è ancora un turismo molto legato alle manifestazioni a quelle più importanti della nostra città ne sta arrivando un'altra molto importante che è a Brass sulla quale vi faccio i complimenti le altre ho avuto l'onore di non di inventarle ma di partecipare alla realizzazione della nascita di gran parte degli entriamenti break days su Brass il vostro lavoro insieme all'associazione dei commercianti è stato egregio io vi esorto a continuare deve diventare l'altra manifestazione caratterizzante della nostra città ne ha tutte le caratteristiche però come vi dicevo prima è ancora un turismo molto legato alle manifestazioni quindi o c'è un'identità di visione su quello che è lo sviluppo turistico della nostra città oppure la delega deve essere una persona sola perché deve avere assolutamente una visione unica insieme a tutti gli altri attori che sono la TL che sono Slow Food che è un partner essenziale e imprescindibile per quanto riguarda lo sviluppo delle manifestazioni del turismo della nostra città chiudo mi riservo allora di intervenire dopo grazie buonasera buonasera a tutti grazie Presidentessa grazie al sindaco ai colleghi e ai cittadini anche in presenza a questo consiglio in un mondo sempre più diviso non solo dai conflitti ma anche dall'assenza di dialogo ciò che merita apprezzamento del programma amministrativo esposto dal sindaco e la sua trasversalità durante gli anni durante gli anni di studi ho imparato infatti l'importanza di un approccio multidisciplinare capace di trascendere i confini tradizionali e favorire la collaborazione tra le diverse parti in gioco mi aspetto questo da un amministratore in qualità di consigliere delegato alle politiche giovanili oggi voglio parlarvi di una componente cruciale del nostro programma quella dedicata ai giovani e di come essa sia stata magistralmente legata con gli altri temi del programma innanzitutto per superare le criticità dello sviluppo sociale dei nostri ragazzi derivanti dal recente passato di emergenza sanitaria e anche dall'utilizzo inconsapevole dei social network abbiamo identificato un crescente bisogno di spazi di incontro scambio e partecipazione attiva la nostra proposta di creare un polo per le politiche giovanili risponde precisamente a queste esigenze questo spazio sarà espressione di cultura socialità e divertimento che spesso volentieri si intrecceranno tra loro nelle attività saranno coinvolti professionisti di diversi ambiti anche essi giovani così da creare una sorta di circolo virtuoso a titolo puramente esemplificativo si potrebbe ipotizzare un'attività di sensibilizzazione ad esempio alla nutrizione presieduta da neolaureati e professionisti in erba o ancora attività di collaborazione con le università che forniscano crediti formativi ai partecipanti insomma l'unico limite sarebbe l'immaginazione inoltre il polo avrà un impatto positivo non solo per i giovani di Bra ma anche per quelli dei territori limitrofi promuovendo esperienze di scambio che contribuiranno a gettare le basi per un futuro condiviso la scelta del movicentro come sede è strategica la sua ubicazione vicina alla stazione ferroviaria lo rende facilmente accessibile contribuendo anche alla riqualificazione dell'area che avverrà tramite la riqualificazione del movicentro secondo i dati recenti a Bra ci sono 10.623 under 35 che rappresentano più di un terzo del totale dei cittadini il dato evidenzia ulteriormente l'importanza di politiche giovanili che favoriscano l'integrazione e la coesione sociale di questa frangia della popolazione uno spazio inclusivo come il nostro polo giovanile favorirà l'incontro tra le persone e quindi la creazione di una rete utile per le future classi dirigenti della città d'altronde il primo passo per crescere è proprio la condivisione di uno spazio infine nell'ultimo consiglio che si è svolto più volte è stata ribadita la necessità ma anche oggi di appassionare le nuove generazioni alla politica che poi non è altro che l'interesse verso la propria comunità e identità ebbene i giovani italiani sono particolarmente sensibili ai temi ambientali è un dato di fatto che emerge in ogni occasione utile ad esempio nelle ultime elezioni europee dove quella parte di elettori compresa tra i 18 e i 29 anni ha espresso le proprie preferenze complessivamente al 51% nei confronti di quei partiti che considerano al loro interno alle tematiche ambientali per cui un coinvolgimento in progetti di sostenibilità all'interno del polo giovanile non può che essere un potente strumento educativo e soprattutto attrattivo per le nuove generazioni perché c'è un comune denominatore tra i giovani e l'ambiente il futuro in conclusione il nostro programma non solo risponde alle esigenze immediate ma costruisce una visione integrata trasversale e sostenibile per il futuro della nostra città invito quindi tutti a collaborare affinché queste iniziative prendano vita nel migliore dei modi così da avere una città sempre più inclusiva giovane e verde grazie per avermi ascoltato grazie per averci partito i tempi chi vuole la parola questa consigliere Panero in quanto consiglio anziano grazie presidente saluto il sindaco e tutti gli assessori essendo questo il secondo consiglio comunale e dopo l'insediamento che rappresenta un po' per tutti un po' il primo giorno di scuola con le sue dovute emozioni desido porgere un cordiale benvenuto a tutti i consiglieri di prima nomina sia di minoranza che di maggioranza e un saluto a quelli che già in questo consiglio hanno più di tre o quattro legislature sono anche qui presenti ringrazio il sindaco che mi ha riconfermato le delega al volontariato assegnandomi la presidenza della consulta e anche la delega dei volontari civici faccio mie le parole del presidente della Repubblica Mattarella che durante una festa dedicata al volontariato e il volontario ebbe a dire il volontariato è una straordinaria energia civile che aiuta le comunità ad affrontare le sfide del tempo e le sue difficoltà rinsalda i legami tra le persone e vicino a che si trova nel bisogno riduce i divari sociali promuove l'accoglienza e la sostenibilità il mondo del volontariato è un mondo meraviglioso fatto di donne uomini giovani che donano ogni giorno in modo libero e gratuito tempo e competenze per costruire un mondo migliore ed inclusivo chi partecipa in qualsiasi associazione fa queste azioni e vicino ai bisogni della gente riduce i divari sociali e promuove l'accoglienza e la sostenibilità la consulta del volontariato coordina circa 60 associazioni che operano in tutti i settori della nostra società civile quale il settore assistenziale ludico sportivo ambientale animalista e culturale il volontariato rappresenta la parte migliore della nostra società penso che tutti noi nella nostra vita abbiamo avuto bisogno di un volontario basti pensare al servizio dei volontari della Croce Rossa le famiglie che si avvalgono di pedibus chi lavora nel servizio degli ultimi Caritas San Vincenzo SOS quanti sostegni quante situazioni delicate e difficili sono state aiutate ed accompagnate più volte questi servizi suppliscono o integrano le carenze del servizio pubblico tant'è vero che il volontariato è prettamente una risorsa molto italiana la sua presenza e la sua attività forma un affetto importante del nostro PIL oltre ai tanti volontari che operano nelle associazioni che aderiscono a nostra consulta che sono oltre mille ci sono centinaia di volontari civici molto preziosi nella gestione di pedibus compitando gestione transenne nelle vicinanze delle scuole presenti in tutte le nostre grandi manifestazioni quali CIS Brass di cortile in cortile voglio ancora ricordare una decina di volontari aderenti alla fondazione Giovanni Operti di Torino che gestiscono il progetto di aiuti finanziari denominato Fondo Sorriso che va in soccorso ai soggetti più deboli sia privati che imprese e possiamo affermare con orgoglio che abrà i volontari strutturati sono oltre 1.200 che si prendono cura di persone situazioni luoghi e fanno di Brass una città inclusiva e democratica e civile la nostra amministrazione favorisce la crescita del volontariato mettendo a bando ogni anno 15.000 euro per finanziare i loro progetti questi sono valutati da una commissione tecnica che sia e anche dall'assemblea generale della consulta hanno una ricaduta benefica nella nostra società ricordo solo un esempio che è già stato citato dalla consigliera ISO aver aiutato e sostenuto e promosso l'Alzheimer caffè che era una novità 3-4 anni fa molto frequentato purtroppo quante testimonianze ho ricevuto dalle famiglie per questo prezioso e insostituibile servizio ma un grosso grazie va all'associazione l'accordata che con i suoi volontari promuovono questa iniziativa tutto questo è stato possibile proprio con aiuto della consulta del volontariato molti altri progetti hanno avuto ricadute in altri settori che qui non elenco perché sono molti ogni due anni si svolge una festa per il mondo del volontariato denominata volontariamente vetrina di promozione e di divulgazione di tutto questo mondo durante questa manifestazione non è possibile avvicinare persone per farle appassionare a progetti ed ideali in quanto in questo periodo il mondo del volontariato soffre di carenza di ricambio e c'è bisogno di cercare nuove energie il volontario invecchia si va in pensione più tardi le forze diminuiscono e per questo motivo in sinergia con il CSV 100 servizi del volontariato di Cuneo con uffici staccati anche a BRA si sono promosse incontri con gli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori per farli incontrare in modo concreto e far conoscere le nostre associazioni con le loro attività durante questa manifestazione viene anche assegnato il premio qualità solidale da attribuire a persona di BRA che si è distinta in un percorso di solidarietà possiamo ribadire con orgoglio che BRA è veramente una città solidale ed inclusiva che prosegue la strada tracciata da un suo grande santo cittadino il gigante della carità San Giuseppe Benedetto Cottolengo ora desidero fare un passaggio sul programma della nostra coalizione circa l'ambiente e la mobilità sostenibile da alcuni anni la nostra città è segnalata e premiata da riconoscimenti di rilevanza nazionale e per gli sforzi e l'impegno raggiunti congiuntamente con i cittadini circa la cura dell'ambiente la difesa del paesaggio e lo sviluppo sostenibile dal territorio l'ha anche già ricordato il sindaco la fondazione per lo sviluppo ed educazione Italia congiuntamente alla confa agricoltura ci ha conferito la spiga verde la lega ambiente da tre anni ci ha dichiarato comune rifiuti free in virtù dell'ottima raccolta differenziata che va oltre il 90% e ci colla come primo comune della regione Piemonte tra i comuni con oltre 10.000 abitanti sempre la lega ambiente ci ha annoverato come comune ciclabile la tutela dell'ambiente è fondamentale poiché influenza in maniera significativa il nostro benessere ed è direttamente collegata alla salute dei cittadini la principale sfida che abbiamo di fronte ora e nel prossimo futuro è la lotta ai cambiamenti climatici un impegno che per la portata e l'importanza deve essere trasversale in tutti i settori proprio in questi giorni sono usciti i dati del clima dal giugno 2023 a giugno 2024 si è riscontrato un innalzamento della temperatura mondiale di 1,7 gradi centigradi rispetto all'anno precedente possiamo dire che la nostra madre terra ha la febbre paragonabile ad un malato che costantemente ha la temperatura corporea di 38,5 gradi fino a quando può resistere occorre che tutti insieme iniziamo a cambiare anche i nostri stili di vita in attesa che gli stati sovrani le organizzazioni mondiali trovino accordi per stabilire progetti e normative che vadano nella direzione dell'abbassamento della temperatura la nostra amministrazione va in questa direzione proseguirà sul solco già tracciato dalla scorsa legislatura firmando il patto dei sindaci il PAESC piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima questo patto ha come obiettivo di contenere riscaldamento climatico a livello globale questo impegnerà la nostra amministrazione nel promuovere e ricercare strategie come per esempio la ristrutturazione degli edifici pubblici con il rifacimento degli impianti di riscaldamento come è già avvenuto in questo ultimo periodo sempre in questa direzione la nostra amministrazione è stata lungimirante era anche già citata la consigliera ISU unitamente a 20 comuni del Roero proprio a fine all'inizio di quest'anno abbiamo costituito la CER comunità energetica rinnovabile del Roero atto firmato a fine legislatura si tratta di uno strumento che permette di produrre e condividere energia rinnovabile mettendo una relazione proprietaria di impianti fotovoltaici e consumatori con grandi vantaggi economici per tutti i partecipanti anche grazie a incentivi erogati il nostro comune per grandezza e importanza è il capofila si tratta di una imperdibile occasione per il nostro territorio in termini di crescita grazie ai notevoli investimenti innovativi ma anche di promozione a livello internazionale per la condivisione di tecnologie e politiche di avanguardia questa iniziativa è stata finanziata grazie ai finanziamenti provenienti dal PNR e ci permetterà di abbassare la bolletta energetica del comune per la parte eccedente i consumi andrà a beneficio delle famiglie collegate al CER quindi ci sarà un beneficio non solo pubblico ma molto privato si proseguirà anche sempre nell'ottica di contenimento della temperatura la nostra amministrazione continuerà nella promozione del piano del verde predisposto fin dal 2021 con progetti di nuove piantumazione accorgendo anche iniziative di privati ed aziende oltre alla depavimentazione con la sostituzione dell'asfalto e cemento in piantumazione di nuovi alberi creazioni di nuovi parchi grazie anche alla convenzione e contributi di aziende private si proseguirà anche nell'ottica di favorire la riduzione del consumo del suolo con specifiche variazioni al piano regolatore e proponendo incentivi appropriati per favorire l'utilizzo di aree di smesse grande impegno per la ciclabilità e la mobilità sostenibile Brassi è dotato di una zona 30 estesa a tutto il centro storico che ora si è allargata anche da alcune zone delle frazioni Bandito e Pollenzo è stato curato ed incentivato il progetto Pedibus cresciuto proprio grazie al convivimento dei volontari civici questo è un importante strumento educativo di diffusione di buone pratiche quello che dicevo prima di buone pratiche ecologiche anche verso il mondo scolastico fondamentale per la riduzione del traffico cittadino specie nelle ore mattutine curerà la manutenzione dei percorsi ciclabili esistenti ha promosso con entusiasmo insieme ad altri comuni la progettazione di una ciclovia di collegamento tra Alba e Lange con un passaggio ciclopedonale sull'ex ponte Albertino analogo impegno verso la direttrice di Roreto accordo con il comune di Cherasco e la dittatesi molte altre iniziative sono state prese e si prenderanno nell'incentivazione del trasporto pubblico locale migliorato il servizio verso l'ospedale di Verduno collaborazione con le ferrovie dopo tanti anni di studi con l'agenzia della mobilità finalmente abbiamo il collegamento diretto dal gennaio 2024 Torino Caselle concludo piccole o grandi cose ma tutte vertono verso un unico obiettivo ridurre l'emissione di gas ridurre il CO2 per il raggiungimento del benessere dei cittadini e della loro salute ma come obiettivo primario salvare la nostra terra e consegnare ai nostri figli e nipoti una terra migliore di come l'abbiamo ricevuta grazie grazie consigliere rendendo testa prego consigliere Teresa Nino ok buonasera buonasera al sindaco al presidente alla giunta e a tutti i configlieri qui presenti nel programma amministrativo del sindaco lo sport è una parte importante della crescita e della città coinvolgendo tanti giovani e associazioni sportivi che come ha detto già il sindaco prima sono circa una sessantina che danno una bella immagine e positiva alla città stessa con risultati anche di buonissimo livello in tutte le sue facesse eh non mi mi metto come dirlo va bene lo sport fa bene la crescita dei ragazzi e ragazze è chiaro che ci vogliono strutture adeguate ma penso che in questi anni passati si è fatto molto ma si può sicuramente fare molto di più tante proposte sono in cantiere sia per noi palestre dove sono già state sono già in fase di costruzione quella del nuovo uguala e quella in fase di distrutturazione del verso muci ci sono gli rifacimenti per i campi sportivi sostenere le società che aiutano ragazzi in difficoltà economiche o presenta disabilità fisica e molto altro ancora è in progetto purtroppo ci sono anche giovani che non fanno nessun sport soprattutto nell'età tra scuola elementare e la media è nato l'osservatorio dello sport che ha ottenuto il finanziamento della fondazione CRC e che prevede attività nelle scuole e delle serate con i ragazzi e adulti e i genitori per promuovere i valori dello sport e per far capire i benefici che può dare un'attività sportiva una bella iniziativa che oramai è consolidata nella città è lo sport in piazza che si svolgerà domenica 15 settembre nel parco Atleti Azzurri d'Italia che permette a tanti giovani di provare tutte le attività e poi si cerca cercando di ripristinare altre iniziative giovanili cercare anche di attivare la consulta dello sport per inserire anche molti giovani in modo da considerare le loro preferenze e i loro bisogni ci sono poi i vari contributi delle varie associazioni che vengono erogati solo per bandi o per convenzioni approvate con delibera di giunta comunale ma non più in passato con indicazioni dell'assessore concludo dicendo che d'accordo con l'assessore Matera continueremo sulla linea della passata amministrazione lavorando sempre in sinergia con tutte le società sportive soltanto per il bene dei giovani grazie 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 presidente un saluto a tutti i presenti faccio seguito all'intervento del sindaco e vorrei soffermarmi su un tema particolare che è quello dei lavori pubblici è un tema che riveste un ruolo molto importante all'interno del programma di questa amministrazione la sua centralità si sente la sua centralità è una diretta conseguenza delle politiche attuate negli ultimi anni relativo allo sviluppo e alla modernizzazione della città lo sviluppo urbano che per sua natura è molto dinamico chiaramente e brano fa eccezione comporta una serie di modifiche e cambiamenti costanti ma che hanno come principio fondamentale attuativo quello della pubblica utilità come si evince chiaramente dall'intervento del sindaco le linee guida in materia di lavori pubblici sono sinergiche e coinvolgono tematiche differenti quali commercio turismo istruzione sanità e volontariato questi ambiti trovano riscontro concretamente nel programma che questa amministrazione intende portare avanti cercherò di riassumere in maniera schematica quanto riportato sul programma in maniera da definire la visione di questa amministrazione grande attenzione al tema della mobilità con specifico riferimento ai parcheggi pubblici e al traffico cittadino attraverso la riconversione dell'area ex calomerci con conseguente modifica della viabilità all'incrocio tra via Trento Trieste e Piazza Giolitti particolare impegno per la realizzazione di nuovi spazi di verde urbano con la riqualificazione delle aree esistenti e l'individuazione di nuove aree soprattutto nelle zone di periferia ad esempio in via Piumati valorizzazione del patrimonio edilizio esistente quindi non solo interventi ex nuovo con interventi di adeguamento strutturale energetico e funzionale ad esempio completamento della riqualificazione del museo Craveri Palazzo Garrone e dell'ex mattatoio in particolare quest'ultimo avrà un carattere polivalente accogliendo diversi uffici tra cui il centro per l'impiego il centro servizi per il volontariato e il centro famiglia dei servizi sociali territoriali realizzazione di nuovo asilo nido che come abbiamo visto prima permetterà di accogliere fino a 30 bambini in più riqualificazione e adeguamento dell'edilizia scolastica esistente con interventi in particolare di tipo energetico sulla scuola della Riva adeguamento dell'attuale sede del Guala per renderla idonea chiaramente a ospitare la nuova sede delle medie più matti intervento sulle ex scuole di via Barbacana dove si intendono promuovere destinazioni a servizio della cittadinanza proseguimento degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici scolastici ed in particolare quelli pubblici con grande attenzione alle scuole dell'infanzia Collodie Munari delle scuole primarie Gioetti e Principessa Mafalda a Pollenzo e della scuola media in via Craveri e al centro sportivo Rosselli riqualificazione energetica ed adeguamento strutturale del palazzetto dello sport e completamento degli interventi di riqualificazione energetica del teatro Politeama Continua manutenzione delle infrastrutture pubbliche con particolare riferimento a strade e marciapiedi Perfezionamento dell'illuminazione pubblica di strade e piazze con nuovi impianti a LED Sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con conseguente miglioramento della sicurezza e riduzione dei costi energetici Adeguamento della viabilità intorno alla nuova scuola in Piazza Arpino per la gestione della viabilità del trasporto pubblico locale Infine un continuo proseguimento di interventi di manutenzione puntuale sulle strade nonché un programma di asfaltature continuo in modo da garantire una maggiore scorrevolezza e sicurezza sulle strade Ottimizzazione delle risorse del PNRR con interventi mirati di interesse pubblico In merito a quest'ultimo punto ai bandi del PNRR che come sappiamo questa amministrazione è stata capace di aggiudicarsi diversi diversi bandi vorrei a livello professionale sottolineare il grande lavoro fatto dagli uffici tecnici dei lavori pubblici mi è capitato da tecnico di partecipare di progettare diversi interventi di PNRR e so per certo che la quantità di lavoro che c'è dietro la quantità di elaborati relazioni e quant'altro che viene richiesto giustamente giustamente per erogare questi finanziamenti è enorme per cui i criteri di progettazione sono sempre più rigidi il lavoro svolto fino ad oggi è stato tanto e ne abbiamo ancora tanto da fare abbiamo idee visione e coraggio a tutto questo va aggiunto una grande dose di professionalità competenza e serietà che ci porterà insieme a rispettare tutti i punti programmatici grazie ad interventi buonasera a tutti egregio signor sindaco la sua neo insediata amministrazione non palesa alcuna novità nella sua impronta programmatica bra sarebbe dovuta cambiare in meglio ma io da cittadina prima e ora da neo eletta ho potuto constatare che negli ultimi anni bra non solo non è migliorata ma esiste addirittura uno status quo si evince una significativa carenza di soluzioni a problemi strutturali in materia di viabilità e mobilità che peraltro si protraggono da tempo molte parole a tratte ammalianti per i cittadini ma ben poche proposte di natura pragmatica si continua a impiegare troppo tempo per percorrere poche centinaia di metri nelle ore di punta con traffico bloccato ed estrema difficoltà a reperire parcheggi un mondo senza auto è utopico si possono avere zone pedonali anche ampliate non si può eliminare totalmente la circolazione veicolare piuttosto è importante individuare soluzioni come almeno due aree a corona del centro con l'obiettivo di creare infrastrutture in grado di risolvere alla radice i problemi dei parcheggi sarebbe stato utile fare ricorso al PNRR ma occorrevano progetti cantierabili che voi mai neppure avete ipotizzato alleggerire alleggerire incroci con alcuni sensi unici e una revisione che consentisse l'aumento di spazi per parcheggi in diagonale nell'anerea centralissima sarebbe stata importante in particolare per le nostre attività commerciali nemmeno di questo vi è l'ombra nessun piano per vere piste e ciclabili e nessuna strategia che garantisca più sicurezza per pedoni e disabili su attraversamenti pedonali e marciapiedi le asfaltature delle ultime settimane precedenti le elezioni forse hanno dato i loro frutti per la vostra riconferta ma non certo per risolvere i problemi all'origine l'annosa spaccatura fra oltre ferrovia e il resto di Bra continua a persistere senza soluzione di continuità e questo è un problema per ogni braidese e non solo senza prospettive e improbabili cambi di rotta ancora una volta il problema permarrà con una sottovalutazione inaccettabile nel 2009 un progetto a matrice centrodestra avrebbe risolto con un sottopasso poggiava le sue basi sulle stesse che il recente studio di fattibilità da voi commissionato ha dedotto l'unica differenza ferrovie dello Stato non è più disposta a concedere il quinto binario come 15 anni fa le domande sono due perché a suo tempo il centro sinistra non ha accettato di portare avanti un saggio progetto al posto di una faraonica utopia come l'abbassamento dei binari la seconda perché nel 2021 prima di commissionare uno studio di fattibilità con lo stesso esito non si è ripescato il vecchio progetto o meglio ancora perché non verificare con le ferrovie statali la disponibilità in via preventiva almeno avremmo risparmiato risorse preziose per la nostra casse infine le chiusure per pedonalizzazioni la fluidità veicolare è fondamentale anche per questo occorreva pensarci attentamente chiusure come tele di via Rambaudi non hanno fatto altro che generare ulteriore confusione e sovraccarico nelle vie del centro storico chiudere per trasferire altrove il traffico e aumentare gli spazi di percorrenza deve avere un senso da 15 anni Bra non fa altro che nuove chiusure senza la minima traccia di interventi e opere podromiche a questo mutamento strade magari chiuse ma poco gradite da molti vista la carenza di illuminazione e redi adeguati e le prospettive le prospettive ci indicano un futuro assai curto come profilo signor sindaco signore assessore se i presupposti di gestione della città continueranno ad essere quelli disegnati dalle vostre modeste e fumose linee programmatiche nessuna collaborazione sarà possibile voglio inoltre portare in evidenza il grave disinteressamento del sindaco e della maggioranza nello stato di abbandono e cui versa la nostra città intendo la normale manutenzione di strade e quella straordinaria le strade infestate di erbacce perfino scarpe appese ai fili elettrici o in mai da mesi chi si occupa di questo io sono una neoletta faccio parte della minoranza ma a quanto pare sembra che ci sia il timore di denunciare queste ormai insopportabili situazioni non penso che ai cittadini che hanno senso dell'ordine rispetto e cura di quanto li circonda faccia piacere constatare quotidianamente a casa loro un disordine tale sì perché la città è di tutti non solo di quelli che lo scrivono sui manifesti elettorali è di tutte le persone che la vivono e di quelle che vengono a visitarla sarebbe meglio sacrificare un po' del tempo prezioso del signor sindaco e si faccia un giro della città a piedi ma dappertutto non solo centro si faccia accompagnare ed anche dall'assessore competente quindi cerchiamo di migliorare la nostra città la ringrazio anticipatamente nella speranza che presto lei provveda a fare un po' di ordine con l'aiuto dei suoi fidati collaboratori grazie altri tendenti riprendo la parola e mi permetto di fare una battuta permettetemi apprendo che il consigliere Sibille che oggi viene alle danze in questo consiglio comunale ha un'idea molto relativa del rispetto delle regole e pare non sia una novità al di là di questo oggi abbiamo ascoltato le linee programmatiche di questa giunta e del sindaco che si appresta a governare la città per i prossimi cinque anni abbiamo letto con attenzione i vostri programmi il vostro programma e non possiamo che constatare che in alcuni punti possiamo assolutamente essere d'accordo come già ha detto il consigliere Somalia ho sentito molti elenchi l'elenco del sindaco l'elenco dei consiglieri l'elenco un elenco c'è una differenza tra quello che tenterò di fare io che l'elenco vostro è quello che voi promettete di fare e che sulla carta ma non esiste ancora lo abbiamo già visto fare l'elenco in questi anni il nostro è un elenco di problemi che ci accomuna proviamo a fare anche un elenco noi il problema delle sicurezza che ha messo molto a cuore del disagio giovanile che sfocia in episodi a tutti ben noti i lavori pubblici eseguiti sommariamente vedi l'elencemento via principi che pare un cruciverba mi piace definirlo vediamo quando abbiamo riempito tutte le caselle che cosa combiniamo che costa alle casse comunali una cifra ragguardevole e il problema naturalmente rimane tutte le mattine passi con la macchina io ci passo andando a lavorare c'è una nuova piastella che balla il mercato coperto fiora all'occhiello dei nostri fruttivendoli dei nostri produttori agricoltori ha ancora delle grandi problematiche nonostante ci abbiamo messo mano le strade i mancati ripristini a Bra capitano mai per ogni cantiere stradale non si capisce il perché quando esistono delle regole ben precise tutto ciò produce buchi dissesti non vengono mai effettuati correttamente e così il celciato cede e poi noi paghiamo naturalmente grandi campagne di asfaltature che se sei fortunato a stare dal marciapiede dalla parte giusta perché in viaggi bigandino se stai sul marciapiede di destra arrivando da bandito non è asfaltato su un marciapiede di sinistra invece sì probabilmente ci sarà una motivazione tecnica io non non so ecco sarà quello che sto dalla parte sbagliata è questo ma non c'è nulla da scherzare rispetto a questa cosa impianti sportivi in 15 anni mai pianificati e ora si corre ai ripari il campo di bandito non l'avevamo già fatto invece siamo ancora qua a mettere la bilancia magari con finanziamenti diversi come sempre stato dall'inizio e i soldi poi non si sono trovati mai ma ormai qui è una storia lunga un ventennio i miei cinque anni sono nulla al confronto del campo di bandito la viabilità vede il nodo della stazione in 15 anni non siete riusciti nemmeno a risolvere il semplice problema dei pedoni ora sento un semaforo un semaforo adesso vedremo cosa tirano fuori un semaforo ho sentito dire sovrappasso sottopasso ci sono miliardi di soluzioni in 15 anni non siamo riusciti a tirare fuori una soluzione plaudisibile e almeno tentare di metterla in atto perché allo stato attuale non c'è nulla solo parole i parcheggi alcuni sono fermi ancora allo stato in cui sono stati consegnati dall'ultima giunta di centro-destra ragazzi il parcheggio dei maschili era stato creato come emergenza non siete riusciti nemmeno a normare le entrate e le uscite dal parcheggio ci sono due cancelli le macchine si fermano in mezzo alla strada perché non riescono ad entrare e uscire quando c'è traffico non siete riusciti a normare nell'entrata e nell'uscita con dei cartelli aprendo l'altro cancello trovare una soluzione cose semplici non ci vogliono i soldi ci vuole il buon senso così potrei andare avanti e proseguire per 15 minuti anzi adesso me ne prenderei 27 visto che a qualcuno sono stati concessi ma è solo per fare qualche esempio in merito alle problematiche di questa città una città che ormai ha raggiunto e poco ci manca 30.000 abitanti che vi ha prestato a governare presentando una giunta per una parte in continuità deleghe fondamentali per l'assetto cittadino detenute da alcuni di voi da più di 15 anni i cui frutti non sono a nostro avviso per nulla entusiasmanti a questi si aggiungono altre affidate dei neofiti della macchina comunale che nella loro esperienza di vita non presentano schizze appropriate alle deleghe che sono state affidate a loro tutto ciò possiamo dire che ci lascia perplessi come possiamo pensare che lei possa realizzare quel libro di sogni partendo da questi presupposti sicuramente le chiedo di rispettare le persone gli interventi vanno bene ma il rispetto delle persone non credo di aver legato nulla sulla no 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 il rispetto delle persone non si è rimesso di rispettoso io non ho detto nulla non ho fatto nomi ho solo parlato di skills sono skills sono vado a documentare che cosa sono consigliere ma ha fatto dei riferimenti tali che le persone nessun nome un riferimento agli skills quando uno viene assunto in un'azienda fornisce skills e curriculum il comune è un'azienda pubblica pubblica quindi richiede delle skills e un curriculum adeguato sicuramente per ciò che riguarda e sono neofiti non me lo può negare perché è la prima volta che li vediamo seduti nelle sedi del consiglio comunale ci sono consiglieri ci sono assessori nuovi consiglieri che hanno deleghe appropriate più o meno e assessori che hanno deleghe appropriate più o meno a nostro avviso posso dire che io non avrei consegnato le deleghe in mano alla chiunque o a chi voglio posso dare un giudizio sono qua per esprimere la mia opinione o la sua sicuramente per ciò che riguarda la continuità non ci aspettiamo volto visto che in questi ultimi cinque anni nulla è cambiato e per le novità di questa giunta stiamo in attesa saranno altri cinque anni di attesa ma non siamo disposti a stare inerti qui ad assistere mentre voi promettete non mantenete quello che è nel vostro programma era già nel programma cinque anni fa e intanto le risorse che dovrebbero rendere la città migliore vengono utilizzate senza una pianificazione attento per Simoniosa perdonateci se non siamo così fiduciosi ma i risultati fino ad ora sono sotto i nostri occhi e una buona fetta di cittadini non approvano il vostro modo di operare vi gireremo senza sconti analizzeremo con attenzione il vostro operato perché siamo stanchi di promesse assistenzialismo zero crescita economica lo chiedono i nostri elettori e sarà nostro dovere non porgere l'altra guancia ad una gestione sommaria e stantia come è venuta fino ad ora perché bra la nostra bra non merita questo grazie soltanto per una questione personale quando lei ha esordito ha detto che io tratto in maniera diversa le varie persone le chiedo di esplicitare chi avrei trattato in maniera diversa i tempi del sindaco devono rispettare i tempi di tutti i consiglieri sia quelli di maggioranza che di misuranza se la consigliera non aveva terminato il suo intervento doveva terminarlo non rispetto come doveva farlo anche Panero perché così è stato fatto con il sindaco siamo tutti uguali in quest'aula o sbaglio? probabilmente sbaglio ripeto il regolamento il regolamento dice quindi però l'intervento del sindaco è sempre stato un intervento più ampio ha chiesto la parola prima il consiglio di testa buonasera riportiamo la discussione nell'ambito degli skills visto che di questo si parla e siccome le mie skills scritte nel curriculum un parlato anche pubblicato recentemente come è stato richiesto riguardo l'ambito sanitario le osservazioni che vorrei muovere a questo programma elettorale presentato dal sindaco vanno in una riflessione sull'ambito di quella che è stata la politica sanitaria della precedente amministrazione e che si riverbera sull'attuale programma che presentiamo e che andiamo a discutere il santo spirito chiamiamolo così non possiamo più chiamarlo ospedale anche se c'è una via dietro che si chiama via ospedale ed effettivamente cambiare il nome della via via casa della salute non avrebbe senso però il santo spirito rimane come struttura all'interno della nostra città fin dal 2020 nel momento in cui a luglio si è compiuto il trasferimento dell'attività strettamente ospedaliere a Verduno scelte della precedente amministrazione hanno consentito non soltanto alle mura di quell'edificio storico ottocentesco ma anche all'intero quartiere di mantenere la vitalità che in realtà non è stata persa rispetto ad esempio alla città viciniore sono state organizzazioni differenti sia per quello che riguarda il trasloco sia per quello che riguarda i movimenti che si sono compiuti verso Verduno ma l'attenzione della precedente amministrazione dettata anche forse dal fatto che all'interno dell'amministrazione ci sono state persone che erano direttamente impegnate all'interno della complessa gestione pandemica e del trasferimento dei locali dentro e fuori dall'ospedale hanno fatto sì che la vitalità del quartiere all'intorno dell'ospedale si sia ben mantenuta di fatti nella zona immediatamente all'intorno del quartiere dal 2020 salvo forse qualche rara eccezione non abbiamo assistito ad una desertificazione come invece purtroppo per ragioni non dipendenti dall'altra amministrazione ma per ragioni di mera logistica si sono verificati per esempio intorno al San Lazzaro di Alba detto ciò questa struttura questo ex ospedale santo spirito chiamiamolo il santo spirito per evitare di fare intendimenti sulle varie terminologie e sui vari contenuti che potranno esserci all'interno assume il ruolo di nuova realtà sanitaria territoriale cosa significa la pandemia e il successivo PNRR ci hanno insegnato che la sanità deve essere sempre di più una sanità di prossimità vale a dire portarsi laddove ci sono i pazienti i malati le famiglie nella loro residenza cercando di limitare al minimo i trasferimenti verso i nosocomi e di limitare al minimo le centralizzazioni ragionare sul ospedale di comunità e sulla casa di comunità che saranno le due entità che unite insieme faranno un nuovo santo spirito ci permette di progettare il futuro della nostra sanità locale con le attenzioni da parte di questa amministrazione nella direzione di una sanità di prossimità diciamolo chiaro e tondo non avvieremo il nostro ospedalino non avremo il nostro nosocomio in città non riavremo l'ospedale questo è una cosa un errore che purtroppo è stato oggetto anche di propaganda a livello sovra locale e sovra regionale perché ospedali di comunità e case di comunità non vanno a costituire quelli che noi conoscevamo fino a un po' di tempo fa i tipici ospedali di ricovero sono dei luoghi di appoggio alla sanità territoriale il che significa che la casa della comunità diventa una sorta di poiambulatorio 2.0 estremamente più evoluto rispetto al classico poiambulatorio dove si va si fa shopping sanitario se ne esce ma si deve avere una presa in carico trasversale di quelle che sono le cronicità dei pazienti dei casi complessi che devono poter accedere con un unico ingresso all'interno dell'ospedale a una serie trasversale di tutte le loro necessità e poi ci sarà anche l'ospedale di comunità in fase di realizzazione ci sono lavori in corso tra i muri del santo spirito che però non sarà una centrale di ricovero come siamo abituati l'ospedale di comunità è un luogo dove si creano dei letti di prossimità a bassa intensità di gestione a volte con la sola gestione infermieristica che permettono nel post ricovero oppure in particolari situazioni di salute di gestire quei casi complessi che non potrebbero essere gestiti direttamente a casa propria e che non vale la pena gestire all'interno di un ospedale grande un po' perché l'intensità di cure non sarebbe appropriata un po' perché distante rispetto alla sede cittadina ovviamente una realtà del genere deve lavorare in strettissima sinergia con quella che è la sanità territoriale che già conosciamo all'interno del santo spirito guardate che non lo chiamo né casa della salute né casa di comunità ma lo considero in quella che è la scatola in quella che è il guscio sono già insediati e andranno potenziati i servizi di sanità familiare la medicina generale la continuità assistenziale guardia medica che si sta evolvendo non sono più gli ultimi 4 medici che fanno quello perché non fanno altro ma c'è un corso di formazione specifico che permette a queste persone di lavorare e di farlo in maniera assolutamente egregia ma poi c'è anche una sanità di territorio una sanità che esce da quelle che sono le classiche mura ospedalieri di studio e va per le strade tra la gente per le strade tra la gente nel quartiere Bescurone è partito da poco l'esperimento dell'infermiere di quartiere dell'assistente sociale di quartiere una sinergia strettissima tra ASL e servizi sociali del nostro comune che portano non in un locale qualsiasi ma in un garage dello IACP dell'Istituto Autonomo Caso e Popolari l'assistenza territoriale portano quella che è la vicinanza dell'istituzione direttamente là dove le persone ci sono questo è un esperimento che è nato da una forte sinergia tra il comune e l'azienda sanitaria e che molto probabilmente costituirà un faro che andrà ad illuminare un metodo di lavoro anche per altre regioni e per altre zone all'interno della nostra regione si parla poi di città cardioprotetta ci abbiamo provato anche in maniera estremamente concreta gratis con lo scorso consiglio comunale dei ragazzi ringrazio il sindaco per avermi di nuovo nominato coordinatore e per aver la possibilità di portare avanti i percorsi che abbiamo fatto a titolo di esperimento questa cosa probabilmente verrà poi un po' più istituzionalizzata ci sono lavori in corso ma ormai è dimostrato anche a livello internazionale che per quanto siano fondamentali i DAE diffusi all'interno della città la vera cardioprotezione si fa con la formazione perché ci sono delle volte in cui le sole mani possono salvare una vita e questa cosa la può fare un bambino la può fare un ragazzino l'investimento sulla cardioprotezione quindi non è soltanto un investimento materiale ma deve essere un investimento culturale che deve essere portato avanti nelle scuole ripeto con la rappresentanza del consiglio dei ragazzi ci abbiamo approvato i risultati sono stati oltre le aspettative al punto tale che questo progetto è stato premiato a livello regionale al punto tale che uno dei nostri consiglieri siede adesso nel consiglio nazionale dei ragazzi e delle ragazze proprio perché la bontà di questo percorso è stata approvata in livelli differenti ma c'è anche di più la prevenzione il movimento fisico la possibilità di sentirsi liberi all'interno delle aree in cui ci si muove trovare una sicurezza che è fatta anche dalla presenza di attività educativa a livello delle nostre strade e a livello dei nostri quartieri non sono gli ennesimi centri educativi gli ennesimi centri giovanili ma chi ha figli adolescenti in questo periodo e parlo come parte in causa ha una strettissima necessità di avere delle risposte ai loro bisogni le cui esigenze non trovano più sovente risposte in quelle che erano le classiche agenzie educative che già conoscevamo per via di trasformazioni che si sono verificate per via che anche gli interessi dei nostri ragazzi sono mutati quindi un benessere sanitario a 360 gradi passa anche attraverso la politica giovanile passa anche attraverso la politica giovanile di strada passa attraverso l'investimento in persone in grado di farsi carico degli altri passa attraverso la presa in carico dell'educazione che il diverso non deve fare paura e come diverso non intendo soltanto quello che ha la pelle di un colore differente ma anche coloro che non si intendono rappresentati negli canonici stereotipi di genere è un tema molto delicato questo non è facile affrontarlo apertamente all'interno di un consiglio comunale o comunque in certi ambiti di discussione pubblica ma bisogna anche rendersi conto che la paura del diverso tante volte è fonte di discriminazione e la salute di un'intera città passa attraverso la capacità di non discriminare alcuno e di accogliere le differenze anche quelle che normalmente vengono bollate con degli insulti prese in giro con degli oggettivi a cui siamo tutti abituati ma che feriscono tante volte più che la spada io credo che questa amministrazione sarà in grado anche di andare in questa direzione le promozioni le ipotesi di lavoro le proposte nell'ambito del sostegno delle nuove generazioni e soprattutto della costituzione di un solido tessuto sociale sono più che evidenti abbiamo visto forti investimenti proposti in ambito scolastico che vengono confermati abbiamo visto la capacità di dedicare all'assistenza al giusto spazio non all'assistenzialismo all'assistenza dare a chi ha bisogno insegnare a condividere quello che si ha che deve essere un percorso anche questo che parte fin dall'infanzia attraversa l'adolescenza arriva all'età adulta e persino quegli anziani che tante volte riescono a guardare soltanto al proprio ambito ma non ad allargare lo sguardo a quello che può essere il loro futuro anche roseo e duraturo cerchiamo di unire insieme tutte queste risorse cerchiamo di farlo seguendo questo programma io credo che la carta che è stata scritta e depositata in formato non solo cartaceo ma anche elettronico non sia soltanto lettera morte ma sia qualcosa che debba rimanere ben presente come guida per quelli che saranno le attività di questa amministrazione a cui sicuramente va il mio applauso principale e che continuo a sostenere apertamente aggiungo ancora una cosa a proposito delle skills perché io nel mio piccolo mi occupo anche un pochino di attività musicale tra l'altro frequento l'istituto musicale Gandino tra l'altro ci ho lavorato parecchio e ho collaborato con diversi insegnanti diverse persone che non all'interno tutto si può dire tranne che l'istituto musicale in questo periodo sia sceso al di sotto della qualità precedente le interazioni strettissime con la fondazione Fossano Musica le interazioni strettissime con i due istituti comprensivi in particolare l'istituto comprensivo Bradue dove con il progetto La musica fa scuola la musica è stata portata da elevatissimi professionisti all'interno delle nostre scuole avvicinando anche i bambini più piccoli all'attività musicale in un modo ancora più morbido rispetto a quello che una volta veniva fatto entro certi ambiti accademici hanno sicuramente portato una formazione dell'istituto a molte sue uscite pubbliche l'abbiamo visto nella coda di quest'estate e ha un desiderio comunque di collaborare sempre di più con la fondazione e con le strutture che essa rappresenta l'istituto musicale si può essere meritevole di spazi migliori ce la faremo ma dire che è andato in decadenza in questi anni non è sicuramente una cosa vera e ne parlo come testimonianza diretta grazie ho chiesto la parola tipo di e mi ha diritto l'annuncia consigliere Patria ancora buonasera e con soddisfazione e orgoglio che andrò a rappresentare in questa sede Fratelli d'Italia che è il primo partito della nazione che sta guidando il governo con il presidente del consiglio Giorgio Meloni e molti ministri tra cui Guido Crosetto ministro della difesa rappresentante simbolo del nostro territorio Fratelli d'Italia come enunciato dall'articolo 2 dello statuto denominato partecipazione promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla formazione dell'indirizzo politico del movimento senza distinzione di sesso etnia religione condizioni personali o sociali per mezzo della partecipazione quindi mia intenzione è lavorare per un partito radicato nella società aperto ai suggerimenti di ogni cittadino braidese allo scopo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e ispirandomi ai principi e alle finalità di Fratelli d'Italia sul piano locale c'è rammarico per non essere usciti a vincere le recenti elezioni amministrative si sarebbe potuta creare in città un'alternativa amministrativa che sarebbe stata per tutti i braidesi utile opportuna e davvero salutare purtroppo dalle nomine di giunta e soprattutto alle assegnazioni di alcune deleghe è evidente che l'attuale amministrazione non sia stata in grado di proporre un rinnovamento che avrebbe giovato a tutta la città per esempio mantenere per un ventennio in capo allo stesso assessore un settore delicato strategico impattante sulla vita dei cittadini come quello dei lavori pubblici sono troppe le situazioni non trasparenti dentro questo comparto che in questa consigliatura rimarcheremo in ogni modo al fine di contribuire a eliminarle inoltre prego inoltre prendo atto oggigiorno delle pronunciate dimissioni della consigliera Sibille dalla carica di vicepresidente del consiglio comunale attendo su questo aspetto di conoscere con curiosità le reali motivazioni di tale decisione sono passati 13 giorni da quando qua abbiamo votato questa nomina anzi mi permetto di fare un'osservazione ulteriore quello che è stato lo slogan della vostra coalizione insieme sembra di essere durato poco aveva avuto vita breve perché dopo 13 giorni c'è già un cambiamento repentino che ad oggi è ingiustificato questo slogan comunque all'evidenza vi ha premiato perché anche se avete accolto insieme alla vostra coalizione anche alcuni componenti che notoriamente sono stati di destra su questo aspetto mi permetto di rilevare che evidentemente si tratta di esponenti che apparentemente erano di destra grazie a questo slogan inclusivo avete vinto le elezioni noi siamo alla nuova posizione l'impegno sarà costante nel rappresentare le istanze di chi mi ha dato fiducia attraverso un'opposizione al vostro operato che sarà corretta sempre sui temi proponendo alternative ma assolutamente ricorose senza sconti al fine di far emergere le tante contraddizioni che hanno caratterizzato le vostre amministrazioni negli ultimi anni cito titolo di esempio la mancata risoluzione del problema del passaggio a livello il dietro fronto sulla costruzione della scuola nell'area dell'ex calomerci il grave problema dell'insicurezza con una città oramai trasformata in teatro per episodi di violenza di ogni genere non più tollerabili sicurezza ma non solo viabilità lavori pubblici ambiente imprese attività produttive interventi e sossegno delle famiglie iniziative per i giovani eventi e manifestazioni cultura turismo e sport questi saranno i settori gli argomenti su cui mi concentro maggiormente insieme ai colleghi di minoranza venendo alle linee programmatiche di governo non possono notare la carenza di azioni o di progetti in relazioni in particolare ad alcune tematiche il tema di famiglia secondo quanto voi avete riportato a pagina 8 la famiglia rappresenta la principale cito agenzia di socializzazione io ritengo che la famiglia non sia un'agenzia ma sia ancora quella che l'articolo 29 della costituzione va a enunciare come società naturale fondata sul matrimonio non intendo soffermarmi su quella che è la diversa visione che possiamo avere in tema di famiglia solo un accenno dato che recentemente da un articolo della stampa sono venuto a conoscenza di una nuova realtà che è chiamata Casa Pride ritengo che se si realizzasse un progetto del genere Bra toccherebbe quelli che potrebbero essere uno dei punti più bassi della sua storia su tale aspetto il richiamo è doveroso tenuto conto che l'articolo viene accompagnato dalla fotografia di un vostro assessore e che tra le richieste di questa comunità ci sarebbe anche l'organizzazione avrà di una parata del Pride su questa impellente richiesta non intendo esprimare giudizi ma sono invece curioso di sapere quali tipi di interventi avete in mente per la famiglia tradizionale sempre leggendo il vostro manifesto di governo si legge che vi impegnerete a supportare le esigenze materiali dei diversi nuclei familiari offrendo sollievo anche in situazioni di emergenza tramite l'ufficio di prossimità sono sincero mi sarei aspettato una qualche tipo di misura volta a alleggerire in concreto quelli che sono i costi che gravano sulle famiglie questo è un aspetto che io personalmente ho trattato durante la campagna elettorale e su cui sono particolarmente preoccupato perché a discapito di quello che è stato detto oggi che le tariffe saranno invariate nel corso dei prossimi anni staremo a vedere negli ultimi 5 anni invece così non è stato perché abbiamo assistito ad alcuni incrementi il costo dell'asilo nido può arrivare fino a 600 euro e il servizio mensa ha avuto incrementi in alcuni casi fino al 15% questi sono dei dati i dati sono oggettivi non solo ma quello che preoccupa di questi dati è che sono dati eccessivi prezzi eccessivi rispetto agli stipendi medi e non sono proporzionati a quelli che sono stati i livelli di inflazione che sono stati giustificati in occasione di alcune serate di presentazione dell'asilo nido cui lo stesso è presente voglio mantenere quindi quelle che sono state le mie parole e dal mio punto di vista il mio impegno sarà quello di verificare la possibilità di trovare delle soluzioni per poter contenere con tutte le misure possibili i costi dei servizi che incidono sulle famiglie su questo aspetto un cenno sempre in tema di asili nidi va fatto al merito che va riconosciuto al Presidente della Regione il Governatore Cirio che in concerto con l'operato dell'assessore regionale al lavoro di istruzione Elena Chiorino di Fratelli d'Italia con un finanziamento di circa 2 milioni di euro sta per finanziare il prolungamento degli orari a parità di tariffa ora sempre per rimanere in tema di risorse pubbliche che vengono erogate agli enti superiori finanziamenti fondi bandi di cui si è già anche parlato apro anch'io una breve parentesi su quella che è la gestione a mio modo di vedere paradossale del movicentro e dell'ex mattatoio questo perché il movicentro in 15 anni è inutile negarlo è stato semiabbandonato in campagna elettorale e adesso sono sincero non so se anche nelle linee di governo avete promesso l'istituzione di un centro di aggregazione giovanile oggi ho sentito delle nuove versioni sulla destinazione di questo edificio sempre in campagna elettorale probabilmente a seguito di nostre sollecitazioni avete anche fatto notare che il movicentro è in presito gratuito dalle ferrovie come accennato anche prima dal consigliere Somaglia il problema è che le spese comunque sono a carico dei braidesi quindi le spese di questa struttura sono a carico di cittadini braidesi giustamente come è stato rimarcato in campagna elettorale la proprietà delle ferrovie e lo sanno con cento incomodato che è un prestito gratuito alla città di Bra il problema è che la città di Bra oggi è una struttura che non è utilizzata nonostante il potenziale che potrebbe avere sostiene le spese e un domani le ferrovie quando vorranno riprendersela ringraziando i cittadini braidesi che avranno pagato di tasca propria per una struttura che non è loro ritorno al paragone col mattatoio l'ex mattatoio anche qui questo è un progetto di 3 milioni e mezzo di euro non so esattamente quelli che sono gli importi mi sono chiesto alla luce di quella che è la situazione del Movicentro se fosse necessario questo tipo di investimento secondo la mia opinione quelli che sono i fondi del PNRR e giustamente sono stati utilizzati dalla scorsa amministrazione potevano comunque essere investiti in progetti più ambiziosi ma non perché l'ex mattatoio non debba avere un alcun tipo di considerazione ma perché come dicevo prima il Movicentro a poche centinaia di metri potrebbe avere la stessa destinazione questo fermo restando che ogni volta che viene espressa una parola su questi tipi di strutture la destinazione paresse è sempre diversa ora anche qui in campagna elettorale vi siete trincerati dietro ai soliti discorsi ma l'ex mattatoio sì che è stato finanziato i fondi del PNRR ma una minima parte comunque è stata pagata di cittadini barilesi e anche qui le spese di gestione comunque rimarranno a carico della cittadinanza in tema di sicurezza solo un paio di accenni anche a quelle che sono le vostre linee programmatiche sotto un primo aspetto voi dite che con le forze dell'ordine promettete testualmente faremo in modo che nelle e qua addirittura ingrassettato zone calde come la stazione ferroviaria ci sia una presenza H24 con rotazione del personale questo nei 27 minuti precedenti non è stato sentito ma è scritto in queste 30-40 pagine io ho solo una domanda sono anche qui sono curioso di capire quando verrà mantenuta questa promessa di questo presidio permanente e ripeto 24 ore su 24 in base a quello che voi avete scritto e che state promettendo in relazione invece a quella che è la richiesta di apertura di un commissariato di polizia mi è giunta voce dall'istituzione forse mentre il signor sindaco era in ferie che si siano già interfacciate con esponenti della minoranza anche su questo aspetto io vorrei sperare che la nostra città non perda questo tipo di occasione non solo sempre in tema di sicurezza noi cercheremo di fare un qualcosa in più rispetto a una sollecitazione interna del consiglio comunale ci andremo ad operare attraverso le nostre relazioni con gli enti superiori perché gli esponenti del governo nazionale e regionale possono e potranno essere di sostegno alle iniziative dell'amministrazione comunale quindi noi siamo ben aperti a sfruttare quello che può essere il collegamento tra il livello comunale e i livelli superiori in conclusione la nostra conclusione la nostra coalizione è compatta e determinata mi auguro di poter collaborare con i colleghi di minoranza serenamente seriamente per arrivare preparati organizzati alla fine di questa consigliatura perché il nostro obiettivo è e sarà quello di poter garantire un cambiamento e poter liberare la città da quello che è oramai da un ventennio una continuità di fatto grazie chiedo di poter intervenire come consigliere comunale credo che siano state dette alcune questioni relative al nostro programma e alle alle caratteristiche che hanno contraddistinto la formazione del nostro della nostra maggioranza quindi della giunta eccetera siano state espressi dei giudizi che sono giudizi totalmente offensivi e totalmente inadeguati li stiamo monitorando con il cronometro certo stiamo tranquillo intanto viene comunque registrato detto questo credo che nessuno possa permettersi in questa sede di dire che chi comincia non ha gli skill eccetera ricordo che il consigliere Somalia iniziò a fare il consigliere nel 95 la fece l'assessore non avendo fatto un'ora il consigliere così campi così almeno tre quattro altri ma la sottoscritta aveva fatto il consigliere prima ma si trovò a fare il vice sindaco e Marco Elena cominciò a far fare senza esperienza da consigliare credo che credo che l'elenco è molto lungo e può riguardare sia esponenti di uno schieramento come esponenti di un altro però altra cosa è dire che vi è una scelta e questa scelta ha le caratteristiche di un lavoro che è unitario che porterà secondo me dei risultati molto importanti per le caratteristiche che hanno contraddistinto la campagna elettorale che abbiamo fatto insieme e che insieme ci ha permesso di dire ai cittadini che le nostre proposte erano per mille voti migliori delle vostre tanto che abbiamo vinto le elezioni allora sulla base di questo credo che il consigliere Patria forse debba un attimo rivedere anche perché dal suo punto di vista dal punto di vista professionale ha sicuramente delle competenze che parlare del di un assessore e dire che questo assessore non ha elementi di trasparenza non è trasparente allora lo ha detto è registrato allora lei deve dire quando dove e perché perché questo aspetto è molto molto grave e il mio intervento iniziale aveva un'unica finalità che era quella di finire la campagna elettorale è avviare e avviare un lavoro che permettesse la continuità ognuno nelle proprie dai propri ruoli e occupando occupandosi per carità ho fatto anni di opposizione quindi so benissimo che possono esserci momenti di confronto anche duro e serrato ma dal confronto duro alla mancanza di rispetto ce ne passa allora permettetemi di dire che questa maggioranza andrà valutata al termine del suo mandato dopodiché voi avete tutta la possibilità di fare le sollecitazioni e soprattutto avete credo è un dovere quello di nell'interesse della collettività se avete delle opportunità di usarle per ottenere dei risultati ad esempio rispetto alla questione del comando di polizia insomma del commissariato di polizia benvengano sollecitazioni che siano a 360 gradi ma non si non si tolgano i metri al sindaco che si è mosso ben prima e quando prima di questa campagna elettorale per affrontare questa problematica per cui insomma del commissariato si parla dal momento in cui è stata tolta la questione della polizia ferroviaria e quindi da allora si parla di questo elemento per cui credo che sia necessario magari c'è anche un clima che è particolarmente caldo e quindi induce ad un surriscaldamento negli interventi ma nell'intento di riportare quello che è sui giusti binari la discussione invito tutti a riflettere bene su che cosa sta dicendo prima di intervenire e invito anche a leggere l'articolo 78 del questo riguarda i consiglieri che hanno trovato a ridire su questione dei tempi a rileggere con attenzione l'articolo 78 discussione e norme generali perché se si legge questo si capisce perché magari qualcuno può avere il sindaco può avere un intervento più ampio rispetto a quello dei 15 minuti allora all'ora al minuto 20 ho allora detto questo ho sollecitato il sindaco ad andare verso le conclusioni e sapevo benissimo che aveva ancora delle cose da dire non va bene così va bene se si ha un confronto franco ma non si è preso in giro e quindi detto questo non ho nulla da aggiungere credo che chi ha avuto orecchie per intendere ha inteso molto molto bene Amalia hai l'altro intervento sulla parte amministrativa adesso si cominciamo a parlare di di Ci siamo tenuti al fatto, i consiglieri si sono permessi perché ad inizio della discussione è stato detto che gli interventi erano di 15 minuti. Poi per quanto mi riguarda il sindaco può parlare anche tre ore, poi magari dopo mezz'ora non lo ascolta più nessuno, però può parlare anche tre ore a norma, articolo 38 del regolamento, che io mi sono un po' rinfrescato anche stasera, siccome ho fatto il presidente del consiglio comunale qualche anno fa e sono già un po' anziano, lo ricordo. Quindi, se vogliamo anche andare a vedere cosa abbiamo detto in apertura del consiglio, tutta questa diatribe, questa discussione sterile, viene fuori dal fatto che in apertura del consiglio ci è stato detto che gli interventi erano di 15 minuti. Ripeto, i consiglieri che sono intervenuti, che hanno chiesto il rispetto di questa regola, l'hanno chiesta per tutti, perché poi se andiamo a leggere l'articolo 78, sono d'accordo con lei che il proponente può intervenire anche per 10 ore. Poi dormiamo tutti, quando ci risvegliamo interveniamo noi, ma torno a dire che in apertura del consiglio comunale è stato detto che gli interventi erano di 15 minuti, poi abbiamo sbagliato noi perché dovremmo conoscere bene il regolamento, ma dovrebbe anche conoscere bene chi dirige la sessione di lavori. Grazie. C'è qualcuno che ha chiesto la parola? Sarò estremamente sintetico, ho ascoltato attentamente come faccio sempre tutti gli interventi. Prima di tutto qua dobbiamo tornare un attimo indietro perché ci dobbiamo ricordare di essere delle persone libere. Siamo qui appunto perché libere di dire, di fare e di assumersi le responsabilità di ogni gesto, atteggiamento, parola detta. Ma siamo liberi di farlo rispettando gli interlocutori, ma poter dire il proprio parere, la propria idea. E se c'è qualche idea che voi non condividete, va bene così, ma qui è il luogo adatto, giusto, per far sì che i rappresentanti della città possano, in maniera regolamentata, regolamentata, condividere delle opinioni, fare delle proposte, rispettando le regole. Io chiedo tra questi banchi perché la cosa più grave che ho ascoltato questa sera non è tanto il modo con cui ha trattato di competenze la consigliere Amossino, esprimendole in inglese. Ma qui la cosa più grave è che oggi sta presiedendo il consiglio comunale un soggetto che ritiene che all'interno del consiglio comunale non siamo tutti uguali. Occhio! Siamo tutti uguali. E non possiamo pensare che a cambio di presidenza cambino le regole. Le regole possono essere cambiate se unanimamente questo consiglio, durante la seduta, decide che si possono cambiare. Qui non c'è nessuno sopra le regole. Qui non c'è nessuno che si può prendere la sua posizione e dettar legge anche a far parlare o meno il sindaco o suonare il campanello mentre parla il sindaco per portarsi verso la conclusione del discorso. No! Non è possibile! Appunto perché ho ascoltato dal presidente l'articolo che precedentemente durante la premessa di questa assemblea ha dichiarato qualcosa che era semplicemente errato. Si poteva chiudere semplicemente la questione con Oh cavolo, ho sbagliato, scusatemi, è colpa mia. Finita! Siamo esseri umani, si può sbagliare. Per tornare al discorso della parte riguardante il programma amministrativo non mi voglio più dilungare. Tutti quanti hanno trattato questo tema da tanti punti di vista da tante con le proprie visioni con le proprie convinzioni io mi limito a dire questo vi prego prendete delle scelte andate avanti portatele avanti perché ho ascoltato attentamente anche l'intervento di un consigliere in cui parlava di lavori pubblici in cui dichiarava che i cambi le modifiche costanti sono alla base di uno sviluppo no, 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 no le modifiche costanti mettono in difficoltà le persone perché le modifiche costanti sui lavori pubblici sulla viabilità mettono in difficoltà gli artigiani che lavorano le persone che ogni mattina aprono la propria serranda per lavorare aspettando i clienti perché magari non trovano il parcheggio no, 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 no qua bisogna prendere decisioni che siano decisioni prese una volta prese con lungimiranza e non cambi repentini questo è già avvenuto questo è il cambio di passo che spero in questa amministrazione e che speravo di poter portare avanti se le elezioni fossero state il risultato fosse stato diverso e ci fosse stato vincitore il centrodestra basta far perdere tempo alla città soldi e opportunità e l'entusiasmo che ho ascoltato io come sempre sono molto franco concreto libro che parla di cose estremamente importanti ma vi prego consiglieri ad uno ad uno di uscire da questo consiglio comunale e guardare lo stato del porfido della nostra città vi prego ogni consigliere comunale di andare su marciapiede e verificare lo stato nei marciapiedi della nostra città vi prego ogni consigliere comunale di andare nelle strade della nostra città verificarne lo stato e verificare lo stato del verde pubblico della nostra città. Questo vi invito a fare, le cose più semplici. Poi per tutto il resto ci penserà la programmazione, ci penserà la lungimiranza, ma ci penseranno delle scelte lungimiranti, che come ho sempre detto in ogni consiglio, non si insumerà mai una scelta lungimirante se non sarà condivisa da tutto il consiglio comunale, perché se il consiglio comunale e questa città vuole far qualcosa, non la farà la sua amministrazione, caro Fogliato, magari la farà l'amministrazione successiva, perché una decisione presa, assunta magari dieci anni fa, vedasi il parcheggio di via Vittorio Veneto, progettato e finanziato da un'amministrazione di chissà quanti anni, portata a termine poi da questa. L'Italia purtroppo è così. E quindi, e chiudo, quando rileggo, ascolto l'entusiasmo, i progetti, i programmi, altro che felicità. Mi viene un po' l'ansia e anche un po' di tristezza, ma vi auguro un buon lavoro. Da questa parte qui ci sarà una posizione assolutamente ferma, assolutamente dura. Ci sarà completamente una collaborazione sincera, per cose estremamente importanti. ma vi ricordo questo. Alla base, perché quello di stasera, quello che è avvenuto stasera, ci deve far riflettere su tre parole che dovrà portare avanti l'amministrazione e tutti noi dobbiamo andare a portare avanti. Meritocrazia, uguaglianza di opportunità e libertà. Noi, queste, dovrebbero essere gli obiettivi di quel programma, di quelle linee programmatiche che questo Consiglio, questa sera, voterà. Certamente non col mio voto favorevole. Grazie. Grazie, Vice Presidente. Buonasera, Signor Sindaco, Signore Assessori e ai colleghi consiglieri. Dopo tante polemiche vorrei, con questo intervento, tornare un attimo all'analisi del programma presentato dal Sindaco. Il Sindaco stesso ha più volte segnalato, come interprete di suo ruolo, nell'ottica di un duplice obiettivo, conciliare lo sviluppo economico della città con il non lasciare indietro nessuno. Vorrei estendere questo concetto a un tema che risulta particolarmente attuale se si analizza la situazione di altre città, ovvero la necessità di far convivere la crescita economica, compreso lo sviluppo turistico, con la possibilità di mantenere la città a misura dei suoi abitanti e, anzi, di migliorare costantemente la vivibilità della città stessa. Questo approccio, oserei dire, che permea un po' l'intero programma. Porto adesso alcuni esempi spaziando tra i vari temi. Come doloroso parto dallo sviluppo economico e dal sostegno al lavoro, che ritengo essere basi fondanti di una comunità viva. Insieme a tutte le misure di agevoluzione delle attività economiche che negli anni si sono sempre portate avanti, si porrà sempre attenzione alla qualità e alla stabilità del lavoro creato, puntando sempre più a incentivare chi si impegnerà nella direzione di creare lavoro stabile e di attività ambientalmente virtuosa. Abbiamo sentito prima citare l'ambiente come il tema del futuro e mi sento di condividerlo al 100%. Sempre parlando di gestione del territorio, parlando invece di gestione del territorio e quindi anche di urbanistica, è esplicitamente annunciato nel programma come continueremo, come già negli anni passati, a dare tutto il supporto possibile alle richieste di tutte quelle imprese che vogliano ingrandirsi o localizzarsi in città. Con la stessa celerità che ha contraddistinto il lavoro degli ultimi 5 anni e che chi era nella commissione urbanistica può testimoniare. Questo però non impedisce di continuare a perseguire una politica di riduzione del consumo di suolo che già nella passata consigliatura ha avuto atto, con le varie varianti che ci sono state, la superficie comunale non destinata alle costruzioni aumentata e in aumento delle aree verdi a servizio della cittadinanza. Rimango sulla gestione della città e parlo dell'approccio alle riqualificazioni urbane, che da sempre si sono orientate a creare un ambiente favorevole alle attività produttive e qui parlo in modo particolare delle attività commerciali. Nello stesso tempo però hanno portato a una città che è sempre più vivibile, accessibile e a misura di famiglia e di cittadino. Si inseriscono in questo approccio tutti i vari interventi di miglioramento e di istituzioni delle ZTL, in particolare nel centro, che negli ultimi anni hanno trasformato BRA, rendendola molto più a misura dei suoi abitanti e dei visitatori. Parlando appunto dei visitatori, passo al tema del turismo, che da diverse persone in questa serata, questo pomeriggio, in questa serata, è stato citato come una delle possibilità di sviluppo economico per la nostra città. Mi sento di dire che è corretto quello che sentivo prima, l'approccio che legava il turismo alle manifestazioni, perché le manifestazioni sono state negli anni passati un importante traino all'attività turistica. Turismo ed eventi sono diventati negli anni, essi confermeranno nel futuro il nucleo importante dell'economia cittadina. Sarà però importante porre particolare attenzione affinché questo non determini la trasformazione della città in una semplice attrazione. BRA deve rimanere la città dei suoi cittadini, caratterizzando la sua attrattività sulle sue peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e non gastronomiche. Più che di un turismo di qualità, come si sente dire in certi casi, che è un termine che spesso indica soli turisti con alta capacità di spesa, preferirei parlare di attrazione di un turismo consapevole, che è basato su ciò che di bello e reale è il territorio da offrire a chi ha la volontà e il desiderio di vederlo. Concludo questa analisi con un tema che spesso non viene considerato quando si parla di politiche economiche, ma che invece ritengo sia fondamentale, ed è quello dei servizi educativi e alle famiglie. Un'ampia di offerta dal nido, che è oggetto di un ulteriore ampliamento, una mensa comunale di assoluta qualità, dei servizi educativi gestiti con serietà ed efficienza, non sono solo supporti sociali e familiari, ma permettono ai genitori e lavoratori di dedicarsi a pieno alle proprie attività, liberando le energie il più possibile, e forniscono anche un notevole supporto educativo, cosa assolutamente non trascurabile. E anche su questi temi l'intento, come si dice chiaramente dal programma presentato, è di mantenere e migliorare sempre di più la qualità e l'offerta del servizio. Ho scelto di evidenziare in questa breve analisi la trasversalità del programma amministrativo per dimostrare come l'approccio dell'amministrazione sarà improntata una visione complessiva della città. Non si ragionerà mai per singoli compartimenti stagni. E soprattutto per chiarire come l'attenzione sia fortemente indirizzata a incentivare la crescita economica, facendo in modo che questa ricada in modo positivo sul territorio e sui suoi abitanti, migliorando l'ambiente cittadino, la sua fruibilità e i servizi che può offrire. In conclusione mi sento in dovere di segnalare una cosa. Ho sentito diversi interventi dire che nulla avrai cambiato in 15 anni e mi sono chiesto, viviamo nella stessa città? Perché Brano sarà una città perfetta, nessuna città è perfetta. Ma una cosa è criticare singoli interventi e approcci, cosa assolutamente legittima e oserei dire anche utile perché si può sempre migliorare. Un'altra è dire che la città è ferma da 15 anni o è in mano alla criminalità. Ora, solo la mancanza di obiettività o, spero non sia così, la malafede possono determinare queste affermazioni massimaliste. Peraltro oserei segnalare che la maggioranza di cittadini non è d'accordo con queste affermazioni. Grazie. Se nessuno chiede la parola, direi al sindaco se vuole farla l'epica. No, ho dato uno sguardo e ho visto che nessuno ha alzato la mano. Grazie Presidente. Grazie per i vostri interventi. Spero di non aver fatto addormentare nessuno in un intervento. Non credo di aver parlato né per tre, quattro ore, di aver addirittura di essere stato più corto quando presento il bilancio. Ero consapevole di quanto del contenuto del regolamento che ha il relatore, che può essere il sindaco, può essere anche un'altra persona da questa possibilità. E pertanto credo che esporre in venti e qualche minuto un programma di 34 pagine che scende nel taglio per la nostra città sia di rispettare la sala in cui siamo e l'intelligenza di tutti su questo aspetto. Altra cosa, ho fatto alcune riflessioni, dato che ho 15 minuti, perché questo sì che è contingentato questo intervento, devo rispettarlo, perciò non scendo in tanti dettagli. Sempre con rispetto di tutti, se non guardassi il calendario, guardassi le date, eccetera, sentendo alcuni interventi, direi siamo a tre anni da che la gestura è partita e stiamo discutendo di un bilancio previsionale o bilancio consuntivo. Ma siamo a un mese esatto dalle elezioni, dove il mio di noi ha sottoposto all'attenzione dei cittadini, all'intelligenza dei nostri concittadini, due programmi, e noi abbiamo anche sottoposto quello che è stato l'ITA di cinque anni, se c'è stato l'impegno o se non c'è stato l'impegno, se siamo venuti meno a certe cose o se invece con fatica abbiamo portato avanti, poi eventi e via dicendo ci hanno anche impedito di raggiungere certe cose. Bene, senza nessuno sanna, senza niente, ma sempre rispettando l'intelligenza dei cittadini, a un mese di c'è, mille cittadini hanno ritenuto che, valido il programma, hanno ritenuto che la città non è poi così morta, la città ha una sua vitalità, l'operato di cinque anni ha dato una sua vitalità e certamente bisogna ampliarla, potenziarla e il programma proposto può andare in quell'ottica, anche perché nessuno di noi ha bleffato. Nel momento in cui si andava nei vari incontri illustravamo ciò che ho illustrato questa sera. Abbiamo consegnato le famose 34 pagine e cercheremo di realizzare quello, ma, come ho già sempre detto, è una città in continuo cambiamento ed è nostro dovere seguire il cambiamento della città e pertanto adattare il programma ha delle esigenze che possono venire per i nostri concittadini. Accendo su alcuni aspetti, è vero, nel programma ci sono delle cose in comune, ci sono, ma perché viviamo tutti nella stessa città e garantisco che in cinque anni ho fatto il sindaco a tempo pieno e continuo a farlo il sindaco a tempo pieno e in cinque anni ho girato dappertutto e continuerò a girare. Perciò mi rendo conto dei problemi, poi alcuni si possono risolvere, altri di segnalo, non si possono risolvere immediatamente, ma vivo pienamente la città come l'ho vissuta in cinque anni e penso che gli elettori questo me l'hanno riconosciuto, rispettando sempre le persone. È vero, su grandi temi credo che sia un rapporto fra maggioranza e minoranza lavorare insieme. Non è un'ottima cosa, non è un aspetto da ridicolizzare o altre cose. Non mi sto riferendo perché non era la cosa, mi sto riferendo un'altra, no, assolutamente perché essendo lì ho riferito certamente per ragionare insieme ed è questo l'aspetto, perché è importante, nel momento in cui ragioniamo per la città e per i cittadini a 360 gradi, sui grandi temi è giusto lavorare insieme e nessuno si metterà la medaglia perché ha realizzato qualcosa senza riconosce l'altro. Io in campagna elettorale, se qualcuno è venuto a sentire gli interventi che nelle frazioni e nei quartieri, ho sempre riconosciuto che il fatto che siamo riusciti ad avere dei finanziamenti e dei contributi sul nostro territorio è grazie anche alla grande collaborazione con gli enti superiori. Ero il primo a riconoscerlo, perché questo è la chiarezza. Come ho sempre però specificato e non sempre, e l'ho toccato con mano anche stasera negli interventi, che si è corretti quando si parla di fondi PNRR, dei bandi e delle destinazioni. Perché uno può anche dire, e l'ho ripetuto, non essere d'accordo, può anche dire io quei soldi li avrei rifiutati e restituiti allo Stato, ma non si può dire che li potevo destinare a qualos'altro, perché era vietato dalla norma, era vietato dalla norma, con scritto proprio nel regolamento del PNRR, in base a quello che ci hanno finanziato. Oppure non sono uscito dei bandi, parlo per l'aspetto viario o altre cose, proprio perché chi ha approfondito il PNRR sa bene che ci c'erano delle linee guida. e su quelli, su bandi specifici, i bandi li abbiamo analizzati tutti e tutto dove si poteva abbiamo partecipato, al punto che enti superiori, anche con amministrazioni diverse dalla nostra, ci hanno riconosciuto che BRA ha avuto una bella assegnazione, di un'importante assegnazione di fondi PNRR, perché è stata molto attenta. Poi grazie purtroppo al vostro governo ne paghiamo le conseguenze in questo momento, perché abbiamo dei tagli per la carta corrente, 120.000 euro, 110-120.000 euro, che ci hanno chiesto dove è pesato anche i fondi PNRR. Questo lo trovo molto strano, solo perché siamo stati in grado e bravi di farci finanziare i progetti. Per rispettare i tempi ho detto, salto tutto il resto, ma su due cose vorrei intervenire. Credo, abbiamo avuto recentemente, recentemente verso la fase finale della legislatura, il premio. Siamo uno dei pochi comuni della provincia di Cugno e anche pochi della regione Piemonte, città comune amico della famiglia. Ma non perché abbiamo messo pacca sulla spalla alle famiglie, ma perché c'erano dei parametri ben precisi per cui abbiamo avuto questo riconoscimento. Ed è frutto di un intenso lavoro portato avanti negli anni. Perché quando si parla di politiche familiari comunali, si parlano dei servizi che si mettono a disposizione delle famiglie, tutti migliorabili. E si guarda anche, se si vuole essere onesti, perché i numeri sono un dato oggettivo, abbiamo avuto un unico anno che c'è stato l'aumento delle tariffe. 3% per il nido è il massimo differenziato, il 10% per l'aspetto materna, primaria, media, per quanto riguarda il cibo. È un dato oggettivo. Ma a fronte di quello parliamo di un aumento che spazia dal 40 al 70% dei costi. Vuol dire che tutto il resto è stato spesato sul bilancio, non è un dato sulle tariffe. Questo è un dato oggettivo. E altro dato oggettivo, non so chi di voi parlava del discorso nido e poi anche il discorso della gestione, utenze, eccetera. Vuol dire anche dare delle priorità. Come diversi comuni, da quasi totalità dei grandi comuni, vi è una lista d'attesa. Noi abbiamo fatto una scelta prioritaria di partecipare al bando PNRR per far scendere la lista d'attesa. E con i 30 nuovi alunni che andranno, verrà quasi del tutto azzerata. Ma non l'abbiamo fatto in modo così campato in aria. Sappiamo bene che comporta delle spese. Sappiamo bene che ci sono delle spese sia di gestione per quanto riguarda chi si accudisce i bambini e gestione per quanto riguarda le utenze. Perché ci siamo fatti promotori insieme ai comuni del Roero, della più grande cera del Piemonte, se non fosse dell'Italia? Perché abbiamo vinto e investito dei fondi del PNRR per scendere nei consumi energetici? Proprio per questo. Perché riteniamo importante andare incontro ai servizi alle famiglie, ma monitorando e mettendo già da parte un ragionamento sui costi. va allo stesso discorso del Movicentro. Nel momento in cui lo andiamo a rendere vivibile e pieno di iniziative, perché ci vengono dalla città, dall'incontro che abbiamo fatto con i giovani, ma siamo andati in tale direzione dopo, grazie alla Regione Piemonte, non ho vergogna di dirlo, grazie alla Regione Piemonte per il suo, in cui ci ha accolto anche la riqualificazione impiantistica del Movicentro. Allora sì, perché diventa una gestione sostenibile. E allora siamo andati con la valorizzazione. Negli ultimi tre minuti è questo. Io ritengo che non ho chiesto curriculum a nessuno. Il curriculum di chi siede qui, dei candidati, è la storia, è la storia di impegno per la città, l'impegno civico, queste cose qui, che fanno di una persona degna di essere consigliere comunale e degna di essere assessore. E' l'impegno che ci mettono tutti i giorni con grande trasparenza, con grande professionalità, con grande impegno di tempo, con rinunce, anche dal punto di vista familiare, economico, eccetera, per operare a tempo pieno per la città. Grazie. Io vorrei subito chiarire, signor Sindaco, forse stasera non ci capiamo bene. Io non ho assolutamente detto che mi sarei addormentato. L'ho solo detto che la sua discussione, se durava dieci ore, mi sarei addormentato come tutti. Quindi, siccome stemperiamo anche un po' gli animi e il fatto che stasera in questa sala ci siano molti neofiti, e a volte può, così, far fraintendere quelle che sono le reali intenzioni delle proprie idee. Comunque, detto questo, e questo volevo chiarirlo con lei, perché mi è dispiaciuto sentire da lei quelle parole, che ci saremmo addormentati, cose che io assolutamente non ho detto, perché normalmente quando parlo cerco di riflettere su cosa dico e lei sa benissimo che ci sono anche dei ruoli delle parti. Lei è dal 1995 che è seduto in questo Consiglio, io ho iniziato in quegli anni lì, ho avuto l'assenza degli ultimi cinque anni, ma un po' di esperienza l'ho avuta. E sa benissimo che a regole diversi, alcune cose magari in maniera diversa, sono, non dico più o meno le stesse cose, ma le cose che diciamo. La stessa cosa per quanto riguarda l'asilo nido, lei è molto attento ai conti, sicuramente ce l'avrebbe fatto rimarcare che ci sarebbero un aumento delle spese, ma spese che ben vengano. Io sono d'accordissimo su quell'opera, come ero invece poco d'accordo sull'altra opera finanziata dal PNRR, che è l'ex mattatoio, e continuo a dirlo, perché giustamente siamo in libertà, ognuno può dire quello che vuole nel limite del linguaggio e del lessico confacente alla sala in cui ci troviamo. Per mancanza di tempo volevo ancora aggiungere due cose per quanto riguarda le linee guida di amministrazione, per quanto riguarda lo sport, e il fatto di dire che ci sono gli assezioni neofiti, non lo vedo uno scandalo, io l'altra volta l'ho detto, sono stato il primo a dirlo, e sono stato anche il primo a dire che invece valuteremo sui risultati, e sui risultati il tempo ci dirà se chi ha assunto determinate competenze è stato all'altezza o meno di svolgere un determinato ruolo, tranquillamente. Però non trovo neanche assolutamente offensivo il fatto, io non sapevo neanche qual sia il significato di quella parola skill, sono andato a leggermela, sono competenze, uno può avere competenze in ambito sportivo, può non averle, può avere delle competenze in ambito ambientale, l'assessore le ha, perché so che svolge un'attività di questo tipo, e vedremo nella propria attività amministrativa se le competenze maturate con la propria professione saranno confacenti all'attività amministrativa e andranno a risolvere quei problemi di cui parlavamo prima, abbiamo parlato in tanti, ok. Torniamo allo sport, allora la realtà, la pratica dello sport svolge un ruolo fondamentale nel definire il nostro stile di vita, contribuendo al mantenimento e al miglioramento della salute, trasmettendo in pertari valori educativi e sociali, ho estrapolato queste due righe dal mio programma elettorale, lo sport è sicuramente uno dei settori che più mi sta a cuore, sia perché ho praticato lo sport qualche anno fa, sia perché ho fatto per tanti anni il dirigente sportivo, e qui vengo poi al mio intervento, perché occorre mettere in pratica una reale politica dello sport e per lo sport, e significa affrontare quotidianamente le problematiche che hanno le associazioni, le società sportive, che permettono ai nostri ragazzi di svolgere attività sportiva, e lo dicevo prima, per il bene fisico, ma anche per un risvolto sociale molto, molto importante, che è quello, in parole povere, di togliere dei ragazzi dalla strada e fare frequentare le palestre, i campi sportivi, che per fortuna a Brano mancano. Ovviamente non possiamo mai stare fermi, quindi seppur noi ci vantiamo che a livello provinciale abbiamo, forse anche regionale, l'impiantistica sportiva di un certo rilievo, come dicevo prima, non possiamo mai stare fermi, ma dobbiamo proseguire, dobbiamo mettere mano alla manutenzione, lo abbiamo detto su alcuni impianti, al palazzetto dello sport, occorrono, a mio avviso, alcune nuove realizzazioni. Qualcuno prima ricordava il Palmares delle nostre società sportive che svolgono hockey, Bra è una capitale a livello nazionale e internazionale dell'hockey, a nostro avviso, io l'ho messo in programma elettorale, quella zona richiederebbe una struttura coperta che permetterebbe anche di risolvere, io non so se l'assessore ha già affrontato il tema della palestra, non lo farà nel prossimo settimane, non ti invidio, non ti invidio, l'ho fatto per alcuni anni in una situazione peggiore rispetto a quella che adesso, l'ha fatto anche la consigliere Sibille, e non è semplicissimo, anzi è molto difficile trovare la soluzione per tutti. quindi vi auguro che l'amministrazione faccia una politica reale dello sport che metta in atto delle iniziative che possano portare a lavorare in sinergia con le aziende locali, perché ahimè senza l'aspetto economico e il reperimento di risorse da nessuna parte le società sportive vanno, quindi mi auguro come dicevo che l'assessorato dello sport sia sinergico con le attività produttive braidesi e che consentano di reperire delle risorse, come dicevo, molto importanti, anche perché queste consentirebbero anche di sgravare quelle famiglie che ahimè non hanno la possibilità di avere i fondi per pagare le rette mensili che giustamente le associazioni sportive fanno pagare a chi le frequenta, perché i costi sono veramente tanti, al di là degli impianti, anche del personale, per pagare gli allenatori, gli accompagnatori, eccetera, eccetera, eccetera. Un'altra necessità è quella di interagire con la scuola affinché all'interno della scuola ci sia un'attività sinergica che consenta di promozionare, intanto di fare sport a chi normalmente non lo fa, soprattutto in età scolare, ma anche per avviare la pratica sportiva, diciamo, agonistica, chi ha bisogno, anche per motivi di salute, di farlo. Ho finito? Ho finito? Chi vuole la parola? Chi vuole la parola? Adoro. Grazie. Sì, volevo partire da un primo aspetto per chiarire bene una cosa che ho detto nel mio intervento quando mi riferivo al musicale Gandino, perché correttezza è dire le cose anche con rispetto, ma anche non prendere le cose dette da un'altra persona e dargli la sua assoluta interpretazione in maniera errata. Quando mi riferivo al museo Gandino riguardato il mio intervento, bene, come è stato anche confermato, mi riferivo alla necessità di spazi più idonei e non assolutamente in nessun modo, ma più volte purtroppo l'Istituto Gandino, purtroppo più volte anche nel passato, ogni volta che un consigliere parla da questi banchi e esprime qualche criticità, gli viene sempre riversato. Io nulla ho detto sull'operato dell'Istituto Museo Gandino, ma assolutamente mi riferivo alla necessità, anche confermata tra l'altro, anche assolutamente confermata di necessità di spazi più idoni. Veramente, prima non l'ho detto anche per mancanza di tempo, una sensibilizzazione, signor Sindaco, sulla tecnologia, sulla digitizzazione degli archivi, anche perché, di nuovo per caso, di nuovo tutta la sera che l'online del Consiglio Comunale non funziona, io capisco che lei, mi perdoni, non voglio offenderla, si definisce lei, non avvezzo alle tecnologie, ma visto che assolutamente sono importanti, andiamo in questa direzione, un'attenzione particolare a quelle che sono le tecnologie, molto utili, perché solo nel primo Consiglio Comunale abbiamo trovato la sala ultrapiena, magari stasera qualcuno avrebbe avuto piacere di vedere queste accese discussioni da casa, e purtroppo non è riuscito a farlo. Tornando velocemente all'aspetto principale, quello che più mi lascia perpesso, e continuo a sentire ripetere, la migliaia di voti di differenza, ma nessuno ha fatto una considerazione sul 38% delle persone che non sono andate a votare, nel 2019 sono andate a votare i 16.500, quindi vuol dire che in questi 5 anni, che siamo a 14.000, più di 2.000 persone si sono disaffezionati a quella che è l'amministrazione della città, quindi se contiamo più di 6.000 persone che hanno sostenuto la nostra campagna, e credo che, è una mia interpretazione, parecchie di queste persone che sono andate a votare non l'abbiano assolutamente fatto, con un segno di distacco, e quindi penso non assolutamente così coinvolti e favorevoli a quello che stava succedendo in città, bene, i conti sono presto fatti. Per quanto riguarda invece l'aspetto PNRR, il PNRR al suo interno presentava 6 missioni, digitalizzazione e cultura, rivalutazione verde, transizione ecologica, infrastrutture, istruzione, coesione e inclusione, salute, cioè, possibile che in tutti questi capitoli, che veramente prevedono un po' tutto quello che si poteva fare, ci continuiamo a sentire a ripetere che solo quello si poteva fare, sono scelte politiche, uno deve difendere le proprie scelte politiche, perché sono stati presentati questi progetti, ma con questo tipo di missioni, con l'ampiezza di tutto quello che sono queste missioni, sicuramente, e qui torno all'aspetto delle priorità, dell'idea di priorità e di quelle che sono le esigenze della nostra città, sicuramente poterono essere risolti altre problematiche, secondo noi e secondo me prioritarie. Bene, sono contento stasera di sapere che io ho un vostro governo, quindi io ho un governo, lei ha il suo, da lista civica mi premo assolutamente continuare a sottolineare quello che è l'aspetto civico e l'importanza di quello che è la componente civica nell'amministrazione della città. Tutto questo premesso ci tengo a sottolineare come siamo a un mese dalle elezioni, sì, ma noi continuiamo a considerare che siamo in una continuità amministrativa, come più volte è stato detto, che dura ormai da 15 anni, e noi purtroppo non ci crediamo più. Non ci crediamo più le cose che vengono dette e scritte, perché troppo tempo, troppo volte ci siamo sentiti ripetere e ribadire e riportare le stesse cose. Secondo noi i problemi importanti, fondamentali della nostra città non sono stati risolti, le vere priorità della nostra città non sono state affrontate e quindi in maniera assolutamente convinta non possiamo sostenere questo programma di governo. C'è qualcuno che chiede la parola per replica? Allora, problemi non risolti, certo ce ne sono tanti e siamo qua per cercare di amministrarli e provare anche a rispondere, ma parliamo di problemi importanti e ci è stato detto di girare per bra a testa bassa, guardando dai nostri piedi, porfido, verdi, asfalti, quindi problemi grossi non è guardare in faccia le persone, negli occhi le persone, parlare con loro e cercare di capire quali sono i temi umani. Andiamo in giro con gli occhi bassi. Allora, anche sui lavori pubblici, Assessore, è vero che la sua parte, diciamo così, è stata quella più importante per quanto riguarda il PNRR e credo che la sua amministrazione e soprattutto gli uffici che hanno lavorato con lei meritino più rispetto, meritino il riconoscimento non soltanto per come sono stati bravi a prendere i bandi, ma anche per come stanno portando avanti con serietà, trasparenza e velocità i lavori, che cambiano la parte della nostra città, certo. Noi non siamo fermi, non siamo statici, noi siamo in evoluzione, siamo propositivi, abbiamo anche delle visioni, forse non tutto si riesce a risolvere nei cinque anni, perché non lavoriamo per le elezioni successive, non lavoriamo per prendere dei voti successivamente, lavoriamo perché siamo delle persone serie, che hanno delle visioni, che vogliono migliorare la vita delle nostre città. Ma devo riconoscere che il PNRR è stato acquisito anche in tanti altri progetti, uno di questi è anche la digitalizzazione. Abbiamo avuto dei finanziamenti anche in altri ambiti e forse sarà occasione nelle commissioni di informare i colleghi che magari non ne sono stati ancora informati o che non hanno preso atto di quello che si è fatto. 36% di disaffezione politica, e credo che la gente ne abbia ben ragione a questo punto, se invece di parlare con rispetto e di cose concrete che interessano le persone, lavoriamo su un gioco delle parti e con discussioni che non sempre sono così edificanti come meriterebbero i nostri cittadini. Farei un invito al consigliere che si preoccupa, diciamo così, di quello che sono le iniziative che mettiamo in atto per la famiglia, che è definito tradizionale come un termine che mi permetto di considerare un po' anacronistico, perché in effetti la famiglia non è soltanto quella che si crea con un matrimonio davanti a un sacerdote ormai, quindi direi che la definizione è un po' superata. Lo inviterei proprio a partecipare dalle linee della consulta, perché comunque la controparte, non la minoanza, sarà presente con un suo consigliere, per cui sarebbe interessante così capire dall'interno come si lavora e come si procede e così diamo direttamente una risposta senza stare lì a fare tante discussioni adesso. Io ho sentito con piacere però che ci sono state anche delle proposte positive, assolutamente sì, condivisibili, e quindi mi fa piacere sentire che da una parte, insomma, da una parte della minoranza c'è il desiderio di suggerire, non soltanto criticare l'operato, cercando di delegittimare quello che si fa, ma ci sono delle buone prospettive, insomma, per lavorare insieme, una di queste è sicuramente l'ambito della sicurezza, che mi trova assolutamente d'accordo, ma poi anche sulla digitalizzazione, insomma, sulla implementazione delle tecnologie, eccetera. Quindi ho sentito negli interventi, in due interventi in particolare, delle proposte interessanti. Ci sono poi però dei mantra che si ripetono e che continuo a sentirli ormai da dieci anni, quindi veramente così, un po' sterile come discussione, perché non si va da nessuna parte. Avrei finito soltanto nel dire che per quanto riguarda l'intervento urbanistico che è stato citato. Io credo che anche il consigliere che ne faceva parte come presidenza possa testimoniare che si è sempre lavorato per venire incontro alle imprese con tutte le volte che sono state chieste le modifiche. Grazie. Ecco, chiedo scusa per... Allora, no, solo una breve precisazione. Ho avuto modo di scambiare due parole adesso con Amato e con Checco che adesso non è più presente. Cioè, quelle che sono le nostre considerazioni sono considerazioni politiche sul programma, ma non su quello che è l'impegno delle persone o sulla capacità o sul fatto che le persone siano o non siano degne di coprire certi ruoli. Questo solo per specificare. Se io attacco una scelta sul PNNR che 3-4 milioni di euro vadano investiti in una struttura a un chilometro o un'altra che la stessa finalità per me sono soldi buttati. Poi giustamente mi replicate no, perché quel tipo di bando era un bando specifico per cui siamo d'accordo, tutti consapevoli. Adesso non ricordo esattamente quelli che fossero requisiti del bando fosse ora per supportare qualcosa di disagio e degrado. Ecco, però su quello che era il fondamento del bando il problema non è del ah, potevo solo fare quel bando quindi quel tipo di bando mi poteva permettere se vogliamo no, il mio discorso è molto banale è se si partecipa a un bando per fare una determinata cosa è ovvio che i soldi vengono erogati per quella determinata cosa ma questo non significa che io sto facendo un attacco personale faccio l'esempio è stato detto forse non so se da me da un collega l'invito il sindaco a vedere le arbacce o a presenziare su quelle che sono determinate attività dei quartieri e frazioni nessuno mette in dubbio che il sindaco non stia facendo il suo ruolo con impegno tutt'altro però giustamente nel nostro ruolo c'è ci sono tante cose da dover vedere noi portiamo l'attenzione del sindaco e della giunta ad esempio il problema dell'erbacce o il problema che determinate strade non sono ben mantenute altri esempi sulla questione della famiglia vabbè c'è stato riferimento al comune amico della famiglia e su quelli che sono i percentuali diciamo dei vari aumenti ho capito che il nido io ho fatto un doppio parametro il costo del nido come misura fissa arriva a quasi 600 euro i servizi hanno avuto un aumento percentuale ho capito che la replica è ah il nido è solo il 3% ma se si arriva a un pagamento di nido di circa 600 euro una famiglia normale media fa fatica a portare un bambino al nido sotto altro aspetto sempre parlando di nido dato che poi è stato citato siamo ben favorevoli ben contenti che ci sia stato l'ampliamento del nido con il terrore 30 posti che consente alle famiglie non portare i bambini a Roreto piuttosto che a Carasco questo lo riconosciamo ma non è un riconoscimento o un attacco alla persona è un tipo di considerazione su quello che è un programma che politico è e politico deve rimanere ultima cidigna su quelle che è stato riferimento ai candidati nessuno dice ah voglio vedere il curriculum dei candidati dell'assessore o comunque di chi è stato nominato per determinate deleghe il punto non è che una persona è non degna di ricoprire un determinato ruolo è una determinata persona magari non ha l'esperienza per ricoprire una determinata carica o eventualmente per occuparsi di una determinata questione se io fossi assessore ai lavori pubblici io non saprei che cosa fare perché non sono un tecnico e se dall'altra parte voi come opposizione dite fate i lavori pubblici che cosa avete fatto sarò ben consapevole con voi perché fate i lavori pubblici non è un tecnico sul tema grazie non avrei più voluto intervenire ma è così allora un po' di chiarezza perché veramente a me spiace se qualche consigliere di maggioranza è stufo o comunque diciamo di ascoltare i mantra alcuni mantra che per ogni consiglio comunale parte dei consiglieri di minoranza esprimono durante le sedute ma spieghiamoli questi mantra perché secondo me non sono ancora chiari allora dire che i soldi del PNRR i 3 milioni e mezzo potessero essere spesi solo ed esclusivamente su l'ex mattatoio è vero ma subito dopo bisogna spiegare un'altra cosa che per un consigliere che vive la città e magari è già in consiglio e ha già visto una continuità amministrativa perché comprendiamo tutti e lo spiego per continuare a parlare a rivolgervi ai neoeletti e quindi mi rivolgo anch'io a loro perché così almeno magari raccontiamo una storia delle storie della città che sono poi storia vera nel momento in cui se quello è vero è anche vero il fatto che nel momento in cui amministro la città per tanti anni siccome per il PNRR dovevo avere dei progetti cantierabili c'erano dei progetti che cosa fa che cosa deve fare un'amministrazione che cosa è giusto che faccia un'amministrazione progettare avere dei progetti nel cassetto e quindi continuare l'opera di progettazione per verificare durante il corso del tempo se vi escono appunto le bandi su cui posizionare quel determinato progetto la nostra semplice domanda se è vera la vostra risposta che potevate usare soltanto i soldi lì è sempre stata possibile possibile che in 15 anni 12 anni scusate perché per essere chiari voi di progetto cantierabile per la città che potesse entrare in tutte quelle missioni del PNRR era soltanto l'ex mattatoio cioè mi domando questo è questa è la domanda che noi ci siamo posti e che abbiamo posto e sto ponendo a tutto il consiglio quindi ormai questa scelta è presa ma noi non toglieteci almeno l'opportunità di dire che quello è sarà diciamo un intervento che costerà molto per le casse pubbliche ma costerà molto per essere sostenuto mantenuto e quant'altro permettetecelo permettetecelo queste sono verità se per altre questioni i progetti erano pronti su altre tipologie di progettualità non ce ne erano e quindi abbiamo ripescato o siamo stati ripescati per un progetto che era per un altro bando che era un bando governativo statale che si chiamava bando periferia assolutamente sì sindaco questo è quanto quindi voi potete dire quello che ma l'abbiamo vissuto anche noi il consiglio comunale e poi chiudo vi domando e chiudo qui mi scusco grazie presidente a immaginatevi poi è bello da consiglieri oltre mentre si cammina e si guarda agli occhi della gente ogni tanto si guarda anche in basso ma bisogna anche guardarsi attorno allora si va al centro per l'impiego e vediamo quanto è grosso poi andiamo al csv e vediamo quanto è grosso i locali sto parlando di locali e nel frattempo vado al centro famiglia e servizi sociali e vedo quanto è grosso vedo quanto può servire la grandezza della banda musicale e vedo quanto potrebbe servire per un locale per il comitato di quartiere ecco se voi fate il conto di tutte quelle persone che lavorano all'interno e fate i metri quadri prendete i metri quadri dell'ex mattatoio che verrà riqualificato verificate verificate se la struttura lente città di Bra comune città di Bra necessita di un complesso così ampio per metterci questi enti quindi occhio a quello che si dice e permetteteci di dirci che noi non siamo completamente in disaccordo con l'ex mattatoio noi siamo in disaccordo per averne spesi 3 milioni e mezzo e aver fatto un progetto gigantesco perché noi a sostegno del comitato di Bescurone noi sapevamo che c'era una necessità a sostegno di altre sapevamo che c'erano delle necessità tanto che quel progetto se dobbiamo anche essere sinceri prevedeva anche tante altre cose tra cui anche un ristorante lo spiego perché per essere in maniera molto molto chiari e poi col corso del tempo ci sono stati anche dei nostri contributi per far sì che ci fossero delle riflessioni per evitare ancora di più altre criticità e poi si è concluso così vi ringrazio scusate se non sono stato nel tempo credo di poter intervenire come consigliere comunale perché siccome ho ben presente la storia di questo di questa di questo progetto allora è bene che le questioni siano riportate nell'albero giusto questo progetto è stato presentato nel bando periferie alcuni anni fa diversi anni fa e il governo protempore di cui noi facevamo parte quindi devo dire di cui noi noi la mia parte politica faceva parte ha valutato di non finanziare questo progetto ma di finanziare più progetti di comuni dissestati a volte anche due o tre comuni dissestati perché in condizioni al sud o in condizioni particolari eccetera eccetera detto questo lì c'era una situazione del tutto particolare di alto livello di pericolosità sociale che aveva indotto a fare una progettazione per riqualificare quella periferia allora sulla base di questo non siamo stati finanziati dopodiché non avevamo i fondi per poter affrontare questo questo progetto quando è uscito il PNR ci è stato chiesto volete che questo progetto che avete presentato sia finanziato ovviamente con qualche modifica possibile ma ce l'hanno girato sul PNR hanno preso questa cosa l'hanno girata sul PNR ci sono i tecnici e ci sono le lettere che lo dimostrano proprio per coprire le spese perché voi avete fatto le vostre sollecitazioni ma questa amministrazione ha abbastanza un senso di quanto si spende eccetera abbiamo valutato che fosse necessario inserire all'interno di quel progetto una serie di servizi tra l'altro che sono estesi a tutta la collettività non soltanto al quartiere in oggetto e che tra l'altro apporteranno delle persone anche di fuori perché chi va all'ufficio al CSV piuttosto che all'ufficio del lavoro eccetera allora la cosa è solo che sia per chiarezza perché altrimenti parrebbe che noi ad un certo punto abbiamo deciso che il PNR ci siamo inventati ci hanno detto quel progetto che voi avete e quindi nel cassetto questa amministrazione questa amministrazione ha diversi progetti nel cassetto uno dei quali era quello e ci è stato chiesto se se volevamo cambiarlo e modificarlo e poi e farlo diventare PNR ci sono un mio ultimo intervento per alcune precisazioni ho premesso che non ritengo di aver mancato di rispetto a nessuno e se qualcuno si è sentito chiamato in causa porto anche la mia esperienza anche io sono arrivata in questo consiglio comunale completamente di giuna di tutto quello che era l'attività amministrativa ritengo che in questi cinque anni purtroppo magari non piacerò a tutti ma in questi cinque anni mi sono impegnata ho profuso il mio tempo rinunciando anche alle mie cose personali per il consiglio comunale e il fatto che io sia nuovamente in consiglio comunale è l'esempio che forse qualcosa in questi cinque anni a qualcosa la mia attività è servita sono un po' stufa di essere bacchettata e vi faccio sorridere ricordando il consigliere Milazzo che ci faceva sempre da mamma e tutte le volte che c'erano queste discussioni ci riprendeva però vedo che non mancano le anche io sono mamma quando uno porta rispetto sicuramente il rispetto lo riceve e quando qualcuno la pensa diversamente da te non necessariamente la pensa in modo sbagliato grazie sono per dichiarazione di voto ovviamente non potrà vedermi d'accordo sono per dichiarazione di voto sì sì certo e aggiungo solo una cosa se poi nelle prossime commissioni ci fate poi vedere tutti i progetti che avete nel cassetto appena detto che avete tanti progetti nel cassetto se li fate vedere vedo guardiamo ben volentieri grazie posso mettere in votazione dichiarare la presenza ci siamo tutti possiamo votare grazie abbiamo votato fuori Sono 10 voti favorevoli e 6 contrari. La delibera numero 5 è stata approvata. È necessaria la via? Non è necessaria la via. Molti saluti a tutti, buona serata. Grazie. 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 Grazie.